Buonasera a tutti, saluto i consiglieri presenti, gli assessori, il sindaco. Passo la parola al segretario per l'appello. Di Stefano, Bonato, Cagliani, Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi, Hamdi, Maderloni, Milazzo, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini. Presente, Pogliaghi, Ricupero, Romano, Turolla, Balsecchi, Vincelli, 23 presenti. Aiosa, agli assessori, Fiorino, Lamiranda, Lanzoni, Nisco, Paterna, Pizzocchera. Abbiamo il numero legale, possiamo procedere, ci alziamo in piedi per Rino Nazionale. Aiosa, Agli-Moleta, Lanzoni, yah, pan succeedse. Ma hace diversi, di erato, di erato, di erato, di erato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Approfittiamo anche per fare le più sentite condoglianze all'ex sindaco Monica Chittò per la recente scomparsa della mamma, la signora Damiale. Ci alziamo in piedi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Distruggi tutto. Grazie a tutti. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcun altro che si vuole prenotare per l'intervento sulla delibera? Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per fare un intervento sul DUP dopo un minuto di silenzio e la poesia che ha letto la consigliera Milazzo stona un po', però ci tocca andare avanti con i nostri lavori. Allora, stasera ci viene sottoposta questa proposta di delibera che il Sindaco ha detto che abbiamo abbondantemente spiegato in Commissione Comunale, io sull'abbondantemente qualche perplessità ce l'ho. E' una delibera che prevede una variazione al DUP, sezione operativa prima parte, in riferimento a delibera di giunta numero 91, che ha modificato la struttura organizzativa, compresi gli eventi sportivi e comunicazione che vengono sottratti al settore cultura e biblioteca. E poi la sezione operativa seconda parte PTO, piano triennale delle opere, per integrare la programmazione dei lavori pubblici relativi all'intervento di manutenzione straordinaria ex anagrafe per la realizzazione sportello polifunzionale e una variazione di bilancio per maggiori e minori entrati. La delibera è un po' complessa anche se l'importo è minimo. Io colpevolmente digiuno di qualsiasi conoscenza mi sono presentato in Commissione, non avevo letto le delibere, fiducioso di trovare lì non tutte, ma buona parte delle informazioni necessarie ad esercitare in modo consapevole il mio ruolo di consigliere. E in Commissione mi è stato detto che ci sono maggiori entrati per 8.000 euro, che da A2A risulta un più 50.000, un vai vieni di 50.000 perché è strattasi di partita di giro, ci sono più 20.000 euro da lampade votive, 37.000 in più dalla refezione, poi abbiamo maggiori spese di 47.000 euro per la disabilità, 141.000 euro per assistenza educativa disabili, 94.000 quote ad abaco e 52.000 per spese e sistemazioni locali in sublocazione. Ciò determina pertanto l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto dell'esercizio 2022 nella misura di, la cifra che ha ricordato il Sindaco, 288.970,62 da applicare al bilancio di previsione 2023-2025. 5 domande. Questa è quanto ci è stato comunicato in Commissione e più o meno nella modalità in cui ve l'ho riferita. Ho fatto fatica a prendere nota, spero di aver preso nota in modo corretto. Ora, a parte la mia ammissione di colpa grave nell'essermi presentato in Commissione, senza purtroppo aver letto la delibera, ritengo che la presentazione della stessa non mi ha aiutato a capire la delibera. Quando andavo a scuola, ormai diversi anni fa, i miei mi dicevano spesso di stare molto attento, stai attento a scuola, perché se segui bene la lezione del professore, avrei fatto poi meno fatica a capire il testo. Infatti, il professore non si limitava a leggere il testo, ma integrava la lettura con parole sue e riflessioni aggiuntive che aiutavano me, studente, a comprendere bene l'argomento di cui si trattava. Mi sono capitati anche professori che si limitavano a leggere, ma ho sempre pensato che in quel caso il professore non si era sufficientemente preparato. E allora utilizzava il libro, il testo. Oppure non aveva capito bene neanche lui quel che stava leggendo e non sapeva usare parole sue per spiegarmelo. Io l'altra sera in Commissione ho fatto la stessa riflessione di allora, perché il compito del consigliere non è tanto verificare che il totale corrisponda alla somma dei singoli importi. Questa è una roba che compete agli uffici tecnici o ai revisori dei conti. Ma saper leggere attraverso le cifre, sapere perché ci sono 50.000 euro che vanno e vengono da A2A, perché 20.000 in più per le lampade votive. E tra l'altro, visto l'importo esiguo delle lampade, non so se ci sono cittadini insolventi, se così fosse sono tanti, perché 20.000 euro, se la lampada votiva costa 19 euro, sono tantissime. Perché 37.000 in più dalla riflessione? Ma le famiglie faticano a pagare? Perché abbiamo speso 47.000 in più per la disabilità, 147.000 per l'assistenza educativa a disabili, e così via cantando. Se il relatore facesse accompagnare le cifre con parole sue e con note esplicative, io sarei un consigliere più consapevole. Le cifre in più o in meno di un bilancio, di una variazione di bilancio, sono sempre delle istantanee che ci comunicano la situazione economica, sociale dei nostri cittadini, lo stato di salute della nostra comunità. Io, guardi, Presidente, signor Sindaco, io sono sia nella prima commissione che nella seconda, e la presentazione delle delibere avviene in modo completamente diverso. In una, il modo è un po' ingessato e privo di tante informazioni utili. Nell'altra, il testo è molto meglio argomentato e oggetto di approfondimenti da parte del relatore. Stessa giunta, stessa maggioranza, due modalità diverse, è meglio la seconda. Io per questo faccio fatica a votare in modo consapevole questa delibera. Grazie. Grazie a lei. C'è qualche altro consigliere che vuole prenotarsi? A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Città in Comune, consigliere Pagani. Grazie. Grazie, Presidente. Io ammiro la fiducia con la quale il consigliere Pagliani è intervenuto. Io in realtà su questo sono abbastanza più sfiduciata, forse perché di molte cose abbiamo discusso in commissione, grandi cambiamenti non se ne vedono. Sulla dichiarazione di voto, sposando la linea, che però non è che la sposo, è anche un po' la nostra, di città in comune e il nostro voto sarà un voto contrario. Reventiamo sesto, consigliere Amdi. Funziona? Buonasera. Le ragioni sono le stesse, perché, ma anche per la condivisione del materiale, Presidente, lei lo sa, in capigruppo tutte le volte noi ci ritroviamo a chiedere che il materiale venga condiviso per tempo, va bene, vengono rispettati, vengono rispettati al limite, solo in questa occasione ci tenete a rispettare il regolamento, viene consegnato nei termini, ma sempre al limite, perché come più volte ribadito, noi tutti siamo consiglieri comunali, sì, siamo consiglieri comunali, ma non è la nostra professione unica questa, abbiamo altro, abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia, abbiamo del tempo da dedicare ad altro, lo facciamo con passione, è vero, però dobbiamo anche essere messi nelle condizioni di poter lavorare bene. Stessa cosa vale per me, sono temi tecnici, sono delibere tecniche, non avere gli strumenti a disposizione per tempo e in commissione non riuscire ad avere gli approfondimenti necessari, purtroppo ci mette nelle condizioni di non poter approfondire, capire, comprendere in maniera assoluta tutte le tematiche, quindi anche per noi il voto sarà contrario. Grazie. Lega Salvini Premier, Consigli Rapini. Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Forza Italia, Consigliera Cupido. Grazie Presidente, mi permetto una battuta al Consigliere Cagliani. La mia mamma mi ha sempre insegnato che se si sta attenti a scuola per la metà è fatta, però mi ha anche insegnato che le domande nascono dopo che uno ha letto e studiato approfonditamente, quindi il nostro voto è favorevole. Partito Democratico, Consigliere Maderloni. Contrari. Gruppo Misto, Consigliere Vincelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi moderati del gruppo Misto siamo favorevoli e mi associo a quello che la mia collega Giulia Cupido ha riferito al Consigliere Cagliani. Grazie. Amiamo sesto, Consigliere Molteni. Grazie Presidente, buonasera a tutti, a chi è presente e a chi ci sta seguendo in remoto e dal pubblico. Il nostro voto è favorevole, grazie. Fratelli d'Italia, Consigliere Turolla. Grazie Presidente, non sto qui a ripetere quello che ha già spiegato bene la mia collega Cupido, quindi dico solo che il nostro voto sarà favorevole. Di Stefano Sindaco, Consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente, premesso che il nostro voto è favorevole, due parole. In questo caso le impiego, nel senso che fa molto piacere, fa anche sorridere, anche se spesso mi viene contestato il fatto che sia stato fatto un brevissimo riassunto, ragionato di quanto compreso durante la Commissione. Probabilmente tutte quelle domande erano utili farle in Commissione nel momento in cui non fosse stato chiaro. In ogni caso mi sembra che ci sia una gran confusione, nel senso che senza dare lezioni a nessuno si è mischiato gli extra entrati positivi con per esempio le spese aggiuntive, facendo un po' un mischione e non andando al punto sulla delibera, che è molto chiara per come è scritta e riporta banalmente quello a cui sono dovuti questi 288 mila euro che siamo chiamati a provare questa sera e qual è la motivazione di modifica del DUP rispetto a questo. Non c'entra molto tutto il contorno di cui si è parlato fino ad ora. Grazie. Grazie a tutti. Procedo con l'apertura della votazione. Potete votare. Abbiamo 23 voti validi su 23, 16 voti favorevoli, 7 contrari, la delibera viene approvata. Riapro la votazione per l'immediata eseguibilità. Abbiamo 23 voti validi su 23, di cui 16 favorevoli e 7 contrari, dichiaro la delibera immediatamente esecutiva. Possiamo passare al punto 2, all'ordine del giorno. Pro Aris SRL in liquidazione, assegnazione agevolata beni ai soci ai sensi della legge di bilancio 2023, numero 197-2022, articolo 1,104. Passo la parola al sindaco per la presentazione. Ok, grazie. Allora, anche questa è stata affrontata in commissione. Sono state risposte le domande da parte dei commissari che chiedevano informazioni al riguardo. Praticamente stiamo dando corso a quella che era la delibera approvata nell'aprile del 21, di messa in liquidazione della società Pro Aris, detenuta per il 40% dal comune di Sesto, del 60% da 2A, la quale era proprietaria di un scambiatore di calore che è stato dismesso con il piano industriale che sempre in quest'Aula abbiamo approvato di demolizione del vecchio inceneritore, realizzazione della biopiattaforma presso il depuratore Manin. Dall'atto della Costituzione ad oggi poi la parte patrimoniale è quella che interessa a questa amministrazione nell'atto di chiusura della società, dove abbiamo espresso un interesse come comune di ritornare in possesso delle aree esattamente quelle relative all'area Marelli del Catasto Terreni e Foglio numero 48, 23 e 24 di complessivi 6.462 m2 e la seconda area, quella del depuratore Manin, di complessivi 4.550 m2. la perizia eseguita dal liquidatore pervenuta in data 11 ottobre del 2023 indica un valore rispetto a quello iniziale da parte del comune di Sesto di 2.233.000 euro, la differenza rispetto al valore del patrimonio è di 116.670 euro che è l'importo che andremo poi con questa delibera a riconoscere per procedere con la chiusura dell'azienda. Quindi proponiamo al Consiglio Comunale di approvare per quanto di competenza in misura di indirizzo le modalità di riparto indicate nella proposta di assegnazione agevolata beni ai soci della società Proaris in liquidazione, di assentire all'operazione di assegnazione in favore del comune di Sesto San Giovanni delle seguenti aree, aree Marelli e aree depuratore indicate in delibera in maniera più corretta con il censimento catastale di autorizzare il sindaco suo delegato a sottoscrivere l'atto notarile conseguente all'operazione definita in delibere di dare atto che i terreni oggetto di assegnazione a seguito dell'atto notarile saranno iscritti all'interno del patrimonio immobiliare del comune di Sesto. Grazie. Ha legato anche il parere del Collegio dei Revisori favorevoli. Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione e vi chiedo appunto di prenotarvi. Passo la parola al Consigliere Turolla. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Volgio al termine con questa delibera diciamo un percorso che si prolunga ormai dal scorso mandato di questa giunta, di questa amministrazione ancora prima che io come molti altri entrassimo qui in Consiglio Comunale quindi per questo direi che è doveroso un ringraziamento ai protagonisti di questa operazione. Quello che voglio sottolineare è l'importanza della restituzione di questi terreni non solo come valore intrinseco che hanno ma anche per la possibilità che ci offrono uno di questi due terreni appunto la possibilità che ci offre per completare il secondo lotto della ciclabile che collegherà diciamo fino scusate che permetterà il collegamento con la ciclabile della Martesana chi ha provato come me a raggiungere la ciclabile della Martesana sa benissimo che insomma il percorso è un po' ostico riuscire ad avere un percorso privilegiato in qualche modo attraverso la nostra città e di facile accesso direi che è una buona opera e anche un bel vantaggio per chi usa la bici se non quotidianamente anche sporadicamente grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Maderloni grazie buonasera a tutti presidente sindaco assessori consiglieri chi ci segue dal vivo e chi ci segue da casa ringrazio anche il consigliere Turolla che giustamente ha ricordato che questo percorso parte da lontano credo che parta un pochettino più lontano dalla scorsa legislatura perché la società nacque qualche anno prima con una funzione specifica e l'ultima giunta a Chittò quando lanciò l'idea della biopiattaforma diede in qualche modo un'indicazione di quale sarebbe stato il destino di Proaris quindi mi ritrovo nuovamente a ribadire che il tempo è galantuomo e riconosci i meriti di chi amministra bene e soprattutto lo fa con una visione una visione dove gli strumenti che l'amministrazione può mettere in campo una volta raggiunto il loro scopo è giusto che ne ritrovino un altro e Proaris in questo caso ci dà la possibilità come ha detto giustamente il consigliere Turolla di dare una nuova prospettiva a due terreni che si trovano sulla nostra città uno è già ben definito ed è il prolungamento di una ciclabile il secondo invece che sarà da definire anche se è indicata la destinazione a verde pubblico ora l'obiettivo a questo punto è ormai giunto alla fine di questo percorso però continuare a ragionare su quelli che saranno i risvolti di questa opportunità quindi da uno scambio termico che era l'obiettivo la finalità della società noi dobbiamo pensare come città di sesto come comunità a come trarre esempio da questa lezione da questa opportunità di riutilizzare per il bene comune degli spazi e ridarli alla collettività con una fruizione che possa essere in qualche modo un valore aggiunto e non solo una opportunità di riavere un terreno e su questo credo che la sfida che noi chiediamo all'amministrazione è quella di confrontarsi rispetto anche al quadro di governo del territorio che si è data sul quale noi non condividiamo le linee di indirizzo politico di confrontarsi rispetto a quello spazio nel contesto del P.I. Marelli che è un contesto molto complesso molto articolato e che grazie a questo ritorno quando poi effettivamente si concluderà l'iter e il comune tornerà duvamente in possesso si possa anche da lì ripartire e riqualificare una zona della città che è sicuramente se avete presente la zona perché parliamo delle zone dietro ma mi correga poi l'assessore la Miranda se sbaglio dietro via Ladison per andare verso in prospettiva da via Ladison verso quello che è il cimitero monumentale vecchio adesso non ricordo se la via che c'è dietro ha un nome ma quella zona è una zona soggetta a importanti progetti quindi anticipo qua quello che poi diremo come partito democratico nella dichiarazione di voto e cioè che voteremo a favore di questa conclusione di percorso del raggiungimento dello scopo che è stato dato a Proaris e del fatto che possa essere un esempio di come raggiunto un obiettivo se ne possano dare altri per il bene della città grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Pogliaghi grazie presidente buonasera a tutti di nuovo ancora una parola ma proprio velocissima completamento di quanto già detto dai colleghi qui in aula oltre alla come dire rifinalizzazione di quanto come dire rilasciato dalla chiusura di Proaris che è avvenuta dopo molto tempo perché la burocrazia purtroppo ha chiudere queste società partecipate è lunga mi preme ricordare anche il fatto che questa società era una società che aveva un altro scopo a suo tempo e era finalizzata sia allo scambio di calore ma era finalizzata a progetti più ampi sulle aree falc dopodiché tant'è vero che normalmente uno non crea una società per comprare uno scambiatore di calore cosa che è stata la funzionalità di Proaris per questi anni ma purtroppo questo è avvenuto e poi questo abbiamo dovuto gestire con tutto quello che ne consegue per fortuna con una fine lieta sia nella restituzione sia per quanto riguarda i 116 mila euro che il comune per fortuna ha perché vedete ricordo ancora una volta che senza gli avanzi di bilancio né la delibera prima né questa delibera si possono realizzare quindi rimetto di nuovo il punto sulle tematiche del bilancio sano e a tutte le volte che in quest'aula ci avete chiesto come mai cosa ne facciamo cosa non ne facciamo cosa ricade sui cittadini ecco questo è un esempio di cosa ricade sui cittadini che riusciamo a liquidare Pro Ares che riusciamo a farla ciclabile che riusciamo a ridestinare e speriamo di comune accordo anche sulla partita del P.I. Marelli grazie grazie a lei altri interventi in aula non vedo altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani grazie presidente anche città in comune esprime un voto favorevole rispetto ad un percorso che come tutti hanno detto è stato molto lungo e difficoltoso e che personalmente mi ha visto convolta anche in un contesto che non è solo quello di questo mandato e quindi credo che sia corretto dal punto di vista amministrativo che questo percorso seppur in maniera lunga evidentemente la burocrazia come è stato detto resta un elemento ancora molto problematico insomma del nostro paese possa volgere al termine anche io concordo sul fatto che naturalmente questo ci mette in una condizione diversa insieme a la pista ciclabile insomma quindi a questi nuovi lavori rispetto al recupero dei terreni e quindi ad una riflessione che dovremmo maturare grazie preventiamo sesto consigliere Andy per noi il voto sarà favorevole l'epilogo era scontato che dovesse essere questo ci auguriamo anche noi che possa però essere terreno fertile per promuovere l'utilizzo di questi terreni che abbiamo recuperato Lega Salvini Premier consigliere Appini grazie presidente un po' dispiaciuta del fatto che in questi anni il polo dell'energia che era stato varato dall'aggiunto Aldrini non si è arrivato a dare il meglio di sé e sono felice comunque che oggi abbiamo portato a casa qualcosa in più per la città grazie il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliere Cupido grazie presidente il voto è favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni voto favorevole gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente mi fa piacere che le minoranze siano favorevoli a questa delibera non mi sembra che dal 2012 al 2017 ci fossero chiaramente grandi visioni da parte di chi amministrava allora la città tanto è vero che forse uno nella parte dal 2017 quindi nella parte delle minoranze era favorevole alle dismissioni per quanto riguardava le partecipazioni tutto il resto era contrario e sulla questione chiaramente Proaris non mi sembra che ci sia stata questa grande visione se non quando siamo arrivati noi nel 2017 e abbiamo iniziato a constatare alcune situazioni che non funzionavano chiaramente in questa società probabilmente adatta per altre funzioni e quindi non abbiamo visto se non nel 2021 con nostra delibera l'avvio chiaramente alla messa di liquidazione grazie abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà favorevole Fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente anche noi voto favorevole di Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente favorevoli passiamo alla votazione apro la votazione potete votare manca un voto adesso abbiamo i 23 voti validi su 23 23 voti favorevole la delibera viene approvata procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità apro la votazione potete votare con 23 voti validi su 23 e tutti i 23 favorevoli dichiaro immediatamente eseguitiva la delibera grazie prego consigliere Gatti voleva forse dire qualcosa grazie presidente no solo una domanda magari sbaglio io non trovo cioè non sono stati caricati i documenti sulla piattaforma questa volta una domanda se non cioè perché stavo cercando una cosa che non trovo però viene caricata solo la proposta come sempre si è riuscito a fare il tablet o al tablet solo la proposta come sempre adesso magari chiediamo se nel frattempo chiedo Filippo intanto che accertiamo io proseguire ecco le proposte all'ordine del giorno intanto procediamo passo alla proposta di delibera numero 3 all'ordine del giorno ratifica deliberazione di giunta comunale numero 205 del 25 ottobre 2023 adottata ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000 passo la parola al sindaco per la presentazione grazie presidente una rettifica di una delibera di giunta relativa al programma triennale delle opere pubbliche dove è stato inserito l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile confiscato alla criminalità di via Mazzini 33 destinato a futura sede del gruppo di protezione civile comunale per euro 460 mila euro di cui 150 cofinanziati da regione Lombardia e i restanti 310 mila euro finanziati con i proventi da alienazioni considerando che per la fruizione di questo contributo regionale pena decadenza del contributo correva terminare e aggiudicare i lavori entro il 16 di dicembre abbiamo provveduto ad apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione un cambiamento di quelle che sono le voci di copertura andando ad applicare l'avanzo di amministrazione per il pari importo in commissione consigliere Gatti avevo dato un dato non corretto che poi mi sono confrontato con gli uffici tecnici non era il termine degli interventi il 16 di dicembre ma era la consegna dei lavori all'operatore economico quindi questo per puntualizzare pertanto con questa delibera si ratifica la variazione apportata dalla giunta in data 25 ottobre 2023 grazie grazie a lei sindaco mi chiedo di prenotarvi se ci sono interventi in aula non ci sono interventi in aula chiedo scusa sì consigliere Gatti e lei la parola buonasera grazie presidente buonasera alla giunta al sindaco a tutti i consiglieri e a chi ci segue in presenza e collegato ma sono ringrazio il sindaco per la precisione che ha fatto che mi rincuora perché per quanto ognuno possa raccontare che la propria amministrazione è performante 20 giorni per chiudere dei lavori mi sembravano veramente pochi quindi mi rincuora e soprattutto fa sì che questa delibera assuma un senso un senso diverso devo dire però che secondo me c'è un elemento di criticità in questa delibera che in realtà non sta tanto nella delibera in sé ma nel percorso che questa delibera ha fatto per arrivare diciamo in consiglio comunale forse è una cosa un po' tecnica forse addirittura una cosa un po' istituzionale però nel momento in cui le variazioni di bilancio sono materia dei noi consiglieri poi è evidente che l'iter che facciano è complesso spesso passino ovviamente dalla giunta però sta a noi determinarle qui oggi noi non determiniamo una variazione di bilancio ma semplicemente la ratifichiamo o meglio la ratificherete perché però questo è possibile perché la giunta ma qui penso di dire una cosa che tutti in quest'aula sanno ha il potere di fare delle variazioni urgenti laddove ci sia appunto un profilo di urgenza e come appena ha spiegato il sindaco il profilo di urgenza è dato dal fatto che se entro il 16 di dicembre non saranno consegnati i lavori noi perderemo di fatto il finanziamento di Regione Lombardia tutto chiaro sì ma non c'è secondo noi un vero motivo di urgenza poiché non è che abbiamo scoperto due settimane fa che questi fondi sono arrivati e c'è stata data una scadenza draconica da Regione Lombardia Regione Lombardia ha confermato i fondi il 16 giugno e il dirigente di settore ha firmato una richiesta per una variazione di bilancio il 19 ottobre il 25 ottobre la giunta ha ratificato una variazione d'urgenza il 26 ottobre noi siamo andati in consiglio comunale mi sembra evidente a tutti che non era necessaria una variazione d'urgenza sarebbe bastato che una volta arrivati i soldi a metà giugno la giunta preparasse una delibera per chiedere una variazione di bilancio da presentare a questo consiglio e avrebbe avuto sinceramente tutto il tempo per farlo perché almeno dai documenti che troviamo noi ci sono stati quattro mesi spannometricamente quattro mesi un po' di più in realtà tra il 16 di giugno e l'inizio dei sei mesi di scadenza che dava Regione Lombardia e il 19 ottobre quando il dirigente di settore chiede che venga fatta la variazione in cui nessuno si è occupato del tema se non forse probabilmente i tecnici questa mi sembra una mancanza credo anche abbastanza evidente che però mette in luce molto critica questa delibera perché se sul tema sul merito non c'è assolutamente disaccordo nel senso che è evidente che lo scopo sia valido che l'obiettivo sia positivo e che soprattutto riuscire a ottenere dei finanziamenti sia una cosa positiva per la città però noi voi soprattutto dovreste essere una giunta è un'amministrazione che dimostra di saper cogliere le occasioni non di arrivare di rincorsa all'ultimo quando alla scadenza mancano 20 giorni perché nell'assurdo cosa che non penso capiterà in cui oggi questa delibera non dovesse passare perché magari concordate con noi che questa non è una variazione d'urgenza ma sarebbe dovuta essere una normale variazione di bilancio si creerebbe una situazione veramente singolare e una situazione veramente singolare che è figlia di credo sia palese a tutti una perdita di tempo da giugno di quest'anno a ottobre di quest'anno perché che non ci fossero dei fondi subito disponibili perché era stato fatto era stato messo a bilancio tramite alienazioni e quindi mancavano i fondi necessari era chiaro all'amministrazione a giugno non è che l'hanno scoperto il 25 ottobre e quindi ci sarebbe stato tutto il tempo per seguire il normale iter l'iter corretto l'iter che rispetta il ruolo delle istituzioni non è stato fatto e questo secondo me è un elemento di criticità che indipendentemente poi dal voto che mi sento di dire ci differenzierà dovrebbe secondo me essere sollevato da tutti perché se le cose bisogna farle in un modo è corretto che vengano fatte in quel modo lì grazie grazie a lei altri interventi in aula non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione passo la parola al sindaco per una replica grazie presidente no giusto una precisazione viste le accuse che sono state mosse nei confronti degli uffici e dell'amministrazione che secondo me respingo il mittente e ritengo che siano frutto di una mancanza di competenza e conoscenza delle procedure perché la variazione di bilancio è finalizzata a trasferire la copertura di bilancio dalle alienazioni a un all'applicazione di un avanzo quindi le risorse potevano esserci da parte di regione a giugno luglio a parte che poi per poterle utilizzare ci vuole tutta la procedura che non è immediata però questo soltanto lavorando uno se ne accorce certo senza leggere i documenti è impossibile ma il ritardo è sulla copertura da parte del comune che è riuscita a variare la voce di spesa applicando l'avanzo anziché utilizzare le risorse dell'alienazione quindi siamo stati veloci e bravi a intercettare 150.000 euro di risorse di regione per dare alla nostra protezione civile di Sesto San Giovanni una sede una struttura dove poter operare visto il quotidiano impegno che loro hanno sul territorio quindi mi sarei aspettato almeno dall'opposizione non la polemica ma un plauso perché andiamo a dare una sede una realtà associativa importantissima e nelle giornate di maltempo trombe d'aria preoccupazioni per il fiume Lambro sappiamo benissimo quanto diventa indispensabile la protezione civile e durante il covid anche durante il covid quanto è stata importante la protezione civile e parallelamente siamo riusciti a dare a un territorio un qualcosa sottratto alla mafia che ci è stato assegnato dalla prefettura restituendolo non solo al territorio del volontariato ma senza metterci totalmente le risorse noi ma intercettando un 150.000 euro di risorse pubbliche quindi non mi aspetto un bravo ma neanche una polemica veramente mi sembra di cattivo gusto grazie grazie sindaco passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente allora non voglio entrare nel merito diciamo così del buon gusto del cattivo gusto perché sono opinabili secondo me in quanto personali allora intanto il bene che è stato assegnato alla protezione civile scusate se parlo un po' lentamente ma soffro di allergia e oggi non è una buona giornata per me è stato assegnato tra l'altro vabbè un'assegnazione sulla quale abbiamo dibattuto e sulla quale di per sé al di là della delibera insomma non avevamo niente in contrario e a partire da questo c'era evidentemente un interesse da parte di tutta l'amministrazione ma dell'amministrazione comunale e con questo come dire la previsione di uno stanziamento che poi è diminuito a seguito di un finanziamento della regione adesso onestamente le date saltavano all'occhio erano abbastanza come dire evidenti però dopodiché non credo che si possa rispondere con una questione di buon gusto di cattivo gusto se l'amministrazione comunale riesce ad intercettare dei finanziamenti è particolarmente brava mi viene da dire perché fino a un certo punto c'è regione sembrava che come dire non avesse grandi risorse per il comune di Sesso San Giovanni poi per fortuna voi siete molto bravi e quindi improvvisamente queste risorse ci sono ma va bene perché comunque sono risorse per la città non è che sono risorse per il sindaco o per la giunta io onestamente sono assolutamente convinta che la protezione civile debba avere una sede questa realtà è presente sul nostro territorio da diverso tempo ed è sicuramente una realtà importante non legherei queste osservazioni che vengono fatte né al rilievo dell'importanza di una realtà perché non mi sembra che sia di questo che si sta discutendo né tantomeno all'opportunità o meno che ci debba essere o quanto sia utile il fatto che ci sia le osservazioni venivano fatte in generale io credo sulla gestione chiudo allora noi esprimiamo un voto di astensione su questa delibera perché le osservazioni che non è che sono solo state sollevate ma che anche noi abbiamo ragionato ci hanno lasciato come dire perplessi però ecco voglio anche ribadire che non si fa né il processo ai soggetti né il processo agli uffici perché non è questo grazie scusi presidente nulla grazie a lei reinventiamo sesto consigliere scusate astensione lega salvini premier consigliere pini grazie presidente voto favorevole forza italia consigliere cupido voto favorevole partito democratico consigliere maderloni prego sede grazie grazie presidente ringrazio il capogruppo per avere dato a me la possibilità di fare la dichiarazione di voto per anche rispondere alle affermazioni del sindaco mi scuso se non sono stato sufficientemente chiaro ovviamente il lavoro che fa la protezione civile in questa città è importante siamo contentissimi che avrà una sede degna del lavoro che fanno che non è assolutamente nostra intenzione mettere in dubbio anzi respingo il fatto che lei abbia detto che è quello che facciamo e però ci tengo a fare una precisazione io nessuno ha contestato il risultato di una variazione di bilancio abbiamo contestato il fatto che ci fosse il criterio di urgenza visto che ci avete messo sei mesi non a sapere a recepire poter utilizzare le risorse di regione ma sapendo che avevate le risorse di regione a fare una variazione di bilancio per poter applicare voi delle risorse che sapete benissimo che non avevate disponibili e invece ci troviamo qua a 20 giorni a doverle votare quando avreste potuto fare questa cosa tranquillamente a settembre o a ottobre quindi qui non stiamo discutendo da dove arrivino i soldi del perché del per come stiamo discutendo del fatto che voi utilizzate lo strumento quello della variazione di bilancio d'urgenza in maniera secondo noi impropria grazie il nostro voto sarà contrario gruppo misto consigliere vincelli grazie presidente io rimango sempre abbastanza perplesso quando sento alcune affermazioni da parte della minorenza si era d'accordo su una delibera precedente per quanto riguardava l'assegnazione di questo immobile sequestrato alla mafia e stasera che abbiamo finalmente trovato trovato corrispondenza con la possibilità di avere un finanziamento da parte della regione ora vi astenete sinceramente diventa non comprensivo questo poi stasera il sindaco è stato tacciato di professore è stato tacciato anche di mago ma meno male che è il sindaco e continua chiaramente a fare il sindaco io così invito le minoranze a riflettere meglio sulla possibilità di non dare adito ai cittadini che prima dite una cosa e poi ne fate un'altra come come spesso avviene in questa sala consigliare noi moderati del gruppo misto siamo favorevoli a questa delibera grazie amiamo sesto consigliere molteni grazie presidente anche noi del gruppo civico amiamo sesto siamo favorevoli fra te d'italia consigliere turolla grazie presidente anche noi esprimiamo un voto favorevole di stefano sindaco consigliere pogliaghi grazie presidente noi siamo favorevoli mi sembra un po' devole contestare il valore di una delibera a favore della protezione civile su discutibili tematiche di tempistica di gestione delle tempistiche grazie si è conclusa dichiarazione di voto passiamo alla votazione apro la votazione potete votare manca una votazione ci siamo abbiamo 23 voti validi di cui 16 favorevoli 5 contrari e 2 astenuti la delibera viene approvata ed è esecutiva possiamo passare al punto 4 all'ordine del giorno sostituzione componente collegio revisore dei conti triennio 7 agosto 2021 6 agosto 2024 passo la parola al sindaco di Stefano per la presentazione allora il 26 settembre abbiamo deliberato in consiglio comunale la nomina del nuovo componente del consiglio dei revisori dell'ente in sostituzione del dottor Colombo censato dalla carica con il dottor Belleri Claudio per il periodo fino a conclusione dell'atto di nomina che è il 6 di agosto del 2024 il dottor Belleri ha comunicato la cessazione il 19 di ottobre del 23 dalla carica di componente per motivi per gravi motivi di salute la prefettura ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi indicando come seconda riserva la dottoressa Maenetti Giussi ai sensi del 267 del 2000 la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitato al tempo residuo ovvero fino al 6 agosto del 2024 quindi con la presente deliberazione il consiglio prende atto dell'esito dell'estrazione dei nominativi del candidato e del rispetto della delle compatibilità da parte della suddetta dottoressa Maenetti Giussi Basta Grazie Sindaco Dichiaro aperta la discussione se qualcuno vuole intervenire può prenotarsi Non ci sono prenotazioni Dichiaro chiusa la discussione Possiamo passare alla votazione Apro la votazione potete votare Chiedo scusa Siamo d'accordo a procedere alla votazione Grazie Chiedo scusa l'ho saltata io 23 voti validi su 23 23 voti favorevoli La delibera viene approvata procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità Apro la votazione Potete votare Manca un voto Ci siamo 23 voti validi su 23 23 favorevoli Dichiaro la delibera esecutiva Possiamo passare al punto 5 all'ordine del giorno individuazione degli edifici dismessi ai sensi dell'articolo 40 bis della legge regionale 12 2005 aggiornamento anno 2023 Non ci sono relatori di commissioni passo la parola all'assessore Antonio Lamiranda per la presentazione della delibera Prego assessore Grazie presidente buonasera a tutti anche da parte mia spesso abbiamo affrontato delibere che attengono lo sviluppo della nostra città e al futuro prossimo o tra qualche anno Alcune sono state delibere importanti ma non determinanti ma in altri casi abbiamo assistito e abbiamo votato e vi ho chiesto di votare delibere che hanno inciso e incideranno fortemente sullo sviluppo urbano della nostra città questa sera credo che questa delibera non muti sostanzialmente lo scenario urbanistico ma sia importante perché facciamo un punto fermo un punto fermo perché possiamo certificare a distanza di tre anni che alcune scelte che abbiamo adottato tra il 2019 e il 2020 di alcuni vincoli urbanistici per sviluppare e recuperare la città costruita oggi iniziano ad essere concreti oggi con questa delibera leggiamo che quelle previsioni che avevamo avuto erano corrette oggi da questa delibera comprendiamo come la città piano piano si sta avviando nella sua radicale trasformazione e non consumando suolo ma recuperando esattamente la città costruita recuperando edifici dismessi ma soprattutto restituendo funzionalità alla città su aree che le avevano perse che le avevano perse più volte ho detto che ci sono due visioni diverse in come intendiamo sviluppare la città tra l'amministrazione attuale su cui anche nel rinnovo del mandato abbiamo chiesto un mandato di fiducia agli elettori e ovviamente alla sinistra oggi credo che questa delibera comprovi come la visione che noi abbiamo di sviluppo futuro della Sesto San Giovanni sia concreta pragmatica e soprattutto sia molto flessibile e capace di adeguarsi all'evoluzione dei tempi economici e delle esigenze sociali dei cittadini nel 2020 individuiamo 18 edifici poi ne aggiungemmo due nel 2021 oggi con questa delibera noi certifichiamo che su 20 edifici che avevamo vincolato allo sviluppo e alla rigenerazione ben 15 si sono in qualche modo attivati e quindi andiamo a fare quello che tecnicamente è la sospensione dei termini di decadenza dalle beneficio premiale perché il meccanismo dell'articolo è che alcuni in commissione non avevano compreso è che entro tre anni dal vincolo che viene posto dall'amministrazione sull'edificio l'operatore deve attivare la procedura di recupero edilizio che può essere o attraverso un parere preliminare o la presentazione del deposito del permesso di costruire attivato questa procedura automaticamente si spendono i tre anni che è il termine di decadenza da questo vincolo che cosa succede invece alla scadenza del terzo anno lo vediamo con l'edificio 18 se non ricordo male no chiedo scusa l'edificio 13 esatto che è quello di Sarca chiedo scusa l'edificio 13 entro i tre anni questo edificio che era vincolato l'operatore non ci ha presentato né un'istanza di parere preliminare né una proposta di recupero edilizio conseguentemente con questa delibera noi chiediamo ovviamente ai consiglieri che ci viate mandato in caso di specie all'amministrazione e per essa agli uffici tecnici di attivare la procedura prevista dalla stessa legge che è quella di decadenza dal beneficio premiale del recupero edilizio ma soprattutto l'estrema razio che ha questa legge che è quella di portare poi alla demolizione definitiva dell'edificio quindi noi oggi vi chiediamo oltre che certificare che per 15 edifici si è attivato il meccanismo e quindi non levarli dall'elenco ma sospenderne i termini di decadenza perché è in itinere l'evoluzione della loro trasformazione e che solo al termine verranno definitivamente cancellati da questo elenco si legge all'edificio ad esempio di via Sauro che è in corso di trasformazione invece per questo edificio vi chiediamo di darci appunto il potere come previsto dalla legge di andare a emettere un provvedimento inibitorio nei confronti della proprietà che noi abbiamo un range nella legge ci dà dai 4 mesi ai 12 mesi individuiamo come ufficio abbiamo individuato in 6 mesi per depositarci o una proposta di parere preliminare di recupero o direttamente un titolo edilizio scaduto il quale poi torneremo nuovamente in aula per certificare definitivamente la decadenza eventuale e quindi poi attivare saremo il primo caso in Italia la procedura eventualmente di demolizione dell'edificio e ovviamente con perdita anche della capacità volumetrica viceversa per i residui edifici che non ho citato nel senso che a completare l'elenco dei 20 confermiamo l'efficacia in vigore ancora dei 3 anni perché sono edifici che sono entrati successivamente nell'elenco e che quindi sono ancora in etinere lo scadere dei 3 anni del vincolo che prevede l'articolo 40 bis in sostanza questa è la delibera che vi viene proposta e che fotografa efficacemente lo stato dell'arte della trasformazione di questi edifici poi in commissione mi è stato chiesto di alcuni quali sono le ubicazioni più volte le abbiamo visti quindi in questa sera non è necessario che io per ciascuno vi dia ritorno di quali sono gli interventi più o meno ormai li abbiamo discussi sovente quindi li conosciamo tutti grazie grazie assessore dichiaro aperta la discussione chi volesse intervenire si può prenotare prego consigliere ghezio nella parola grazie presidente buonasera a tutti ai cittadini ai collegati ai presenti no il treno va preso in corsa perché se no lo si perde e la 40 bis è un esempio è un esempio di come una sinergia virtuosa tra la regione e il nostro comune ci permette di riqualificare io dico in una delle tre dimensioni che concorrono alla rinascita della nostra città perché come ho sentito dirmi in commissione giustamente la premura di ricostituire di sviluppare l'urbanistica a che anche la sicurezza che è un tema che si sente un po' per le strade in questi giorni possa dare suo contributo ecco qua ne vediamo un esempio perché è riconosciuto da tutti i cittadini di Sesto che questi edifici costituivano punto di accumulazione per un degrado sociale ed urbano noto a tutti quindi intanto prendere la palla al balzo come dico io significa appunto lavorare per delle opportunità concrete opportunità che poi vanno gestite in una sinergia perché giustamente si lavora dal punto di vista dell'urbanistica si lavora dal punto di vista della sicurezza si lavora dal punto di vista del commercio e così si rigenera un tessuto sociale come ho detto più volte è un percorso che è giustamente in capo all'amministrazione comunale ma deve coinvolgere poi la cittadinanza nell'impegno anche individuale di confronto con le persone che ci sono intorno e anche la sensibilizzazione rispetto a quelli che sono poi tutto il percorso di progettualità che arriverà ed è per questo che mi fa anche un po' specie il fatto quando dico il treno in corsa adesso senza voler deviare dall'oggetto della delibera ma l'esempio che abbiamo appena non della precedente ma della delibera sulla protezione civile è un altro esempio di treno in corsa che sarebbe davvero un peccato perdere se il comune non avesse la possibilità di allocare delle risorse che non è riuscito ad ottenere al momento ancora attraverso delle alienazioni se non avesse il porsellino e qua andiamo a coprire le due il tema dell'avanzo come poter utilizzare l'avanzo e il tema di prendere al volo i provvedimenti regionali senza i quali anche la protezione civile 150 mila euro non potrebbe ovviamente avere una casa a Sesto San Giovanni quindi io ringrazio ringrazio davvero e sono perché questo provvedimento apre alla grande progettualità perché alla fine al di là delle aree falche questa 40 bis da noi sposata dalla precedente tornata con il nuovo PGT apre alla vera riqualificazione del costruito che era un tema che ricordo veniva dibattuto molto giustamente da tutte le persone della città esistente che dicevano ma come possiamo fare in modo tale che la nuova città non diventi un progetto isolato e super declassificante per quello che c'è intorno è qua è in questi provvedimenti molto concreti così come quello dello studentato che abbiamo trattato la volta scorsa sono tanti pezzettini dentro i quali se si sta al passo e si offre questa flessibilità quindi mi vengono mi ritornano in mente certe critiche un PGT generico quando prima c'erano le tavole io me lo ricordo benissimo le tavole topografiche del PGT precedente dove sostanzialmente era tutto ingessato quindi non si riusciva a fare nulla quindi ben venga questa libertà che non è liberismo attenzione cioè non è tutti fanno quello che vogliono ma è si apre alla disponibilità alla possibilità e quindi se c'è un investitore che è interessato alla possibilità di riuscire a creare del bene del bello ben venga grazie ancora grazie a lei altri interventi in aula prego signor Maderloni ha le la parola grazie presidente nessuno mette in dubbio che questo provvedimento questa legge regionale in particolare per la nostra città densamente urbanizzata sia in questo momento storico un'opportunità che possa essere colta dall'amministrazione noi abbiamo sempre riconosciuto questa facoltà di cogliere degli strumenti che vengono dati che prima non c'erano e che oggi ci sono quello che noi come Partito Democratico in tutte le sedi e che continueremo a rimarcare nonostante noto una costante e continua preoccupazione di quello che i consiglieri del Partito Democratico gli esponenti del Partito Democratico capiscono o colgono dai documenti che ci vengono forniti da tutte le altre forze tranne che da chi è iscritto al Partito Democratico le iscrizioni sono ancora aperte c'è la possibilità di farlo quindi vi aspettiamo numerosi dico questo perché perché noi abbiamo sempre posto una visione politica diversa e siamo fieri di questa posizione siamo fieri di credere che il liberismo che voi tanto e che il consigliere Ghezzi ha appena detto nella libertà dell'investitore di fare non sia una vera libertà ma sia semplicemente uno scontro tra le esigenze sociali che ha una comunità e le esigenze economiche che ha un privato che investe dei soldi privati e dai quali non lui ma quantomeno i suoi azionisti gli chiederanno conto e del quale lui deve rientrare sia un fondo pensione BNL sia un privato cittadino che decide di fare un investimento immobiliare liberissimo di farlo giustissimo politicamente crediamo che l'amministrazione non debba però scegliere un'unica sola soluzione la memoria mi può ingannare perché perdo colpi e l'età avanza di 20 progetti se non ricordo male uno due al massimo hanno una vocazione che è diversa da residenziale ora noi contestiamo questo questo vi contestiamo come ruolo è una scelta legittima governate risponderete ma noi contestiamo il fatto che abdicate a ruolo che deve creare e deve dirigere una città verso un futuro verso una città di 100.000 abitanti non potrà fare solo case non potrà essere solo case perché altrimenti le persone qui ci vengono solo a dormire e non ci vogliono vivere e non saranno belle come diceva il consigliere Pogliaghi e scusate io sono d'accordo con lui quando dice che la città deve essere bella e viva sono d'accordo semplicemente che secondo noi voi avete preso una direzione sbagliata avete preso un treno che è una direzione diversa da quella che crediamo noi legittimo legittimo l'assessore fa il suo lavoro e fra 4 anni 3 anni quando saranno le elezioni si richiederà il voto e se avrà ragione lui vincerà vincerete se avremo ragione noi andrà diversamente ora quello che noi crediamo è che una comunità ha bisogni vari ha bisogni primari ma vari ne parleremo poi dopo nella delibera successiva e noi crediamo che la casa sia un bisogno primario ed è giusto che ci siano delle opportunità sia dal lato del privato che dal lato del pubblico di offrire a un bisogno forte che c'è in questi anni di abitazione di poter fornire nella nostra città delle soluzioni perché abbiamo la fortuna di avere una città ben collegata col capoluogo ricca di mezzi di servizi ma questi beni e servizi richiedono anche altri aspetti e la cultura è uno di questi l'associazionismo è uno di questi gli spazi per far ritrovare le persone sono questi quindi quello che noi crediamo che questo delibera di oggi ci confermi che lo strumento sia valido come strumento ma come anche un regolamento è come viene applicato il regolamento che determina se quel regolamento è buono o è cattivo se quel regolamento risponde veramente ai bisogni della città e di una comunità e non solo a un interesse di parte grande o piccola che sia la parte la delibera dice la legge regionale parte dal presupposto che vuole provare a sanare degli aspetti legati alla salute la sicurezza l'inquinamento il degrado ambientale urbanistico edilizio sottoscriviamo tutti chi è che vuole vivere in una città brutta chi? nessuno però vivere in una città in cui riqualifichiamo un edificio andiamo in deroga su tre parametri e su tre credo che forse non sia quel bello che andiamo tutti a ricercare però sbaglieremo ma è una scelta politica che rispettiamo che contrastiamo su cui non concordiamo ciò non toglie che riterremo di vedere di valutare se alla lunga questa cosa funziona la nostra città ha una storia urbanistica complicata lo sappiamo lo sappiamo da sempre la ferrovia divide a metà la città non era una città era una città delle fabbriche perché le fabbriche occupavano la sta grande maggioranza del territorio tra le altre cose ora si vanno a riqualificare degli spazi ma la direzione resta sempre solo quella delle case 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 ripeto io non penso che una città sia viva una comunità sia viva se l'amministrazione non si impegna a dare degli spazi per ritrovarsi degli spazi associativi quello che noi chiediamo e sporniamo all'amministrazione è su questo lo strumento c'è benissimo il privato giustamente giustamente fa il proprio interesse ma l'amministrazione deve fare l'interesse della città e l'interesse della città è il benessere dei cittadini non è il benessere del partito democratico di fratelli d'italia e così via è il benessere di una collettività e la difficoltà di governare è riuscire a trovare un punto di caduta che soddisfi la maggior parte dei cittadini e crediamo che dare le case a chi va via da Milano perché non se li può permettere oppure perché pensa che a Sesto sia più collegata e più facilmente raggiungibile per tali luoghi di lavoro può essere una soluzione ma nel momento in cui diventeremo centomila abitanti sarà una realtà soffocante io credo che nessuno voglia avere una città soffocante dovremo tutti lavorare per riqualificare con gli strumenti che abbiamo in quella direzione grazie grazie a lei consigliere Maderloni ci sono altri interventi in aula consigliere Pagani ha le la parola sì grazie presidente non ci tenevo ad intervenire su questo tema perché già l'altra volta in consiglio comunale facciamo una discussione su questo e parte delle cose che sono state dette dal consigliere Maderloni le condividemmo e le condivido tuttora in questa discussione allora partendo dal presupposto nel senso che si cita si cita e si applica non solo si cita insomma questa legge regionale 40 bis ma poi diciamo che se non ho capito male non credo a dire la verità però chiedo all'assessore a rispetto a questo è poi diciamo il combinato disposto tra la legge e il PGT che garantisce quella flessibilità che permette poi il cambiamento della destinazione d'uso e qui poi come dire il l'argomento sollevato dal dal consigliere Maderloni è è un elemento da valutare quando si dice che si ha una visione della città poi sul fatto che sia concreta pragmatica flessibile capace di adeguarsi alle esigenze è una valutazione sicuramente politica che non condivido mi viene da dire per certi aspetti anche soggettiva perché io vorrei capire che cosa vuol dire adeguarsi alle esigenze no? se la costruzione di tutte queste case corrispondono perché di questo stiamo parlando corrispondono alle reali esigenze di tutti i cittadini di Sesso San Giovanni e perché di quelli che presumibilmente arriveranno non lo possiamo sapere non abbiamo la palla di vetro a me sembra che questa riqualificazione questa legge che di per sé come dire non abbiamo non amiamo comunque moltissimo nel senso che stride un po' l'idea che si conceda una premialità al disuso e all'abbandono però capisco che in questo tipo di difficoltà che non riguarda che non riguarda soltanto Sesso San Giovanni naturalmente ed è una difficoltà oggettiva di molte città comprese la nostra si sia tentato comunque attraverso questa legge di provare a porre rimedio però appunto poi noi in questo combinato disposto costruiamo case e come dico non solo non rispondono ai bisogni dal nostro punto di vista di tutti i cittadini ma non rispondono nemmeno a quei bisogni che vanno incontro a quelli che magari sono i cittadini come dire un po' più in difficoltà che incominciano ad essere tanti quindi rispetto agli affitti poi ne parleremo perché probabilmente arriveremo anche alla discussione sulle emozioni perché qua non abbiamo affitti a canoni concordati quindi abbiamo la costruzione di case e naturalmente la riqualificazione degli edifici per carità che tra vedere una roba fatiscente e come dire vedere un palazzo ben costruito dal punto di vista estetico ecco questa forse è una valutazione che potreste aggiungere anche dal punto di vista estetico è sicuramente come dire è decisamente più significativa però nella visione e qua rivendico anch'io la legittimità di avere una visione differente che non per questo deve essere né denigrata né umiliata perché non è che attraverso la differenza si umigliano o si prevarica uno governa decide di fare delle cose uno intendo naturalmente non il soggetto in sé quindi l'assessore ma naturalmente una giunta quindi un mandato decide di fare delle cose se ne assume la responsabilità ma la visione non può essere la visione di tutti è una visione di parte la politica è parte e questa è una cosa che ci tengo sempre a ribadire quindi da questo punto di vista è concreto sicuramente sì è pragmatico sì ripeto questa flessibilità ci lascia decisamente molto perplessa i perplessi io non credo che vada incontro alle esigenze della nostra città credo che vada più incontro alle esigenze di un privato che sicuramente costruisce ciò che vuole ciò che gli serve non ciò di cui una città ha bisogno grazie grazie a lei passo la parola alla consigliera Pini grazie presidente ho chiesto un intervento l'ho schiesto per errore va bene non è un problema stavo facendo delle verifiche e delle ricerche nel frattempo a me risulta che a Sesto San Giovanni sia cresciuta la percentuale di verde in città è vero che stiamo cercando di costruire e preparare una città per il futuro che è una città che avrà viva Dio vogliamo sperarlo tutti anche una crescita demografica quindi dobbiamo per forza di cose preparare predisporre la città ad accogliere i nuovi cittadini che non penso saranno mai i milanesi che escono e che se ne vanno perché i milanesi hanno fatto altre scelte e ve lo dico da ex milanese fatto circa 30 anni fa questa scelta di spostarmi qui a Sesto per non spostarmi fuori solo perché avevo il lavoro qui e non ho voluto allontanarmi più di tanto ma chi se ne va chi esce dalle città non si ferma a Sesto va in campagna o va in Brianza in campagna non intendiamo qualcosa di diverso in ogni caso a me risulta che aspettate perché mi sono presa degli appunti che lo standard per abitante è passato dal 32 metri quadri a 51 metri quadri oggi non dieci anni fa è una superficie verde che va dal 14,50 è passata al 20 quindi io non capisco per quale motivo continuiamo a puntare il dito sulla cementificazione ci occupiamo solo di costruire case stiamo cercando di recuperare quelle porzioni di territorio che sono degradate degradanti degradanti per una città come Sesto San Giovanni sono rimaste negli ultimi anni dei dei ceri morti in giro per la città e se non rimettavamo in piedi questa macchina ci saremmo ritrovati con che cosa vogliamo ricordare che cosa succede cosa è successo in via Marconi cosa sta tuttora succedendo in via Marconi perché ancora a brevissima verrà risolta questa soluzione questo problema però ahimè abbiamo avuto un problema pesantissimo e per fortuna che invece stiamo avviando la riqualificazione stiamo dando i permessi con tutti i criteri possibili di blocco perché il paesaggio eccetera perché la legge prevede questo e quindi viene portato avanti con il pieno rispetto della legge ma viene portato avanti e quindi io non capisco la polemica però vabbè tanto se va a san dire io non vi capisco mai grazie ho terminato grazie a lei ci sono altri interventi in aula consigliere Amdi prego ha la parola cercherò di essere molto breve allora io credo che sia una contrapposizione tra quello che è l'interesse della collettività rispetto a quello che è l'interesse dell'impresa questo mi pare innegabile anche dalle vostre parole come sempre quello che i consiglieri di minoranza hanno tentato di sottolineare è un'altra esigenza va bene beneficiare delle deroghe va bene recuperare le aree dismesse perché riqualifichiamo la città ci mancherebbe altro però oltre a lasciare che il mercato immobiliare faccia da padrone nella nostra città che sta diventando sempre più densamente popolato e questo lo sappiamo tutti abbia anche dei benefici rispetto a dei servizi quindi non facciamo sempre finta di non capire quello che si dice è stato detto va bene costruire ma diamo spazio anche a quelli che sono i servizi ed è vero che 30 anni fa le ragioni per cui si lasciava a Milano erano diverse adesso lo sappiamo tutti quali sono i prezzi degli appartamenti degli immobili sulla città di Milano quindi le motivazioni sono notevolmente cambiate rispetto a 30 anni fa dove forse c'era uno status sociale ed economico molto diverso quindi è vero che le persone lasciano Milano per venire a Sesto per andare a Cinisello per andare a Colonia a cercare prezzi più bassi le ragioni sono diverse da quelli di 30 anni fa dove era soltanto una ragione opportunistica e mi avvicino al lavoro come faceva riferimento la consiglia Rapini quindi io credo che forse non è che non si è d'accordo forse non ci si ascolta perché ribadisco quello che è stato detto da questa parte è tutt'altro è non continuare a contrapporre l'interesse della città a quello del mercato immobiliare perché è questo quello che viene fuori grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Bonato ah c'era Gatti prima è sparito va bene buonasera buonasera a tutti quelli che ci ascoltano grazie presidente della parola io che cosa vorrei aggiungere che mi pare di capire che poco conosciate il perché e il per come un privato decida di investire innanzitutto se decide di investire in un progetto immobiliare è perché prima comunque ha fatto degli studi su quella che è la domanda altrimenti non verrebbe mai a investire in questa città quindi non è che perché investo si crea la domanda ma investo perché c'è la domanda e quindi è ovvio che un privato venga dove comunque ha la possibilità giustamente di fare affari e fortunatamente siamo in un paese democratico e non in un paese socialista o comunista dove questo sia praticamente visto come il male assoluto per quanto riguarda diciamo il fatto che si costruiscano degli immobili e poi non si diano dei servizi vi do un'informazione banale il testo unico edilizio da sempre prevede per ogni costruzione un quantitativo di opere di urbanizzazione primaria strade piste ciclabili e urbanizzazione secondaria servizi scuole chiese eccetera per cui se delle strutture sono già esistenti vuol dire che hanno già dotato il territorio dei servizi di cui chiedete qui continuate a dire che servono servizi mancano servizi la cittadinanza ha bisogno di servizi ma non esplicitate quali servizi volete perché qui non è esattamente chiaro cioè da un'operazione di recupero di un edificio dismesso che inquina allora se rifacciamo una fabbrica al posto di una fabbrica per voi è tutto a posto non c'è nessunissimo problema se invece al posto di una fabbrica si fa un edilizia un edificio residenziale ecco che nasce il problema ma il problema qual è? avete paura che la città cresca? avete paura che la città si rinnovi? avete paura che in questa città vengano persone che magari hanno una disponibilità economica maggiore dei residenti? cioè che cosa vi spaventa di questo futuro perché per noi è solo un futuro migliore quindi se vengono qui queste persone vengono perché in questa città trovano delle possibilità di lavoro e di sviluppo sulla leggenda che scappino da Milano e vengano a vivere da Sesto vi do un'informazione è falso chi abita a Milano a Sesto non ci vuole venire e ve lo dico perché sono una persona che lavora nel settore e mi sono sentito dire che certe persone oltre precotto non vogliono andare quindi nonostante poi i vari articoli giornali che sono usciti a Sesto e vogliono venire allora queste cose le fanno basandosi su delle ricerche dei motori che offrono case ma poi a fronte di queste ricerche non ci sono domande per spostarsi da Milano verso Sesto San Giovanni il perché e il per come vabbè io penso che rispetto a quello che costa una casa Milano e quello che costa una casa Sesto San Giovanni sia irracionevole ma non posso mettermi nella testa dei cittadini milanesi che preferiscono restare dove sono oppure spostarsi in campagna resta che a questo tipo di urbanizzazione complicata ci siamo arrivati perché per 72 anni abbiamo avuto voi che lo gestivate questo territorio che succede? che succede? gestivate voi questo territorio quindi se siamo arrivati al 95% di urbanizzazione del territorio è perché lo avete costruito voi ci avete fatto fabbrica ci avete fatto casa comunque avete fatto tutto quello che volevate adesso c'è qualcun altro che ha una visione diversa è una visione diversa dalla vostra per fortuna io dico quindi tutte queste vostre paure non le comprendiamo vediamo però che da quando c'è un PGT nuovo e moderno il privato trova stimoli e interessi per venire a lavorare sul nostro territorio e recuperare ciò che ora è fatiscente inquina fonte di degrado questo non vi piace? pazienza ce ne faremo una ragione grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Turolla grazie presidente ho sentito parlare della storia di Sesto da parte dell'opposizione e ricordo che la storia di Sesto è quella delle fabbriche uno dei motivi per cui la nostra città veniva chiamata Stalingrado d'Italia l'altro è il contributo alla resistenza e negli anni 90 se non vado errato queste fabbriche hanno chiuso e dopo le fabbriche ci sono stati diciamo dei quartieri abbandonati adesso stiamo parlando della riqualificazione delle aree falc ma non solo comunque gli edifici su cui andiamo a intervenire sono in qualche modo collegati magari indirettamente ci sono capannoni piuttosto che io penso che appunto un edificio abbandonato sia sinonimo di degrado di una città addormiente ridare vita invece a quell'edificio provare comunque a far qualcosa di nuovo far vedere che si va avanti si costruisce anche residenziale sì dà secondo me l'impressione di una città viva di una città che cerca di rilanciarsi in qualche modo poiché comunque l'alternativa è lasciare quegli edifici nello stato in cui sono e quindi diciamo che è meglio costruire un palazzo residenziale che lasciare un capannone lì a se stesso e sull'andare in conto ai bisogni della società comunque della cittadinanza faccio presente che su un paio di edifici che mi vengono in mente che sono stati appunto riconvertiti in residenziale se non vado errato ma mi pare proprio di no sono stati tutti gli appartamenti all'interno sono stati venduti sulla carta questo vuol dire come diceva prima il consigliere Bonato riguardo alla domanda vuol dire che comunque in qualche modo si va incontro a quel bisogno vuol dire che comunque c'è qualcuno che cerca qualcosa che noi stiamo offrendo e in questo momento è un alloggio è una casa in cui vivere e se non ci sono delle attività economiche che vengono sul nostro territorio non è colpa del comune se un'attività economica non ha per mille motivi non ritiene vantaggioso investire qui a Sesto San Giovanni non è colpa del comune ma comunque l'alternativa qual è? L'alternativa è lasciare tutto in uno stato di degrado per me questa legge e l'uso che l'amministrazione sta facendo è un ottimo strumento e quindi voterò favorevole mi porto Grazie Setturolla altri interventi Prego consigliere Gatti dalle la parola Grazie Presidente ma partirei da una cosa che ha detto la consigliera Pini che però purtroppo in questo momento non è in aula che nella sua ode a Sesto San Giovanni l'ha definita una città ricca di spazi verdi informate quando rientra in aula per favore la consigliera Pini che il nostro è il decimo comune più cementificato d'Italia secondo una quindi di spazio verde potremmo averne di più infatti io mica ho detto che è colpa dell'assessore la Miranda mi spiace Presidente per favore grazie ma io sono d'accordo con lei assessore siccome lei è un amministratore di questa città da tanti anni prima come consigliere e poi come assessore le faccio notare che sicuramente lei conosce la storia della nostra città e io non sarò qua a fare la lezione ed è proprio perché c'è quella storia abbiamo una storia particolare proprio perché la nostra è una città che è costruita attorno alle fabbriche e non in cui le fabbriche sono venute all'interno di una città che c'era per precisare che dobbiamo dirci con molta serenità e chiarezza che la situazione è questa non è rosea e che bisogna fare delle cose se oggi invece in quest'aula facciamo passare come è accettabile dire che il nostro è un comune verde signori stiamo dicendo una cosa che è semplicemente falsa è una bugia e queste cose non possono passare il che significa è colpa vostra se stessa cimentificata assolutamente no ma proprio perché qui dobbiamo concordare tutti che sesto è estremamente cementificata dobbiamo fare delle politiche in questo senso non delle politiche contrarie all'idea di avere più verde in questa città sono state dette un sacco di cose e quindi farò un pochino abbalzi avanti e indietro però mi sembra che più che sulla legge regionale su cui è uno strumento è uno strumento che ha dei lati sicuramente positivi perché permette di rimettere a nuovo degli edifici dismessi e questo è una cosa positiva e qui nessuno ha negato questa realtà ci dà però l'idea politica alla base dell'amministrazione che ha deciso di applicare giustamente secondo me questa legge regionale perché dire come è stato fatto adesso che vengono qui inteso gli imprenditori privati a investire sull'abitativo perché questo è quello che gli offriamo significa forse consigliere Bonato la sorprenderanno essere molto più socialisti di noi perché non è l'amministrazione che offre la possibilità di costruire il residenziale è il privato che ha preso un suo stabile lo ha inserito nell'elenco ottiene una premialità e chiede di poter fare del residenziale non l'amministrazione che offre questo consigliere che è quello che ha detto lei e mi sembra quantomeno singolare considerando la premessa che avete fatto voi che mi sembra sia abbastanza chiara di una società capitalista e di un libero mercato che la fa da padrone non è la mia posizione ma mi sembra ci sia di una confusione anche da quella parte dell'aula almeno per alcune dichiarazioni che sono state fatte questa sera ed è per questo che mi fa sorridere l'assessore quando dice che la vostra idea di città è molto flessibile non è molto flessibile si piega semplicemente è un'idea di città che si piega a chiunque arrivi a chiedervi di sistemare un edificio dismesso perché voi ragionate su un principio secondo me molto semplice alla città se all'inizio della mia amministrazione dove ci sono 20 edifici dismessi alla fine della mia amministrazione di edifici dismessi ce ne sono 10 e 10 non lo sono più è meglio? la vostra risposta è sì sempre e quindi è questa la vostra linea e questo è testimoniato dal fatto che avete portato in quest'aula come diceva prima il consigliere Maderloni delle deroghe al PGT che variavano su tutto quello su cui poteva variare perché l'unica cosa è l'obiettivo è riqualificare ad ogni costo anche a costo di rimetterci altro terreno perché quello che è successo con lo studentato lo abbiamo già detto non è solo un aumento delle volumetrie è anche l'aumento dell'altezza che impatta sulle case che sono vicine che non crea necessariamente una città più bella e quindi qual è la nostra qual è la mia idea di città è una città dove gli edifici dismessi siano più belli degli edifici nuovi assolutamente no però è una la mia idea è che vorrei avere un'amministrazione che ci dice non che va bene sempre tutto purché si faccia del nuovo ma che ci sia un'idea e che ci sia un progetto che di fianco a questi edifici inserisca dei servizi perché mi spiace il consigliere Renato lei dice che non diciamo quali sono questi servizi ma adesso gli faccio l'elenco questa città è sguarnita da degli spazi di studio adeguati alle dimensioni della città e non basterà nemmeno la sala che ci darà lo studentato fra qualche anno serve molto di più questa città ha un evidente problema e lo avrà ancora di più quando in questa città ci saranno 100.000 persone con i posti all'interno degli asili nido perché abbiamo oggi la coda figuratevi quando ci saranno 20.000 persone in più e presumiamo e speriamo che gran parte di quei nuovi inquilini saranno giovani coppie giovani magari e quindi avremo un sacco di richiesta e mancheranno i servizi in questa città c'è poca c'è sempre meno attenzione anzi verso lo sport e non mi sembra che oggi ci stiamo raccontando che in futuro verranno fatti enormi investimenti però nel contempo stiamo andando come dichiarate voi da DUP verso una città molto più abitata molto più popolosa con più cemento perché questo è un fatto perché se devo mettere 20.000 nuove persone devo costruire e quindi ci sarà più cemento e a me quello che crea forse sono stato molto confuso in questa mia sono stato un po' confuso e ripetitivo in questo mio intervento ma a me quello che preoccupa non è l'edificio dismesso che domani diventa edificio residenziale è il fatto che voi non sembriate vedere il problema di una città che ha avuto un passato che oggi ci presenta dei problemi che sta trasformando tutti gli edifici dismessi o praticamente tutti il residenziale e per voi questo non creerà problemi ma mi ha fatto molto riflettere una frase che ha detto prima la consigliera Pagani che forse malinterpreto io non voglio assolutamente prendere le sue parole e distorcerle ma voi state facendo la politica abitativa di chi non è di sesto cioè state costruendo case dove un sestese non andrà a vivere presidente grazie state facendo una politica che accetta di costruire degli enormi palazzi tutti di appartamenti tendenzialmente pure molto costosi non molto sotto quello che si trova in quartieri adiacenti a Milano non è vero questa è una bugia perché i prezzi che saranno degli appartamenti in piazza Oldrini non saranno accessibili a tutti questo dobbiamo dircelo gli appartamenti che sorgeranno in fondo a Viale Casiraghi non saranno accessibili alla ral media di un sestese questo è evidente a tutti meno che a voi mi viene da dire ed è evidente che questa città subirà una forte immigrazione nei prossimi anni e quella immigrazione avrà delle domande avrà delle domande di servizio alcuni esempi li ho fatti ma sicuramente ce ne sono molti altri e a me sembra che ogni volta che ci troviamo a parlare di queste delibere basate su questa legge che noi non è che non condividiamo perché i principi le idee su cui si basa sono valide sono forti ma sembra che voi non vi preoccupiate di ciò che significa quello che voi state facendo vado vabbè no in realtà vado a chiudere perché ci sarebbero tante piccole risposte da dare a cose che sono state dette ma voglio fare presente un'ultima cosa per come funziona oggi l'elenco significa che oggi un privato che volesse entrare fa richiesta a lui quando magari ha già deciso di riqualificare quando magari si è già fatto i conti in tasca e sa benissimo che tipo di progetto gli conviene dal punto di vista economico piuttosto che tenere uno stabile quello è solo lo strumento che incentiva non è lo strumento che dà la soluzione credo che questo sia chiaro a tutti non è l'amministrazione che decide quali sono gli stabili che da oggi sono dismessi vengono inseriti e hanno diritto alla premialità ma dopo tre anni va a scadere è il privato che sa già quello che vuole fare si fa inserire nell'elenco ottiene una premialità ed esegue e presenta il progetto questo è evidente è il funzionamento ma va anche bene che sia così è il privato che sta utilizzando una premialità messa a disposizione dal pubblico per costruire e rivalutare degli stabili che possedeva già grazie altri interventi in aula non ci sono interventi dichiaro chiusa la discussione passo la parola all'assessore la miranda per una replica vedo che il tema quando portiamo di libere che hanno un certo peso incidenza poi alla fine in aula qualcosa sento dire devo dire alla sinistra che oggi ci siete voi c'erano altri che vi rappresentavano nell'aula ma quando abbiamo discusso il PGT qualche anno fa tabula rasa proprio nessun intervento tutto quello che oggi voi reclamate e rivendicate era quella la sede eventualmente dove dovete discutere ci eravate come fattore culturale di peso come ci eravamo noi quando io il sindaco criticavamo l'ultimo PGT della sinistra che aveva imposto su gabbioneta il vincolo della fabbrica e io al vice sindaco di allora Morabito che ovviamente ha una chiara connotazione politica e culturale dissi chiaramente che quella era una cattedrale nel deserto e che tale sarebbe rimasta perché era impensabile imporre a un investitore di lasciare una fabbrica all'interno di una città che nel frattempo si stava trasformando oggi che ha la libertà quella azienda ancora oggi abbiamo difficoltà comunque a trasformarla perché quella trasformazione costa 65 milioni fare quell'investimento non è una passeggiata e in più in quell'esempio dove voi ci criticate che noi non disponiamo è proprio uno dei casi emblematici dove l'amministrazione è entrata tra virgolette a gamba tesa lì abbiamo l'obbligo di cessione di una delle ville che poi daremo ovviamente probabilmente in uso appunto per creare uno dei tanti famosi asili o comunque un luogo di aggregazione sociale abbiamo imposto ad esempio i posteggi pubblici non quelli pertinenziali per leggi ma quelli per il commercio perché noi ovviamente valorizziamo via le casiraghi all'interno del DUC come il recupero del commercio di vicinato abbiamo imposto di fare il commercio alla base di questo nuovo edificio in continuità sono tutte prescrizioni che si possono fare dove dove c'è un'importante trasformazione lì parliamo di un'azienda che ha già oggi un SL autorizzata di 11.000 metri quadri ha un peso un carico enorme arriverà grazie al recupero che ne farà a complessivamente 18.000 metri quadri ma se non gli viene data la possibilità di recuperare il costo della demolizione mai nessun investitore arriverà a fare qualunque tipo di trasformazione ed è questo quello che dovete capire perché diversamente non c'è soluzione a questa città la città rimarrebbe ferma perché questa è la dimostrazione il fatto che voi diciate state portando la città a avere il residenziale voi avete la memoria corta Casiraghi 422 non è una nostra creatura è una vostra creatura articolo 16 del vecchio PGT era una fabbrica era la dal cin che cos'è oggi? due edifici di residenziale di alto residenziale 8.000 euro all'anno di spese condominiale sapete chi ci vive in quel quartiere in quelle due fabbriche tre quarti di questi in quei due palazzi tre quarti dei residenti sono cittadini del quartiere dove io ho abitato e sono cresciuto quindi non è neanche vero questa soluzione che si costruisce e non si costruisce per i se stesi il tessuto sociale sta cambiando e poi vorrei capire qual è il reato se viene qua ad abitare un cittadino abbiente perché io vi devo ricordare anche che qui si amministra anche pensando al futuro della città e se voi come chiederete alla dottoressa pecora vi potrà confermare in questa città di 80.000 abitanti abbiamo una capacità di gettito IRPEF di una città da 30.000 abitanti ma abbiamo i costi sociali e ne sa qualcosa sezzore pizzocchera e la gestione complessiva da 80.000 e incassiamo per una città da 30.000 questo è un campanello di allarme che se non si dà una svolta non potrà sopravvivere questa città amministrativamente nei bilanci e come si dà la svolta ovviamente dando l'opportunità a certi fasce sociali di poter venire ad abitare a Sesto San Giovanni perché si è bypassato adesso la logica Milano Sesto Sesto è la città la Stalingrado si sta andando oltre il mercato è già andato oltre questa visione e la dimostrazione è i tipi di investitori che stanno arrivando sul territorio arrivano multinazionali arrivano i fondi fondi sociali quindi non è neanche vero questo che si costruisce solo residenza libera perché in realtà nelle proposte ci sono anche proposte di residenza convenzionata noi stessi abbiamo valorizzato questo elemento della convenzionata che abbiamo messo tra le varie premialità che un operatore nella sua libertà può scegliere di avere una premialità del 10% su tutto l'intervento se va a fare edilizia convenzionale quindi noi gli indicatori li abbiamo inseriti e non siamo noi che dobbiamo imporre però è l'operatore che valuta l'occorrenza se è come fare un tipo di scelta piuttosto che un'altra noi governiamo quello che sono i meccanismi di pianificazione complessiva quindi quando voi dite portate 20.000 abitanti nuovi i carichi li abbiamo già calcolati nel PGT e quando giustamente ricordava la consigliera Pini è stato aumentato lo standard da 31 siamo passati a 51 e vi ho anche detto me lo ricordo quando abbiamo discusso il PGT che noi non abbiamo neanche dovuto la necessità di considerare come standard l'erba interstiziale che invece il PGT della sinistra aveva dovuto fare per far quadrare tutto ultima riflessione quando ci si dice che noi ci identifichiamo io vorrei sommessamente ricordare senza ripristinare e ritornare sulle vecchie questioni che le aree falc il raddoppio dei volumi non li abbiamo dati noi noi adesso ci troviamo nella situazione incomoda di doverli governare e quando mi sento accusare che noi ci identifichiamo perché facciamo fare le verticalizzazioni perché cerchiamo di spostare tutta quell'SL che esiste sulle aree falc cercando di liberare ulteriormente gli spazi che sono già previsti occupati ridando ulteriori aree verdi perché al 20% ci si arriva attraverso questi meccanismi di verticalizzazione non attraverso la riduzione dell'SL esistente di cui gli operatori hanno diritto diritto di edificare queste sono le leggi che dobbiamo tenere presente queste sono le visioni perché passare da una logica dirigista dove dici qui devo costruire la fabbrica qui devo fare il terziario qui devo fare la residenza non funziona più anche Milano ha abbandonato questo modello da tempo è un modello che tutti riconoscono non funzionava noi siamo stati molto più diciamo avanguardisti da questo punto di vista quando abbiamo deciso di introdurre il tessuto indifferenziato certo ma chi non osa non ha neanche la gloria da questo punto di vista e noi crediamo che questo meccanismo via via verrà assorbito nella pianificazione via via da molte amministrazioni perché consente di evitare la variante perché il vero tema è che quando ci si incastra quando arriva un'occasione qual è il problema della pianificazione fissa e rigida è che arriva un intervento e l'operatore ti chiede la variante voi sapete cosa vuol dire fare la variante vuol dire tenere bloccata un'intera struttura per fare una mini variante per un palazzo c'è un caso che ci hanno chiesto questo voi avete dormito gli abbiamo detto perché quando abbiamo fatto il PGT l'abbiamo detto a Mari e Monti di darci le notizie di dire che cosa volevate fare sulle vostre atti loro hanno dormito e non ci hanno chiesto la variante su questo edificio e si tengono quello che è adesso non potete farci la variante le abbiamo detto no una variante ad hoc su un singolo edificio non metto in piedi l'amministrazione gli uffici il consiglio comunale per portare una variante su una pianificazione generale quando andremo a fare l'aggiornamento del PGT credo tra due anni avvieremo l'aggiornamento del PGT terremo conto eventualmente anche di questa richiesta un'ultima considerazione al consigliere Gatti che dice il privato decide lui se beneficiare del 40 bis no la legge non scrive questo gli edifici innanzitutto quando abbiamo istituito l'elenco li abbiamo individuati noi adesso i privati hanno la possibilità di chiedere ma se lei avesse letto la relazione tecnica avrebbe visto che abbiamo rifiutato l'inserimento di un nuovo edificio perché abbiamo ritenuto che non avesse le caratteristiche per poter beneficiare del 40 bis quindi alla fine l'ultima parola ce l'ha sempre l'amministrazione e per dirvi che non siamo supini a nessuno abbiamo in via Boccaccio appena adesso iniziato un contenzioso col privato perché gli abbiamo dato il diniego del permesso di costruire forti dei nostri convincimenti e consapevoli che quella proposta che lui continuava a perorare non fosse idonea al recupero di un altro edificio di smesso che era ovviamente un'ex fabbrica di via Boccaccio minore ma perché non era contestualizzato al luogo dove lui voleva fare l'intervento e su questo ecco come dico io si fa urbanistica non ci si piega si agevola perché quello deve fare la buona amministrazione ma al tempo stesso rimane sempre in mano le leve delle decisioni generali perché il PGT è la regola generale che vale per tutti perché come abbiamo sempre detto noi se uno ha il diritto ha diritto se uno non ha diritto non ha diritto ma questa regola vale per tutti da sinistra a destra grazie grazie presidente l'assessore ha fatto una replica lunga interessante secondo me naturalmente questa è una dichiarazione di voto quindi parto dando prima di tutto la dichiarazione di voto il nostro sarà un voto di assenzione su questa delibera ci tenevo per il poco tempo che ho a precisare delle cose perché un po' sono state dette insomma anche rispetto al mio intervento allora innanzitutto non è che voglio dire uno o più soggetti pensano che le persone fuori da Sesto non debbano venire ad abitare a Sesto cioè viviamo in un mondo globalizzato questa sarebbe una roba assurda a parte il fatto che sono l'ultima persona che chiede scusate carte d'identità alle persone e provenienze soprattutto ma la questione non è questa trovo anche discutibile il fatto che si dica finalmente debbano venire le persone abbienti a Sesto San Giovanni come se a Sesto San Giovanni non ci fossero mai state le persone abbienti ma viva Dio ma quando c'erano così come ci sono c'erano così come ci sono però Assessore se non puoi replicare il mio intervento parlandomi sopra che non è un intervento ma una dichiarazione di voto quindi di fatto non è questo il tema la preoccupazione non è una preoccupazione Sesto San Giovanni è una preoccupazione che hanno tutte le grandi città è invece il fenomeno per cui si spostano proprio perché non riescono a reggere le condizioni abitative gli abitanti quindi da Milano si spostano io trovo discutibili che non varchino precotto poi ognuno conosce chi conosce e discute con chi discute e arrivano a Sesto perché Sesto pur essendo oggi cara e meno cara di Milano e così via allora questo che non ha solo a che fare con questo articolo perché sarebbe ridicolo con questa legge e con il PGT ma ha a che fare con un processo come dire sociologico dal punto di vista abitativo però è un aspetto inquietante secondo me di cui le città dovrebbero tener conto perché io credo che sia importante controbilanciare perché altrimenti ci ritroveremo sempre di più questo processo che ci scivola dalle mani devo chiudere e quindi ribadisco il voto di assenzione Reventiamo Sesto Consigliere Amdi Voto di assenzione Lega Salvini Premier Consigliere Appini Grazie Presidente una città che avrà a breve a brevissima 45 ettari 45 mila e 45 ettari di parco senza contare tutti quelli che sono gli interventi che vengono fatti che prevedono sempre e comunque spazi verdi e non le erbe intestiziali come ha fatto menzione questa sera l'assessore fa veramente sorridere inserire il verde intestiziale ma vabbè io direi che non c'è nessun motivo per cui io debba avere il minimo dubbio quindi la Lega questa sera voterà in maniera favorevole grazie Forza Italia Consigliere Cupini Grazie Presidente ma no giusto come chiosa di quello che è stato detto allora è stato detto non c'è attenzione al verde la volta scorsa eravamo tutti in aula con una delibera che ha trovato l'unanimità di tutti non c'è attenzione ai giovani e alle politiche giovanili verrà costruito uno studentato un po' all'universitario non c'è attenzione al cambiamento climatico ci stiamo sforzando in tutti i modi e con le strisce blu e con le piste ciclabili di contribuire come dire a creare una situazione di maggioraggio sapendo che questo è un ambito assolutamente difficilissimo non abbiamo attenzione alle associazioni abbiamo deliberato forse 20 minuti fa una delibera che aveva ad oggetto la destinazione alla protezione civile di un immobile se scusate se la non attenzione è questa direi che stasera non si può che votare favorevolmente questa delibera e sperare che l'amministrazione comunale continui a essere non attenta in questo modo Partito Democratico Consigliere Maderloni Consigliere Cagliani prego lei la parola Sì grazie signor Presidente ho sentito la filippica dell'assessore che naturalmente quando esagera poi poi decisamente esce un po' dal dal contesto quando l'abbiamo già fatta sta discussione sulle ageniazioni per quello che io ero un po' silente perché il problema l'avevamo già sollevato allora ma quando viene detto che da parte vostra c'è questa grande disponibilità a occupare anche gli spazi che vanno riutilizzati lasciando mano libera al mercato questo l'ha detto lei assessore l'hanno detto gli altri consiglieri lasciando mano libera al privato l'importante è che comunque ci sia qualcosa questa la dice lunga su quale poteva essere la vostra posizione nei confronti di operatori privati che non sono il piccolo privato che adesso c'è il cappannoncino da buttare giù ma che si chiamano falc che si chiamano campari e che si chiamano gabbioneta come dice lei anziché concordare con falc come abbiamo concordato noi la cessione dei terreni i 45 ettari di verdi probabilmente gli avreste detto falc cosa vuoi fare di questa roba qui Zunino Pasini cosa vuoi fare ma fai quello che vuoi caro basta che me lo riempi questo terreno perché questo terreno qui io non so bene cosa fare quindi quando uno lascia mano libera al privato vuol dire che non ha una politica di gestione del territorio non perché lascia che il mercato occupi questi spazi non c'è una politica e questo è il problema mi sarebbe piaciuto vedere voi come sareste comportati con falc Zunino e compagnia cantante visto come vi comportate con il privato del capannoncino probabilmente sarebbe stata una situazione ancora peggiore perché è vero che lei ha sollevato il problema gabbioneta ma io ricordo in quest'aula che c'era qualcuno che ha detto ma figurarsi con quello che continuate a dire voi sulla Campari la Campari non verrà mai qui a Sesto la Campari da Milano è venuta a Sesto grazie alla maledetta giunta precedente prima delle vostre grazie per favore silenzio per favore gruppo misto consigliere Vincelli ah chiedo scusa ha chiuso convinto prego siamo subito fuori gioco consigliere Vincelli prego gruppo misto grazie presidente favorevoli sicuramente mi permetta però di fare una riflessione io qui ancora stasera la visione da parte delle minoranze su quello che vogliono come vogliono la città come vogliono il futuro di questa città non l'ho capito non lo capirò mai so solo che nel 2017 cioè sino al 2017 non avete combinato quasi nulla quasi nulla sì sì e questa è la realtà perché dal 1990 al 2017 il discorso delle aree Falc sono passati quanti 27 anni per favore per favore per favore consigliere Cagliani rispettiamo rispettiamo le fasi e aggiunga del tempo grazie grazie prego proceda quindi e io nel 1990 ero presente qua come democrazia cristiana e so perfettamente bene anche la variazione la variazione che c'è stato di un piano regolatore quindi non venite a raccontare storielle forse a qualche mio collega a me no quindi dal punto di vista della vostra visione quasi zero e voglio solo ricordare qualche sera fa siamo stati invitati da Uniabita cooperativa 120 anni quest'anno io e e la miranda e devo dire che davanti davanti a operatori importanti banche importanti il l'assessore la miranda ha avuto un plauso per quello che sta portando avanti insieme a tutta la giunta insieme a tutta la maggioranza sulla questione della legge regionale 40 bis e Uniabita voglio solo ricordarvi cooperativa cooperativa a tre operazioni sul territorio sestese e altrettanto su altri territori tra cui Milano Milano e Milano e Cinisello quindi queste tre operazioni sono tre che fanno parte chiaramente di questi 20 quindi diciamo che non c'è solo il privato liberista solo da parte vostra ma ci sono anche delle cooperative che hanno creduto credono e non sono riusciti a farle prima bisognerebbe chiedere il perché forse alle amministrazioni precedenti al 2017 grazie per favore vi chiedo un po' di senso in aula proseguiamo amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente allora velocissimo probabilmente noi saremmo stati probabilmente noi saremmo stati probabilmente voi sareste stati ma è sempre probabilmente non è un dato di fatto comunque va bene ognuno ha diritto di pensare al proprio probabilmente una constatazione così non da io non sono un esperto di urbanistica però sono sestese non mi sembra che i rapporti con le varie compagnie i nomi citati prima si faceva Zunino Pasini Caltagirone una roba del genere siano stati felici come epilogo per cui non so magari non è proprio un esempio così brillante da portare questo è proprio come constatazione comunque il nostro io sono per quello che mi è stato dato di vedere di toccare non con mano perché i risultati però quello che è l'impegno di quello che è la tangibilità di questi progetti non posso che essere favorevole a questo tipo di discorso per cui il nostro voto sarà favorevole grazie De Italia consigliere Turolla grazie presidente io sarò un po' di parte però dopo la replica dell'assessore La Miranda non posso che votare a favore per questa delibera permettetemi solo una precisazione riguardo quello che diceva il consigliere Cagliani sul dare via libera al privato nel corso dell'ottocento c'è stata una città che è stata costruita in questo modo ossia lottizzando interi quartieri e affidandoli con una concessione di 90 anni a privati che potevano costruire quello che volevano beh questa città oggi si chiama Londra e direi che non è proprio una cittadina che è cresciuta male grazie Stefano sindaco consigliere Ghezzi grazie presidente giusto un chiarimento penso di essere stato frainteso nell'intervento quando mi si dice che io sia a favore del liberismo anzi penso di essere stato chiaro che è esattamente la visione opposta libertà non è liberismo quindi prima definizione la seconda cosa mi permetto di commentare al consigliere Turolla questa città era chiamata la Stalingrado d'Italia non perché ci fossero le fabbriche ma perché c'erano persone che amministravano che credevano che l'interesse del privato sia sempre avulso dall'interesse della collettività questa è la verità per cui è stata chiamata Stalingrado d'Italia non perché c'erano le fabbriche e questo è il metodo che abbiamo introdotto noi è un metodo diverso è un metodo che lascia l'iniziativa del privato il rischio perché il privato quando viene sul territorio rischia rischia il proprio capitale ci mette lì dei suoi soldi e non è stolto lasciando al nulla l'investimento che ha fatto prima cosa inoltre dovremmo essere solo grati di provvedimenti che permetteranno ad esempio a luoghi come il Cinema Elena che è una cosa inguardabile che è rimasta fattiscente per anni finalmente di poter vedere una ricostruzione un qualcosa che cambia in un quartiere profondamente degradato qua non si tratta di fare nessuna umiliazione del giudizio dell'opposizione mi dispiace lo dico alla consigliera che è intervenuta precedentemente però bisogna parlare sulla base dei fatti ho sentito dire prima abbiamo approvato tre deroghe al PGT certo ma andiamo a leggere il contenuto della deroga abbiamo derogato 46 metri di altezza rispetto ad un'altezza ponderale degli edifici circostanti di 42 metri abbiamo parlato di una deroga in merito all'indice di copertura che passa da un equilibrio 40-60 ad un equilibrio 42-58 signori del 2% perché cosa? per dare respiro ad una cosa che anche il comune di Milano non riesce a fare che è uno studentato quindi taglio perché sono al limite dei miei tempi per cortesia facciamo interventi facciamoli nelle commissioni parentesi l'ultima commissione è stata a quanto un po' direi anche ridicola perché in un quarto d'ora abbiamo chiuso e tutti questi commenti avremmo potuto farli lì dentro magari risparmiando anche un po' di tempo quindi abbiamo le sedi opportune discutiamo per favore il vostro voto è favorevole grazie per favore manteniamo ordine in aula grazie passiamo alla votazione passiamo alla votazione apro la votazione potete votare abbiamo 23 voti validi su 23 di cui 16 favorevoli e 7 astenuti dichiaro la delibera approvata ed è esecutiva chiudo la votazione passiamo all'altro punto all'ordine del giorno punto 6 azienda consortile csbno affidamento concessione per la gestione delle civiche scuole e adeguamento adesione delle tre biblioteche comunali ex articolo 14 decreto legislativo numero 201 ok 201 del 2022 passo la parola all'assessore Nisco per la presentazione della delibera grazie prego assessore quando è pronto grazie presidente buonasera a tutti i consiglieri scusate il piccolo disguido tecnico e buonasera a tutti i cittadini scusa se solo mi puoi richiedere la parola gentilmente chiedo scusa solo per far ripartire prego grazie grazie stavo salutando oltre che i consiglieri presenti ovviamente tutti i cittadini sia presenti che collegati la proposta di delibera in discussione la proposta di delibera in discussione ha ad oggetto la duplice componente del rapporto che lega la città di Sesto San Giovanni con l'azienda consortile CSBNO l'azienda consortile CSBNO acronimo che sta per culture, socialità, biblioteche e network cooperativo è l'azienda consortile che gestisce per conto di 32 comuni della città metropolitana di Milano il sistema bibliotecario oltre che gestire su richieste specifiche in virtù di rapporti specifici quelli che sono determinati servizi nell'area lato senso culturale in favore dei soci ma anche soggetti non soci che ne fanno richiesta CSBNO è una delle poche reti bibliotecarie dotate di personalità giuridica ed è una delle due fino al 2022 era l'unica ad avere la forma dell'azienda speciale come dicevo l'azienda conta dei comuni tra i propri soci sono 32 allo stato attuale i soci del CSBNO e circa 60 biblioteche di varia tipologia gestisce poi tre centri per la documentazione della storia locale due teatri talune scuole civiche tra le quali quelle della nostra città l'Accademia Vivaldi di Bollate ed ha diverse sedi di corsi di formazione per il tempo libero in 18 comuni il bacino di utenza lo ricordavo in commissione è molto molto ampio è di circa 750.000 persone parliamo di qualcosa che equivarrebbe alla quinta città italiana come numero di abitanti e il CSBNO gestisce due macro categorie di servizi la prima macro categoria di servizi è quella di servizi cosiddetti indivisibili che sono i servizi che vengono forniti a tutti i comuni soci per il fatto che questi comuni questi enti sono associati all'azienda consortile in questo contesto si colloca la gestione del servizio bibliotecario quindi il servizio bibliotecario è connaturato alla adesione all'azienda consortile e la durata del rapporto è parametrata alla durata dell'azienda consortile stessa che al momento è fissata con scadenza al 31 dicembre 2030 vi è poi una seconda macro categoria di servizi che sono i servizi cosiddetti a richiesta lo menzionavo in precedenza servizi quali formazione per il tempo libero filone nel quale si innestano le attività i corsi svolti dalle scuole civiche di Sesto San Giovanni che ricordo solo per completezza hanno quattro indirizzi danza, musica, arte e lingue erogano 55 corsi e nell'ultimo anno accademico 2022-2023 hanno avuto circa 611 utenti o meglio 611 utenti registrando dei numeri incrementali rispetto all'anno accademico precedente il rapporto tra il comune di Sesto San Giovanni e il CSBNO è tale per cui le due derivazioni quindi scuole civiche e biblioteche sono gestite dall'azienda consortile in toto con la sua organizzazione e con proprio personale per quanto riguarda le scuole civiche e tramite personale dipendente del comune per quanto riguarda il servizio bibliotecario le tre biblioteche comunali interessate sono ovviamente la biblioteca centrale la biblioteca dei ragazzi e la sede Marx i comuni ovviamente possono richiedere dei servizi bibliotecari aggiuntivi rispetto a quelli cosiddetti indivisibili e questi servizi vengono retti da convenzioni ad hoc ad oggi il comune di Sesto San Giovanni ha in essere quale convenzione ad hoc solo quella relativa alle scuole civiche per dare contezza del motivo per cui all'interno della proposta di deliberazione si parla di un da un lato dell'affidamento del servizio per la gestione delle scuole civiche e dall'altro dell'adeguamento dell'adesione delle tre biblioteche comunali faccio un brevissimo escursus di ordine cronologico cronologico-giuridico meglio che dà evidenza della differente tipologia di rapporto per quanto riguarda le scuole civiche c'è stata inizialmente nel 2018 una deliberazione di giunta comunale seguita da una deliberazione di consiglio comunale che ha affidato per il triennio 2018-2021 la gestione delle scuole civiche al CSBNO nel 2019 è stato approvato lo schema del contratto di servizio nel 2021 nell'emore della stipula di un nuovo contratto si è modificata la scadenza al 31-12-2021 sempre nel 2021 con deliberazione di giunta comunale c'è stata un ulteriore prolungamento al 30 settembre 2023 e si è arrivati ad una determinazione dirigenziale del 5 settembre 2023 che ha fatto entrare questo rapporto in una situazione di cosiddetta proroga tecnica quindi proroga che fa sì che il rapporto sia ancora valido fino al 31 gennaio 2024 e questo è il motivo per il quale per quanto riguarda le civiche scuole ci troviamo a proporre al consiglio comunale di affidare il servizio per un ulteriore quinquennio con decorrenza primo febbraio 2024 fino al 31 gennaio 2029 per quanto invece riguarda il rapporto aventi ad oggetto la gestione delle biblioteche questo rapporto come dicevo inizialmente connaturato alla stessa adesione all'azienda consortile è un rapporto che non può che risentire dell'entrata in vigore del decreto legislativo 201 del 2022 cioè un testo normativo che ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che è un testo che ha richiesto agli enti locali di rifare sostanzialmente delle attente valutazioni circa le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi in discussione ai fini del loro affidamento a soggetti terzi quindi proprio per adeguare a questa novità normativa il rapporto bibliotecario c'è stata la necessità di rimetterle mani sostanzialmente su questo rapporto di riallinearlo a queste novità e quindi di ripresentarlo in forma adeguata ed integrata all'approvazione di questo consiglio nonostante come dicevo ci sia un allineamento perfetto della gestione del servizio da parte del CSBNO alla durata del CSBNO stesso per ragioni di cautela nella proposta di deliberazione si dà atto che la proposta è quella di adeguare il contratto in essere con CSBNO per un quinquennio questo perché l'articolo 19 del decreto legislativo 201 del 2022 che menzionavo prescrive che i rapporti tra gli enti locali e soggetti terzi non possano andare oltre la durata del quinquennio quindi per un discorso di cautela normativa cautela interpretativa si è reputato opportuno proporre alla vostra attenzione questo tipo di deliberazione per il resto dati e informazioni sono stati forniti in una commissione nella quale si è discusso di tutto pertanto alla vostra attenzione questa proposta grazie grazie assessore Nisco dichiaro aperta la discussione rimani in attesa di prenotazioni prego cos'è il minazzo allora la parola buonasera di nuovo dunque salutiamo con grande favore il rinnovo della convenzione con il CSBNO perché stare in questa rete crediamo che sia davvero importante dato che permette di erogare la cittadinanza dei servizi che diversamente il comune da solo sarebbe in grave difficoltà appunto a riuscire ad erogare sappiamo anche che questa adesione è un costo naturalmente come tutte le cose della vita non è una adesione meramente formale una firma alla fine di un contratto ma c'è un costo addirittura un costo a cittadino in commissione abbiamo appreso che è un costo di 86 centesimi per ogni cittadino e che di recente appunto è anche aumentato in quest'anno quindi siamo consapevoli che c'è un costo ma siamo anche certi che il valore di questo investimento che si fa nell'aderire alla rete del CSBNO sia comunque un valore importante che torna sulla nostra città in termini di servizi ma non soltanto in termini di prestito bibliotecario ma anche di aggregazione culturale e di possibilità che vengono offerte a larghe e diverse fasce della nostra popolazione quindi tutto bene tutto bellissimo sì ma c'è un auspicio ma facciamo anche un invito e l'auspicio è che questi 86 centesimi non siano un punto di arrivo ma siano un ottimo ed eccellente punto di partenza per affiancare questi servizi aumentarli e renderli ancora più efficienti quindi la nostra disponibilità nel collaborare nel immaginare delle proposte è già stata dichiarata la rinnovo la ribadisco anche questa sera quindi se ci sarà la volontà insomma di muoversi in questa direzione mettiamo a disposizione le proposte già fatte e quelle che potrebbero nascere grazie grazie Alex se è il minazzo passo a parola la consigliera Pagani prego sì grazie presidente sarò abbastanza veloce per due motivi primo perché la commissione è stata molto dettagliata e quindi sono state fatte tutte le come direi le domande necessarie ma soprattutto si è spiegato molto bene quello che poi l'assessore ha ribadito questa sera in una maniera giustamente un filo più sintetica rispetto al rinnovo e a motivi dell'affidamento a questo servizio a questi servizi al CSBNO per quanto ci riguarda come città in comune siamo assolutamente favorevoli crediamo che questa esperienza sia un'esperienza positiva lo dimostrano i dati ma lo dimostra anche come dire la percezione generale insomma che c'è in città da parte di chi usufruisce di questi servizi quindi sicuramente questo affidamento che fu scelto tempo fa è stato come dire una buona scelta si parlava in commissione della possibilità che questo di questa azienda costruttiva si allarghi ancora di più e che questo comporti una maggiore diciamo ricchezza da parte di tutti gli enti insomma che ne fanno parte e questo non può che essere interessante anche per noi come amministrazione comunale perché a livello circolare voglio dire e sistemico ci guadagniamo tutti quanti quindi speriamo nella crescita di questa azienda che come dire gestisce dei servizi importantissimi per la nostra città e che quindi possono essere davvero qua si può aprire un ragionamento su cosa fare come fare e come farlo al meglio grazie grazie a lei altri interventi in aula prego consigliere Maderloni ha le la parola grazie parto da un dato che mi ha mi ha colpito personalmente ma che riprende il solco degli interventi della mia collega Irene e della collega Pagani il 500 mila euro è la capacità di investimento che questo consorzio se ricordo bene annualmente riesce a mettere sul campo per l'acquisto dei libri 500 mila euro è una cifra molto consistente se pensiamo che tutti i cittadini sestesi dai tre anni in su perché mi sembra che questo sia il discrimine per accedere ai servizi possa usufruire di questo patrimonio è un patrimonio ovviamente intangibile culturale ma che dà la possibilità invece a una comunità di erudirsi di combattere dei fenomeni come l'analfabetismo di ritorno che anche nel nostro paese si sta rimanifestando in maniera preoccupante così dicono le statistiche i rapporti che si leggono in giro quindi il fatto che la nostra città possa usufruire di una leva strategica in questo con questa capacità di agire non solo nell'ambito diciamo dei testi ma anche nell'ambito di quelle che sono tutti i servizi collegati alla biblioteca e permette soprattutto con un costo pari a zero per il cittadino che si che si iscrive al servizio di biblioteca di poter avere un patrimonio di conoscenze che aiutano a cementificare una comunità scusatemi se lo ripeto ma credo che sia fondamentale io credo che questa delibera al di là dell'aspetto tecnico che sia dell'affidamento in concessione abbia e questa sia la sede opportuna non la commissione perché in commissione abbiamo capito che si devono fare domande tecniche qui invece si fanno ragionamenti politici quindi una differenza c'è e vale giusto rispettarla come dicevo credo che sia importante anche evidenziare gli aspetti e le ricadute che questa scelta può riportare per il bene della collettività come dicevo il dato dei 500.000 euro è un dato molto forte che il Comune di Sesto da solo non sarebbe capace di mettere in campo ma credo neanche di avvicinarsi minimamente a questo chiedendo però un contributo in fin dei conti sul bilancio che abbiamo detto che è poco meno di un euro quindi noi offriamo una grande opportunità io spero che come l'assessore enunciava in commissione il consorzio allarghi ulteriormente il territorio per poter aumentare ulteriormente la capacità di creare cultura non solo tramite il prestito dei libri ma sui servizi ecco e su questo vorrei concentrare l'intervento l'intervento dovrei concentrarlo su chiedere un impegno politico da parte dell'assessore in primis e di questa amministrazione su sulle prospettive di quei servizi che come l'assessore diceva sono dei servizi possiamo dire accessori adesso mi scuso il termine mi è sfuggito ma non sono quelli universalistici a richiesta perfetto ecco grazie credo che una città che si appresta o che ha la prospettiva di crescere ulteriormente di ospitare strutture di eccellenza ma già di essere un polo da un punto di vista produttivo ospita delle realtà di qualità abbia un patrimonio artistico e culturale che può essere interessante debba sfruttare questo tipo di strumento per richiedere dei servizi che aiutino la città a venire incontro a quei bisogni per quelle fasce di persone che magari non conoscono il nostro territorio che vengono a vivere magari per un periodo di tempo determinato in questa città e che quindi possano non beneficiare delle opportunità che a livello culturale non solo la nostra città ma tutta l'area metropolitana può offrire credo che avere uno strumento con una capacità di azione e di sinergie tali possa aiutare veramente a fra cinque anni trovarsi qui e vedere e auspicare che oltre le scuole civiche oltre il servizio di gestione delle biblioteche ci possano essere altri servizi che magari in altre realtà già ci sono e che riscontrano un interesse come periodo democratico come accennava la mia collega Irene Milazzo nella commissione dello scorso luglio se non ricordo male avevamo avanzato ad esempio l'opportunità proprio per il periodo storico in cui si trovano le tre biblioteche a soluzioni come il bibliobus cioè la possibilità di avere una sorta di biblioteca itinerante che vada a raggiungere quelle porzioni di territorio che sono magari più distanti dalle nostre tre sedie delle biblioteche oppure pensare magari a rafforzare l'offerta culturale che la nostra città ha che offre con servizi che coinvolgono le scuole affiancando magari ad esempio al concorso del superlettore che solo pochi mesi fa aveva riempito questa sala consigliare di bambini contenti di aver letto tanti libri e i genitori su negli spalti per poter lasciare il loro spazio e aiutare ovviamente anche chi fa fatica perché viene da altre parti del mondo a vivere qui e pensa che qui possa avere la sua sviluppo uno strumento di maggior integrazione e di conseguenza di rafforzare quel concetto di comunità che noi più volte abbiamo ritenuto essere la chiave di volta per migliorare non solo i voti a scuola la conoscenza della lingua italiana ma anche proprio la ricchezza culturale patrimoniale delle esperienze che rendono le comunità effervescenti creative e capaci di generare anche innovazione e futuro perché noi dobbiamo pensare che il futuro delle persone che abiteranno sesto nel 2030 nel 2040 nel 2050 debba passare da questo tipo di servizi e è fondamentale per noi come Partito Democratico che questi servizi crescano si rafforzino nella loro sinergie per poter far fronte alle difficoltà che gli enti pubblici non lo nascondiamo e ne abbiamo coscienza hanno e si trovano per far fronte ai bilanci che devono affrontare sempre tante emergenze ma crediamo che la cultura sia una leva e soprattutto mettere a sistema enti pubblici permetta di far sì che le tante molliche o le tante gocce come spesso si dice formino un oceano in questo caso noi uspichiamo un oceano di cultura di servizi culturali e servizi che permettano anche agli stessi sestesi che magari sono nati qui di conoscere il mondo che ci sta che sta fuori e che potrebbe magari poi ritrovare a fianco come vicino grazie grazie a lei chiede se ci sono altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione possiamo passare alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani grazie presidente il nostro voto sarà favorevole rimentiamo sesto consigliera anche per noi il voto sarà favorevole alla luce dell'esperienza positiva e con l'augurio che ci possa essere una promozione di nuove iniziative culturali e un potenziamento dei servizi già esistenti grazie grazie presidente io farei solo un po' di attenzione a parlare di integrazione legare l'integrazione al CSBNO solo un attimo di delicatezza visto quello che sta succedendo e che stiamo vedendo anche leggendo i giornali comunque grazie il nostro voto sarà favorevole forza Italia consigliera Cuppini presidente voto favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni giusto ok allora come detto negli interventi che abbiamo portato in aula come Partito Democratico voteremo a favore di questa di questa delibera perché crediamo lo ribadisco fortemente nel valore della cultura come elemento di integrazione di conoscenza e anche e anche di leva perché la pace sia una pace giusta e una pace condivisa e non sia una pace di parte grazie gruppo misto consigliere Vincelni grazie grazie presidente noi moderati del gruppo misto siamo favorevoli mi lasci porre così una riflessione allora io devo dire che l'assessore in commissione è stato molto esauriente la sua relazione è stata ricca e preziosa io però devo dire che sulla questione del del consorzio sono sempre stato nella precedente amministrazione essendo anche presidente del bilancio non sono mai stato proprio del tutto favorevole proprio alla questione chiaramente dei costi e lo vedo anche comunque anche in in questa in questa nuova fase però il fatto che ci sia da parte del nostro assessore anche la presenza di garante nella zona territoriale mi fa ben sperare anche perché i costi rispetto a quello che possono essere chi usufruisce di questi sia della biblioteca e sia delle scuole civiche in particolare dal 2021 dai 505 611 per le civiche e altrettanti per quanto riguarda il discorso della biblioteca ecco l'auspicio è quello di dire di vedere più gente tutti siamo d'accordo sulla questione della cultura quindi di investire sulla cultura però sarebbe opportuno iniziare a pubblicizzare meglio questi nostri servizi anche perché riportarli in tutte le sedi magari anche dei prossimi CAM che andremo a istituire anche sul territorio quindi anche su quello Matteotti ultimamente o sugli altri sugli altri che possono essere presenti cioè cercare in qualche modo di pubblicizzare questi servizi perché sono sicuramente importanti e poi al di là dell'integrazione io parlo sempre di interazione cioè con le persone bisogna interagire il discorso di integrazione la vedo chiaramente molto lungo e sicuramente per quanto alla questione della pace ben venga amiamo Sesto Lanzoni consigliere Molteni grazie presidente allora sul valore della cultura penso che siamo tutti d'accordo al di là delle preoccupazioni legate magari alla spesa ma secondo me sono sempre un grosso investimento poi dopo i conteggi e quanto abbiamo a disposizione sarà compito degli amministratori di chi in questo senso regola appunto le spese poi io posso solo dire che per tutto quello che ho avuto modo di constatare di persona del lavoro del grosso lavoro fatto che in commissione è stato presentato anche proprio dettagliatamente dall'assessore penso che in questo momento anche un momento che è un po' di transizione col discorso che abbiamo in restauro la sede centrale della biblioteca meglio non poteva essere fatto per cui il nostro è sicuramente un voto favorevole grazie fratelli d'Italia consigliere Turollo grazie presidente il nostro voto sarà favorevole e volevo sottolineare appunto l'opportunità di questa rete delle biblioteche che ho potuto di cui ho potuto usufruire proprio di recente il fatto di avere una disponibilità maggiore di documenti libri è senz'altro molto positivo per la città tutta grazie Stefano Sindaco consigliere ricupero grazie presidente buonasera a tutti allora innanzitutto ringrazio l'assessore per l'esposizione e noi come gruppo lista di Stefano il nostro voto sarà favorevole anche perché facendo questa proroga dall'affidamento è naturalmente un valore aggiunto per tutta la nostra comunità perciò il nostro voto sarà favorevole grazie grazie a tutti possiamo passare alla votazione della proposta di delibera apro la votazione potete procedere 23 voti validi su 23 abbiamo 23 voti favorevoli la proposta di delibera viene approvata possiamo procedere per la votazione dell'immediata eseguibilità apro la votazione 23 voti validi tutti favorevoli la delibera è immediata dichiaro la delibera esecutiva chiudo la votazione possiamo passare al punto 7 all'ordine del giorno approvazione regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Sesto San Giovanni passo la parola all'assessore paterna per la presentazione della delibera la stessa grazie prego assessore grazie presidente saluto tutti i membri del consiglio e tutti i cittadini il secondo regolamento che nel giro di poco tempo portiamo davanti a questo consiglio e ringrazio quindi gli uffici del demone amministrativo per il grande e importante lavoro che hanno fatto il regolamento che andremo stasera a deliberare è volto a disciplinare la concessione in USA terzi secondo i principi di economicità imparzialità trasparenza ed efficacia all'interno vengono individuati i requisiti modalità e criteri di selezione ovvero le procedure di assegnazione degli immobili si compone di 42 articoli e di questi adesso permettetevi di farvi un sunto sebbene l'orario ormai non ci accompagna un po' noioso però è giusto che sia così allora patrimonio dei beni immobili si compone dei beni demaniali ovvero quelli che sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività e pertanto rimangono fuori commercio i beni del patrimonio indisponibile ovvero gli interessi pubblici quali le scuole impianti sportivi spazi dedicati a musei il patrimonio disponibile invece si compone dell'uso abitativo e non abitativo i primi due vengono dati in uso con provvedimenti di diritto pubblico ovvero la concessione mentre i beni del patrimonio disponibile vengono concessi a terzi tramite contratti di diritto privato quale la locazione o il comodato vi è poi un'altra parte di beni che sono quelli vincolati ovvero quelli soggetti in interesse storico-artistico e possono essere concessi a chi si impegna a restaurarli e a renderli fruibile in questo caso la procedura è sempre quella di evidenza pubblica quindi procedure di assegnazione per i beni demaniali e dei beni patrimoniali disponibili avvengono tramite la concessione amministrativa il criterio di assegnazione è qui fissato su un punteggio di 100 che tiene conto della valutazione economica di elementi tecnici o di entrambe vi sono particolari procedure di concessione nel caso in cui ad esempio alcuni esperimenti siano andati a vuoto sebbè purché siano compatibili con i principi di tutela della concorrenza inoltre in alcuni casi il comune può derogare ricorrendo alla procedura negoziata quando ci sono degli interessi da parte di enti statali fermo rimanendo fermo restando la presenza del interesse pubblico la concessione alle associazioni fondazioni comitati e altri organismi senza scopo di lucro per questi il canone viene calcolato in base ai prezzi del libero mercato non può mai essere al di sotto e subisce delle variazioni annuali secondo Istat vi è previsto un canone gratuito per i soggetti iscritti a RUNS ovvero il registro unico nazionale del terzo settore e un canone agevolato per enti pubblici purché abbiano appunto costruito una progettualità che è condivisa con il comune l'atto di concessione viene stipulato mediante una scrittura privata gli obblighi del concessionario sono gli oneri di manutenzione ordinaria e sorordinaria e pagamento delle utenze il contratto prevede poi il deposito di una garanzia fideusoria e la polizia assicurativa la durata è di sei anni il rinnovo può essere fatto soltanto una volta non è mai tacito e ovviamente è sempre possibile la revoca e la decadenza appena di ovviamente a causa di inadempimenti vi è poi la concessione temporanea e occasionale che può avere attività periodo fino ad un anno per finalità culturali o commerciali purché di interesse comunale il canone è sempre calcolato in base ai prezzi di libero mercato e può essere gratuito in caso di collaborazione con il comune passiamo alle procedure di assegnazione dei beni patrimoniali disponibili ovvero quelli che seguono che sono stipulati tramite contratto di locazione o comodato allora la locazione tramite procedura evidenza pubblica o procedura negoziata l'assegnazione viene fatta a chi ha presentato la migliore offerta in aumento a quello di base della gara oltre ad avere tutti i requisiti di base che sono indicati all'interno del regolamento il contratto viene stipulato di norma appunto mediante scrittura privata la durata è di 6 anni più 6 per gli immobili 4 più 4 per i posti auto e rimesse il canone viene sempre calcolato in base ai valori del libero mercato e subisce anche una variazione istat il concessionario che quindi diventa il custode del bene deve assolvere alla manutenzione ordinaria straordinaria il pagamento delle utenze il comune richiede a titolo di tutela una garanzia fideusoria polizia assicurativa oltre a versamento di tre mensilità a titolo di cauzione la locazione transitoria va invece in deroga allo strumento urbanistico per attività diretta per seguimento di finalità pubbliche e sociali ma la stessa decade all'attuarsi del procedimento previsto nel piano regolatore il comodato d'uso gratuito infine può essere concesso agli enti pubblici enti del terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro per i quali deve esserci l'interesse della comunità quindi uno svolgimento di attività sociali legato alla valorizzazione del patrimonio la durata del comodato è di due anni e non può essere tacitamente rinnovato tra gli obblighi del concessionario vi sono tutti gli oneri afferenti gli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria pagamento delle utenze per invece moduli particolari quindi quelli legati alla valorizzazione dei beni immobiliari sono edifici che rientrano sotto la tutela e valorizzazione essenziali del decreto legislativo 42 del 2004 la durata massima di concessione è fissata in 50 anni la procedura di aggiudicazione è sempre ad evidenza pubblica i criteri di assegnazione sono espressamente indicati nel regolamento il canone è sempre basato su valori di mercato tenuto però conto in questo caso degli investimenti necessari alla riqualificazione dell'immobile è previsto anche un canone ridotto per un periodo definito di start up perché dipende appunto dalla durata del progetto negli obblighi in questo caso del concessionario oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie vi sono anche gli oneri derivanti da restauro risanamento e ristrutturazione una peculiarità su questi su questi tipi di immobili che nel caso di allineazione viene riconosciuto al concessionario il diritto di prelazione all'acquisto per tutto quello che poi non viene previsto all'interno del regolamento si applicano ovviamente disposizioni di legge vigenti questo è l'attintesi grazie grazie a lei Assessore dichiaro a questo punto aperta la discussione sono interventi in aula prego signora Pagani grazie grazie presidente allora sarò abbastanza breve nel senso che intanto credo che sia importante che venga fatto questo regolamento perché di fatto un regolamento indica in maniera trasparente condivisa ciò che si può fare ciò che si decide anche di fare ma anche ciò che non si può fare e secondo me questo ha valore da entrambe le parti e da questo punto di vista credo che senza entrare o meglio senza entrare specificatamente nel merito di ogni singolo articolo poi c'è qualcosa che mi ha lasciato un po' perplessa ma che in realtà può far parte anche di un sistema complesso insomma di articoli resta il fatto che sicuramente un regolamento ci garantisce una equità anche sia come cittadini ma soprattutto come soggetti presenti diciamo in città rispetto anche agli interessi e ai beni di questa città questo mi rincuora anche rispetto al fatto che negli anni precedenti e ci tengo a ribadirlo anche se chiaramente non è direttamente interessata l'assessore in questione però sicuramente insomma questa giunta rispetto a dei beni insomma di proprietà del comune che erano afferenti o assegnati alle associazioni ci sono stati degli atteggiamenti che sono stati leggendo il suo regolamento direi anche discriminatori onestamente rispetto alle regole che vengono che sono state poste diciamo dagli uffici tecnici ma evidentemente sotto la supervisione politica quindi questo mi sembra sicuramente un avanzamento di posizione e anche di maturità da parte dell'amministrazione comunale ho trovato un po' complesso e difficoltoso capire quali sono poi come vengono calcolati all'interno del regolamento quando si parla insomma di valutazioni che vengono fatte in merito alla partecipazione ai bandi mi riferisco prevalentemente alla parte che riguarda diciamo le associazioni ma insomma non solo appunto intanto si fa riferimento ad un valore economico ad un valore tecnico e poi io mi sono segnata misto cioè un po' secondo me anche come dire mi avrebbe fatto piacere che ci fosse scritto anche un valore sociale che è un'indicazione o meglio trovare poi gli indicatori è cosa interessante non semplicissima però ecco all'interno del regolamento non si capisce molto bene come vengono attribuiti probabilmente io mi sono detta che forse questa questo regolamento è un insieme di sistemi ma poi sarà all'interno dei bandi che andranno definite ovviamente oltre che le linee guida dei bandi anche i vari diciamo così punteggi che vengono attribuiti anche mi chiedevo per esempio sempre rispetto a questo sempre in queste situazioni quando appunto quali sono poi gli discriminanti e come vengono valutate rispetto ai punteggi nel momento in cui partecipare per esempio a dei bandi di assegnazione ci sia più di un soggetto poi ci sono delle cose che non mi ero segnata che non ho ben capito nel senso articolo 8 parliamo per i beni demaniali e il patrimonio indisponibile si può saldare la procedura d'evidenza pubblica per l'accessione di un immobile se questo è richiesto da un soggetto che ha già in concessione un bene confinante non non ne ho compreso il senso fino in fondo ma non è una critica in sé all'articolo quello che voglio dire è questo è sicuramente un bene ed è sicuramente positivo che ci sia un regolamento al quale tutti ci richiamiamo dove ci sono delle regole che sono stabilite poi si possono condividere fino in fondo al 50 al 100% per esempio io avrei detto che se c'è un rinnovo il rinnovo non va richiesto insomma perché se no che rinnovo è però questa è una mia opinione insomma mi sembra che sia anche un procedimento di semplificazione laddove poi comunque l'amministrazione comunale si intesta la possibilità di revoca dei beni in qualsiasi momento perché anche questo è scritto all'interno all'interno del regolamento però ripeto il fatto che ci sia un regolamento quindi un punto dal quale partire che sia condiviso che le regole siano trasparenti va va più che bene insomma mi sembra un salto di qualità grazie grazie a lei consigliere Pagani passo la parola al consigliere Cagliani prego sì grazie presidente beh io faccio il paio con la dichiarazione che ha fatto adesso la consigliera la consigliera Pagani e in effetti saluto con favore che ci sia un regolamento perché nel momento in cui esiste un regolamento sull'utilizzo di questi beni è un bene per tutti sia per chi concede sia per chi utilizza poi questo bene ci sono alcune cose nel regolamento che cioè suscitano qualche perplessità ecco e di conseguenza su questo regolamento qui di cui verificheremo la bontà nel momento in cui viene calato a terra quindi quando verrà poi praticato io chiedo all'assessore la disponibilità fra sei mesi fra un anno cioè mi rimetto il suo buon cuore se magari ci risiediamo intorno a un tavolo in commissione naturalmente e rivediamo la bontà di tutti gli articoli che abbiamo che stasera verranno probabilmente votati in modo tale che una volta fatta la verifica sul terreno concreto si possa eventualmente limare o risolvere le mie perplessità o le perplessità che possono insorgere quindi se ho questa sua disponibilità la ringrazio altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione possiamo passare così la dichiarazione di voto città in comune assessore vorrà replicare chiedo scusa prego prego assessore chiedo scusa passo la parola all'assessore paterna per la replica ecco ne approfitto perché comunque sono sempre degli spunti importanti questa è sicuramente una base senza una base è difficile poi fare delle modifiche ovviamente tutti i contratti che sono stati stipulati hanno se non sulla carta intestata di Sesso San Giovanni sempre seguito le normative vigenti questo è ovvio per cui sicuramente dobbiamo verificare controllare poi che tutti quanti gli aspetti siano correttamente adeguati ai nostri immobili e quindi alle associazioni o ad altri che entreranno in possesso cioè in uso dei nostri immobili su alcune domande che mi sono state fatte ad esempio l'aspetto sociale in questo caso il regolamento raccoglie sia l'aspetto delle associazioni sia l'autorassociazione che il lato delle residenze per cui quando parliamo delle associazioni è alla base di un progetto quello che sia abbia una finalità sociale per cui qui magari non si trova perché è una base ci è dato un po' per scontato sarà poi esplicitato nel bando perché l'amministrazione poi darà un'indicazione su quale sarà il fine di quell'immobile e quindi dovrà tutto quanto prendere quel percorso che sarà assolutamente di impronta sociale sulle procedure di assegnazione quindi criteri che lei mi chiedeva l'elemento economico piuttosto che tecnico ovviamente c'è sempre la base un costo che può essere incrementato e quindi quello ha un punteggio è un criterio che abbiamo adottato come tanti altri non ce lo siamo inventati per cui sembra essere uno strumento adatto quindi partiamo in questo modo mentre all'articolo 8 la deroga la deroga in cui c'è la prelazione o l'interesse diretto di un concessionario rispetto ad un immobile vuoto di fianco perché possono esserci dei casi in cui c'è una piccola porzione immobiliare che è posizionata tale da non permetterne lo sfruttamento da un'altra associazione o da un altro ente e che quindi l'unica possibile finalità sia quella di concordarla con il concessionario che è di fianco perché magari è in una posizione che non è facilmente su sesto è difficile riuscire a dirvi farvi un esempio di quale possa essere però potrebbe potrebbe esserci che non abbia una finalità che possa andare da sola e che quindi si possa fare un accordo con un concessionario esistente di fianco tutto è rivisitabile siamo sempre all'interno delle norme però rimango disponibile per eventuali altre migliorie tendiamo a migliorare grazie e basta grazie assessore passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani grazie grazie presidente colgo con con favore anche con contentezza la disponibilità dell'assessore alla verifica tra l'altro credo che sia come dire riverificarsi entro un tot di tempo sia come dire molto interessante anche per chi ha fatto e fa dei regolamenti perché chiaramente hai una visione anche una previsione ma poi devi prendere i risultati e vedere se la previsione che avevi coincide con i risultati che ottieni quindi da questo punto di vista assolutamente la volontà di partecipare è un regolamento come diceva come si diceva lo mettiamo a terra e poi valuteremo in questo momento il nostro è un voto di assenzione grazie reinventiamo sesto consigliera anche per noi voto di assenzione grazie Lega Salvini Premier consigliera Pini grazie presidente voto favorevole Forza Italia consigliera Cupido voto favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni grazie come ragionamenti e come prospettiva quello che noi adottiamo oggi come criterio è voto di astenzione perché essendo questo regolamento vorremmo che fosse messo in qualche modo alla prova perché ci sono alcuni punti che crediamo possano essere giudicati solo una volta con dei casi pratici per quindi al momento ci esprimiamo in questo modo grazie gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente sono molto stanco scusate io dopo questa vi lascio favorevole sicuramente l'auspicio quindi ringrazio l'assessore paterna l'auspicio è di sistemare chiaramente l'arretrato di quello che abbiamo in arretrato e l'auspicio per il futuro è quello di finalmente con un regolamento gestiamo nel modo giusto nel modo regolare quello che sarà anche l'interrapporto tra l'amministrazione e le varie associazioni e gli vari mobili del demanio grazie abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà favorevole fratelli d'italia consigliere Turolla grazie presidente voto favorevole Stefano sindaco consigliere Bonato grazie presidente con l'approvazione di questa delibera andiamo a mettere ordine a un settore che soffriva di un problema rilevante la discrezionalità e l'ingerenza politica è un primo passo importante per porre chiarezza e parità di possibilità per chiunque chieda di utilizzare beni pubblici comunali il nostro voto è favorevole grazie passiamo alla votazione apro la votazione potete votare manca un voto abbiamo 23 voti validi di cui 17 favorevoli 6 astenuti la delibera viene approvata ed è esecutiva passiamo adesso alla delibera di cui al punto 8 modifiche al regolamento dei servizi educativi e per l'infanzia passo la parola all'assessore pizzocchera per la presentazione prego assessore grazie 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 presidente buonasera a tutti allora nel 2018 nel 2018 abbiamo come elemento di base abbiamo approvato un regolamento unitario dei tre regolamenti che governavano i servizi educativi di cui due in particolare regolamentavano i tariffari o il tariffario del servizio della ristorazione scolastica i regolamenti tariffari dei servizi educativi quali asili nido piccoli e grandi giochi serali centri ricreativi estivi e un primo diciamo regolamento che governava appunto i servizi per l'infanzia in senso più generale dopo cinque anni da quelle entrate in vigore del regolamento ci sono state delle riflessioni perché quel regolamento prendeva di fatto questi tre regolamenti ne faceva uno unico con alcune piccole modifiche ma questi cinque anni sono serviti agli uffici ai servizi agli operatori e alla parte politica come riflessione su come quel regolamento poteva aderire ai casi concreti poteva rispondere alle necessità delle famiglie alle necessità dei lavoratori all'interno di servizi estremamente con un rapporto con i nostri cittadini molto molto stretto quindi abbiamo pensato di proporre a questo consiglio comunale un regolamento che andava a rivedere in parte andava ad aggiornare l'articolo 3 perché dall'anno scorso abbiamo sul territorio un tavolo 06 territoriale richiesto da regione lombardia che si incontra dalle quattro volte l'anno era stata anche questa una domanda durante la commissione quindi rispondo ora in consiglio e che vede riuniti diversi organismi che erano poi gli organismi previsti nella vecchia consulta cittadina dell'infanzia e poi chiamata età evolutiva una consulta dell'età evolutiva all'interno del regolamento dei servizi all'infanzia è limitante perché in realtà l'età evolutiva vuole vedere il ragazzo anche nella sua sviluppo quindi più oltre i 14 anni e quindi entriamo nelle politiche giovanili quindi con questo l'avevamo già ribadito in commissione non andiamo ad eliminare l'idea di creare una consulta cittadina dell'età evolutiva ma bisogna lavorare in sinergia con altri assessorati che fortunatamente ricadono sempre nelle mie deleghe e quindi insomma è un obiettivo per il 2026 l'altro punto di modifica di questo di questo regolamento è diciamo vede l'inserimento proprio di una messa per iscritto di una prassi riguardante diverse attività che gli uffici cittadini e gli utenti si trovano a dover svolgere durante insomma il periodo in cui la cittadinanza usufruisce dei servizi educativi andiamo quindi all'articolo 8 quindi iscrizione e ammissione siamo andati a mettere per esteso e per iscritto in modo tale da avere una maggiore trasparenza anche con la prassi che poi comunque non è mutata rispetto alla prassi tenuta dagli uffici andiamo a mettere chiarezza per quanto riguarda le tariffe e come ci si comporta nelle graduatorie con il cambio di residenza con cambio di residenza si intende un cambio di residenza da cittadino sestese ad altra città o viceversa in questo modo andiamo di fatto a chiarire due cose nel momento in cui l'utente è già all'interno dei servizi del nido nel momento in cui avviene un cambio di residenza da sesto verso l'esterno viene richiesta una comunicazione immediata al servizio in modo tale da modificare la tariffa perché la parte tariffaria dice che c'è una tariffa piena nel momento in cui non si è residenti a sesto san giovanni durante la commissione c'era stata una richiesta per quanto riguardava i tempi di assegnazione della residenza di fatto nel momento in cui si ha la notifica di avvio del procedimento già da quel momento per l'anagrafe la famiglia è residente a sesto nel caso nel caso in cui arrivi da un'altra città verso sesto il contrario ovviamente dipenderà dall'altro comune per quanto riguarda invece l'articolo 9 che va a decifrare un po' cioè mi i criteri per la formulazione delle graduatorie sono stati inseriti alcuni elementi per quanto riguarda i contratti di lavoro ossia quello che gli uffici hanno evidenziato in questi ultimi cinque anni è un aumento di genitori che hanno dei contratti di lavoro come professionisti per lo più partite IVA o comunque autonomi ecco che quindi abbiamo inserito intanto un'applicazione della legge che consente alla pubblica amministrazione di incrociare i dati per le autodichiarazioni in modo tale da verificare per il lavoratore dipendente la veridicità della dichiarazione attraverso il C2 storico e per il lavoro autonomo o libero professionista l'incrocio con l'iscrizione alle casse previdenziali o alla partita IVA iscrizione all'apposito registro tenuto dalla Camera di Commercio e così via altro punteggio che viene quindi equiparato è proprio il punteggio sul lavoratore autonomo partita IVA e il lavoratore subordinato non è possibile mantenere come era precedentemente il punteggio di 0.5 ogni ora lavorata perché la normativa che diciamo dettaglia bene per quanto riguarda il lavoratore subordinato mentre per il lavoratore autonomo autonomo e quindi diciamo non subordinato anche se ci sono contratti temporali non è possibile definire in modo opportuno in modo chiaro quante ore settimanali un lavoratore autonomo svolge quell'attività per il proprio diciamo committente ossia il proprio cliente e quindi abbiamo dovuto appunto modificare dando dei punteggi che sono analoghi per il genatore lavoratore subordinato e lavoratore autonomo nel momento in cui hanno comunque dei contratti di lavoro per più di sei mesi e poi viene apportata un'ulteriore modifica piuttosto interessante e insomma che è quella della maggiorazione di punteggi per il genitore inoccupato perché studente in questi cinque anni siamo appunto andati incontro a genitori molto giovani che hanno scelto comunque di dare la vita il loro di dare la vita al loro figlio nonostante insomma magari le possibili difficoltà e quindi dare loro un punteggio per consentirgli di terminare gli studi oppure anche altri genitori che nel corso della loro vita lavorativa hanno avuto degli intoppi o comunque la necessità di iscriversi per rivedere la loro formazione iscriversi all'università o ad altri scuole di secondo grado 15 punti al posto di se non mi sbaglio 2 punti e mezzo altro elemento che è stato inserito e stato modificato è stato il punteggio sulla turnazione andando a definire come punteggio su chi lavora su turni coloro che hanno effettivamente dei turni che escono dai canonici dalle canoniche fasce orarie di lavoro diurno quindi che il turno sia oltre le ore 20 perché comunque un turno che inizia la mattina e finisce intorno alle 7 di sera sono turni lavorativi all'interno della fascia diurna quindi andiamo a punteggiare chi può avere un lavoro logorante su turni ovviamente che prendi in considerazione dei turni notturni altre prassi sono più che altro andare a mettere per iscritto quello che sono i tempi di frequenza in deroga rispetto ai requisiti posseduti dalle famiglie stesse e diciamo l'articolo 12 l'organizzazione del servizio sulle priorità andiamo ad elencare esattamente quelle che si sono considerate prioritarie per gli uffici all'interno della definizione di graduatorie anche a pari punteggio si leggo esplicitamente si procederà con la seguente priorità di assegnazione rispetto ai posti disponibili i bambini con nota fornita dall'equip psicopedagogica proprio perché il nostro comune è vero che vede il servizio nidi come un servizio di conciliazione lavoro famiglia ma anche come supporto sociale per quei nuclei familiari che hanno delle difficoltà di tipo sociale educativo delle fragilità all'interno del nucleo e quindi hanno priorità d'accesso coloro che vengono segnalati o per decreto del tribunale o segnalati dai servizi sociali o comunque con evidenze da parte dell'equip i tempi imposti per vecchi frequentanti i tempi imposti per nuovi iscritti richieste di cambio tempo per vecchi frequentanti la priorità delle richieste sarà determinata dall'ordine di arrivo delle stesse al protocollo e così via non sto a leggerli tutti perché tutta la prassi è stata proprio messa per iscritto ma proprio per obiettivo l'obiettivo è quello di costruire un patto di diciamo di copartecipazione tra l'ente gli uffici il servizio e i genitori anche qui per questo abbiamo aggiunto un ultimo punto che ha fatto dibattere durante la nostra commissione che è appunto alla fine che dice ogni anno i genitori degli iscritti al servizio piccoli no scusate che lo dico a memoria perché adesso non lo trovo che i bambini iscritti al servizio educativo dei nidi qualora i genitori tardassero più volte senza giustificazione ad andare a prendere il bambino secondo l'orario stabilito può il dirigente sospendere il bambino dal servizio questo è stato dibattuto durante la commissione ci tengo a sottolineare che è una chiarezza per quanto riguarda la difficoltà che si genera all'interno del servizio qualora genitori non avvisino per un ritardo e che questo non avvisare per il ritardo di andare a prendere il bambino venga reiterato più volte senza appunto avere almeno il riguardo di avvisare questo perché perché il rapporto numerico tra i bambini e le educatrici è un rapporto normato ed è un rapporto che potrebbe far andare fuori norma qualora l'educatrice per qualche motivo giustamente suo che ha finito il turno non può fermarsi o non si riesce a tamponare questa mancanza per tempo chiaramente se viene invece avvisato capiamo tutti che viviamo in una metropoli o comunque accanto ad una metropoli e che quindi a volte ci possono essere dei disguidi per quanto riguarda invece gli altri servizi il servizio piccoli e grandi abbiamo aggiunto la possibilità per i genitori degli iscritti di essere eletti come rappresentanti del servizio prima non c'era questa questa possibilità per iscritto e per quanto riguarda la invece le tariffe dico dei nidi ma in realtà le tariffe in generale sia dei nidi che della mensa scolastica c'è una retroattività per la consegna in ritardo dell'ISE c'è una retroattività di ricalcolo automatico per chi già ne fa uso vede che già automaticamente il sistema gli ricalcola la rata della mensa o la rata del nido la retroattività ci può essere solo se si consegna l'ISE entro il 31-12 quindi il 31 dicembre altro elemento messo per iscritto interessante sui nidi è il mese di luglio nel mese di luglio nel caso di dichiarata rinuncia alla frequenza ad una o più settimane di servizio la tariffa sarà rideterminata proporzionalmente così anche quando così anche quando ci dovesse essere il servizio sospeso non per motivi a causa appunto di determinati dal servizio è un po' tardi sono un po' stanca scusate altre modifiche salienti non non ci sono ringrazio per l'attenzione e buona serata grazie assessore prima di aprire la discussione volevo rettificare su richiesta del consigliere Cagliani il risultato della delibera precedente ovvero quella di cui al punto 7 lo dico ai fini della verbalizzazione per l'approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Sesso San Giovanni consigliere Cagliani ha erronamente votato favorevole quando in realtà voleva esprimere un voto di astensione pertanto la delibera la votazione rimane valida abbiamo avuto 16 voti favorevoli e 7 astenuti appunto a seguito di questa correzione la delibera la votazione comunque rimane valida la delibera approvata ed esecutiva prima di aprire la discussione faccio presente così almeno abbiamo in mente lo schema dei lavori che ci aspettano a breve che in merito appunto a questa proposta di delibera che ha appena presentato l'assessore Pizzocchera sono stati presentati 9 emendamenti di questi 9 emendamenti faccio una precisazione e poi vi faccio anche una richiesta allora intanto l'emendamento numero 2 e l'emendamento numero 9 a prima firma consigliera Pagani hanno avuto un parere di regolarità tecnica non favorevole però dobbiamo lo stesso procedere alla votazione in consiglio comunale naturalmente tenuto fermo del parere che è stato espresso la seconda cosa ed è una richiesta che invece vi faccio è siccome appunto noi avremo la dichiarazione di voto per ogni singolo emendamento e poi avremo la dichiarazione di voto sulla delibera eventualmente emandata o meno vi chiedo se volevate devo dire a tutto il consiglio comunale valutare di saltare la dichiarazione di voto sulle singoli emendamenti per poi fare la dichiarazione di voto sulla delibera eventualmente emandata poi vi dico che se c'è bisogno del minuto in più o altro in dichiarazione di voto non ne farò una questione era giusto per non avere nove emendamenti dichiarazioni di voto dichiarazioni di voto e quant'altro prego Selegatti o Maderloni chi voleva intervenire prego buonasera presidente grazie mille allora io ho una domanda lei ha detto che sono stati dati pareri negativi sul secondo e il nono emendamento entrambi a firma Pagani a me risulta che il nono emendamento sia l'emendamento numero 3 rappresentato dai consiglieri AMDI della lista rimettiamo sesto e Foggetta della lista Europa Verde Sinista Italiana non vorrei se è sbagliato quello che ci ha detto lei però ha chiesto scusa rettifico sul primo firmatario ok e poi ho una domanda perché questa è domanda di pura ignoranza lo ammetto ma perché se c'è un parere di irregolarità tecnica dobbiamo metterlo al voto adesso la parola al segretario per la spiegazione grazie allora sono i principi di funzionamento delle autonomie locali come sanciti dal testo unico degli enti locali l'articolo 49 del testo unico degli enti locali prevede che sulle proposte deliberative sulle loro articolazioni cioè gli emendamenti che vanno che cercano di assistare la proposta deliberativa vi sia il parere di regolarità tecnica degli uffici è un parere di regolarità tecnica obbligatorio ma non vincolante altrimenti si attribuirebbe agli uffici un potere di veto rispetto all'iniziativa politica cosa che il legislatore ha assolutamente voluto evitare per la garanzia di libertà dell'espressione della posizione politica che altrimenti correrebbe il rischio di essere censurata in sede tecnica questa previsione di quell'articolo 49 del testo unico degli enti locali fa il paio con l'articolo 43 comma 1 primo periodo del testo unico degli enti locali secondo cui ai consiglieri è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni proposta sottoposta alla deliberazione del consiglio diritto di iniziativa che non può e non deve necessariamente incontrare il favore degli uffici ovviamente il parere contrario degli uffici è un campanello di allarme che viene posto alla attenzione dell'assemblea ed è un elemento significativo di valutazione l'ordinamento accetta che si possa prescindere da questo parere assumendosene la responsabilità quindi resta un campanello di allarme ed un elemento di valutazione ovviamente non è una dimensione che può essere portata sino alle estreme conseguenze nel senso che in talune circostanze lo sviamento può essere talmente grave da configurare una inammissibilità dell'emendamento ma l'inammissibilità va ricondotta come dicevo prima ad ipotesi estreme quali sono queste ipotesi estreme l'impossibilità di quanto viene evidenziato nell'emendamento l'illicità penale di quanto viene evidenziato nell'emendamento la non pertinenza con l'oggetto della deliberazione che ad esempio ha reso inammissibili nella seduta precedente un paio di emendamenti perché non venivano sottoposte alla votazione del consiglio le linee programmatiche di mandato e quando vi è una inammissibilità per rispetto dell'autonomia del livello politico questa anche se il nostro regolamento sotto questo aspetto è lacunoso va scritta alla dimensione del presidente perché mai un organo tecnico potrà vincolare o bloccare i lavori del consiglio può semplicemente esprimere una posizione che mette a disposizione dell'aula questa è la logica di questo grazie segretario confermo quindi sono il numero la numero due e la numero nove la due città in comune la numero nove reinventiamo sesto e alleanza verdi sinistra firma prima firmataria consiglierambi rifaccio riformulo appunto la domanda gli emendamenti prevederanno la presentazione da parte del primo firmatario dell'emendamento stesso dopodiché la dichiarazione di voto e la votazione dell'emendamento per poi passare alla dichiarazione di voto e alla votazione dell'intera delibera eventualmente è mandata quindi rifaccio la domanda prima di procedere se siete tutti disponibili a saltare la dichiarazione di voto sul singolo emendamento a fare però poi la dichiarazione di voto sulla delibera in generale eventualmente è mandata poi ripeto se c'è bisogno del minuto in più in una fase di dichiarazione di voto sulla delibera eventualmente è mandata per quel che mi riguarda non è un problema siete tutti favorevoli anzi faccio la domanda c'è qualcuno contrario in merito prego Okser Maderloni volevo solo capire una il criterio al di là della questione temporale dato che sono nove emendamenti potenzialmente però non credo che magari sono su tutti e nove abbiamo tutti la stessa posizione quindi penso che sia più corretto visto il numero di emendamenti che ogni emendamento venga votato per dare la possibilità ai gruppi di esprimersi su quello questo almeno chiediamo noi come partito democratico perché pensiamo che possa essere più corretto assolutamente ho fatto la domanda apposta se invece c'è una posizione che si discosta da questo procediamo con la dichiarazione di voto parliamo della dichiarazione di voto non della votazione ok ok va bene procediamo a questo punto rispettando lo schema da regolamento dichiaro aperta la discussione sulla proposta di delibera interventi prego se le madri Arloni ha la parola grazie allora partiamo da da un dato di fatto che sicuramente come ha spiegato l'assessore arrivare ad avere un corpo unico che possa in qualche modo chiarire l'erogazione dei servizi di un certo tipo di servizio è sicuramente un aspetto che va incontro anche una semplificazione una facilità da parte dei cittadini di poter di poter in qualche modo comprendere e attenersi allo stesso servizio e quindi ci sembra che comunque sia un passo avanti così come anche la necessità che hanno i regolamenti ovviamente col passare del tempo di essere aggiornati e adeguati quello che noi chiediamo è che come abbiamo anche già detto negli altri regolamenti che abbiamo discusso questa sera e che andremo a discutere dopo ma anche nella seduta di consiglio precedente che questi possano essere periodicamente comunque messi a valutazione per capire se un regolamento pensato ed è scritto per quanto poi possa essere anche frutto di anni di lavoro di consuetudini di esperienze però come nella realtà viene poi applicato e soprattutto che effetti rispetto agli effetti desiderati può portare per cui l'invito che chiediamo è quello ma che in qualche modo già l'assessore forse l'aveva anticipato però lo facciamo in maniera formale quello di ritornare tra un anno due anni quello che si riterrà un tempo congruo per una valutazione dell'efficacia e quelli che vengono oggi indicati e spiegati come miglioramenti se sono effettivamente così perché i servizi che vengono regolamentati sono dei servizi che come periodo democratico riteniamo importanti per la formazione dell'individuo importanti per che una comunità si doti di questi servizi e lo faccia nel miglior modo possibile e per auspicchiamo in futuro una platea più ampia possibile di 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 bambini di ragazzi e soprattutto io penso che un'ultima cosa poi vado a chiudere che credo che sia da valutare anche l'efficacia nei termini della modalità con cui ad esempio vengono sanate o vengono ridotti alcuni fenomeni che spesso venivano citati sul tema faccio esempio il tema delle rette visto che qua lo citiamo ecco per capire se in qualche modo questi strumenti sono efficaci nel rendere e far vivere il servizio come effettivamente un servizio essenziale un servizio di crescita e un servizio anche di benessere per i bambini e di conseguenza anche per le famiglie in particolare per quelle famiglie che hanno la fortuna di avere entrambi i genitori che possono lavorare proprio perché c'è questa possibilità di servizio e non hanno a chi lasciare il minore grazie grazie a lei consigliere Maderloni prego se la pagagna lei la parola sì grazie presidente allora due cose veloci perché poi alcune questioni ovviamente abbiamo gli emendamenti che sono gli strumenti io volevo dire questo che ho apprezzato lo sforzo che è stato fatto l'ha spiegato direi molto bene nella parte introduttiva l'assessore di mettere insieme insomma questo regolamento di rivederlo che è un percorso perché è già l'unione di altri tre e quindi trovo che all'interno di questo regolamento ci siano degli elementi positivi alcuni sono stati detti dall'assessore per esempio la retroattività che mi sembra un elemento positivo ma anche la cancellazione della parte di un articolo per cui in caso di morosità così era precedentemente l'utente perde il beneficio e si precede al recupero dell'intera tariffa stiamo parlando di servizio l'inibili accettazione per esempio anche della domanda anche se non si è in regola con i pagamenti di tutti i servizi educativi chiaramente poi nel momento in cui la domanda viene accettata viene chiesto di mettersi in regola credo che anche sia importante lo sforzo che è stato fatto di indicare chiaramente su come si procede nella valutazione dell'attività lavorativa perché ovviamente questo è come dire foriero di punteggio e quindi inevitabilmente è un elemento importante e anche se non mi sbaglio ma mi correga lei assessora lo sconto per quanto riguarda i centri ricreativi stivi uno sconto se faccio più di cinque settimane anche per il primo figlio del 20% anche questa è una novità che va come dire a rivolgersi direttamente ovviamente alle famiglie che soffriscono dei servizi e quelli che vengono chiamati anche utenti e questi aspetti secondo me sono aspetti migliorativi nell'ottica che noi intravediamo insomma per cui l'obiettivo di costruire un regolamento che ha un percorso quindi è già l'unificazione insomma come è stato detto eccetera è quello sicuramente della semplificazione perché cerchiamo di fare le cose in maniera come dire più semplice e non più complessa sicuramente anche della trasparenza ma insomma anche dell'andare incontro a quelli che sono diciamo le esigenze degli utenti riscontrando anche quelle che sono le difficoltà che sono nate insomma nel corso degli anni e quindi come reagire a queste difficoltà in maniera in maniera più come dire più costruttiva ma anche più orientata verso le persone quindi questi aspetti positivi sicuramente insomma li abbiamo intravisti abbiamo fatto un ragionamento abbiamo letto insomma il regolamento più di una volta come città in comune e sì abbiamo fatto degli emendamenti chiaramente non avevano l'obiettivo come dire di svalutare il percorso ma quello di provare a costruire delle migliorie laddove abbiamo intravisto delle fragilità che però per noi ma sono emendamenti frutto della discussione fatta in commissione niente di misterioso quindi evidentemente rispetto a degli aspetti che secondo noi possono essere più contenuti in alcuni casi e migliorati in altri quindi poi passeremo insomma alla discussione di quegli aspetti che consideriamo un po' più fragili sicuramente uno sforzo c'è stato sicuramente alcune cose sono a favore diciamo degli utenti e delle famiglie concordo con con quella con la richiesta insomma fatta da dal collega Maderloni che non sia fra sei mesi ma perché forse un po' poco insomma ne fra un anno però insomma secondo me come si diceva anche prima in merito ad altri regolamenti perché è un periodo che abbiamo discusso molti regolamenti all'interno del consiglio comunale ecco ritornare sulle verifiche e quindi vedere se le previsioni coincidono con gli avvenimenti sicuramente è cosa buona credo anche da questo punto di vista che sicuramente come dire questo si può fare non solo nel come dire tra consiglieri comunali all'interno di una commissione ma evidentemente anche con tutti i soggetti soggetti proprio collettivi naturalmente non singole persone che sono coinvolti e sono anche destinatari di questi servizi per il momento mi fermo qua grazie altri interventi in aula prego se la media le la parola grazie anche io sarò breve perché tanto poi affronteremo gli emendamenti che sono tanti e che riassumono quelle che per noi sono state le criticità rinvenute nella nella stesura di queste modifiche al regolamento alcuni riguardano anche degli articoli che erano già presenti per quello che ci riguarda anche noi apprezziamo lo sforzo apprezziamo che sia stato riordinato il regolamento siano state introdotte delle agevolazioni per le famiglie la cosa che ci è piaciuta un po' meno ma che non riguarderà poi nel merito gli emendamenti è l'equiparazione del lavoratore autonomo al lavoratore subordinato perché mentre il lavoratore subordinato è quello che deve giustamente prestare tutte le la documentazione certificazione attestanti turni orari in modo più o meno macchinoso al lavoratore autonomo invece è data soltanto l'onere di dimostrare di essere iscritto alla propria cassa di appartenenza o ente contributivo che dir si voglia e nient'altro in più e quindi questa equiparazione è l'elemento che non è stato emendato ma che ci piace un po' meno come anche diritto allo studio per il genitore ci mancherebbe altro però che basti soltanto un'iscrizione ad un istituto qualsiasi a dare un punteggio più in graduatoria questo è un altro elemento che non ci ha convinti del tutto comunque poi affronteremo tutti gli altri punti con la presentazione degli emendamenti grazie grazie a lei altri interventi c'è la gattia nella parola grazie mille presidente ma allora mi parto facendo la premessa che hanno fatto anche i miei colleghi consiglieri cioè che il lavoro di unificazione è assolutamente apprezzabile e partiamo da questo infatti credo che sia stato sia abbastanza trasparente come la volontà di proporre dei suggerimenti fare delle proposte che è pervenuta da tutte le forze di opposizione con degli emendamenti che poi discuteremo insieme mi auguro che almeno alcuni di questi possano essere accolti vada proprio nel senso che è evidente che questo regolamento ha degli elementi positivi e che può essere secondo noi migliorato ma è sicuramente un buon un buon lavoro di partenza siccome però questa delibera ha una discussione atipica perché potremmo prendere la parola dieci volte questa sera e temo che lo farò mi spiace per voi vorrei utilizzare questo primo momento per fare per fare un passetto indietro un po' perché è una notizia di queste ore il fatto che il contesto nazionale sugli asili nido sia improvvisamente peggiorato perché è arrivata notizia nel pomeriggio di oggi che gli obiettivi PNRR sugli asili nido scendono da 264.480 posti a 150.480 con un taglio di oltre 100.000 posti in una situazione dove nel nostro paese non a Sesto San Giovanni che per fortuna è messa decisamente meglio solamente il 28% dei bambini è coperto da un servizio che è fondamentale per il bambino stesso per la crescita del bambino per la conciliazione tra il lavoro e la famiglia e anche come strumento di rete sociale quello che diceva prima l'assessore io perché parto da questo parto da questo per dire che in un contesto nazionale che sicuramente col PNRR migliorerà perché comunque l'obiettivo è portare la copertura al 33% che comunque io dico molto tranquillamente è un obiettivo ampiamente insufficiente nel senso che pensare che solamente un bambino su tre possa avere accesso a un servizio così importante nel nostro paese comunque è un dato che fa riflettere e che secondo me ci può unire tutti nel dire che si può migliorare però che dà ancora maggiore importanza secondo me alla discussione di questa sera perché avere un regolamento significa decidere come dovranno essere i servizi nei prossimi anni e quindi mi accodo a quello che hanno chiesto i miei colleghi di tornare in commissione a verificare magari con il parere dei tecnici magari addirittura con il parere per la presenza dell'equip psicopedagogica che suppongo sia stata sentita in questi mesi per la scrittura di questo regolamento e che quindi sarebbe bello se fra qualche mese valutate ovviamente voi quando poter dare un rendiconto di quanto fatto dal punto di vista amministrativo dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista di relazione con gli utenti mi sembra una richiesta che ci può trovare che ci può trovare d'accordo e che può rendere il momento della commissione un momento interessante e magari accessibile e utile per tutti i cittadini ma io direi che un'altra cosa che si può dire di questo regolamento è che è evidentemente un'evoluzione non è una rivoluzione non c'è uno stravolgimento delle pratiche anzi è stato ribadito questa sera ma anche in commissione dall'assessora che sono state inserite all'interno del regolamento molte pratiche che già venivano seguite all'interno all'interno del comune io sono certo che i tecnici che gli uffici abbiano fatto il lavoro il lavoro migliore perché sono le persone che poi sono al contatto con le necessità che vedono le richieste che arrivano ho solo una perplessità di tipo diciamo quasi astratto rispetto al regolamento ovvero che limitandoci a accogliere le buone pratiche si possa in alcuni casi e poi lo spiegherò negli emendamenti per cosa intendo entrando un pochino più nel dettaglio senza dover poi andare a ripetermi che si perda un pochino di vista quello che potrebbe essere l'ideale cioè andare a costruire un regolamento che dia risposta o che sia costruito per dare risposta a tutti i bambini di sesto non solo alla porzione che riesce a entrare all'interno dei servizi sapendo ovviamente che poi le risorse sono limitate quindi non a tutti si potrà dare risposta ma secondo me questo deve essere un'ottica che può regnare su un regolamento quella di pensare di dare risposta sempre e comunque a tutti i bisogni chiudo con una sola preoccupazione che mi giunge da segnalazioni che non ho avuto modo di verificare quindi vi riporto qui esattamente come sono state riportate a me se poi l'assessora vorrà chiarire gliene sarò grato se no mi informerò maggiormente e poi magari ne riparleremo in futuro mi è stato segnalato e questo d'esta preoccupazione su quello che poi sarà il futuro dei servizi nella nostra città diciamo non sul piano regolamentare ma su quello del reale di alcuni casi di turnover all'interno di fondazione di lavoratrici e lavoratori che hanno deciso di lasciare i nostri servizi per recarsi altrove e che questo abbia già iniziato a portare dei disservizi mi è stato appunto segnalato che qui potrei sbagliarmi che un educatore di piccoli e grandi non è più all'interno di piccoli e grandi perché è stato trasferito per coprire appunto queste assenze ribadisco è una segnalazione che mi è arrivata questa mattina quindi magari è erronea però mi sembrava giusto vista la discussione di questa sera portarla qui anche per dare l'occasione eventualmente all'assessore di rispondere e dire no non è così è stato mal informato anzi mi auguro di essere stato male informato vado a chiudere con una con una chiosa un po' un po' retorica in questo momento nel nostro paese gli asili nido sono fondamentali per un sacco di motivi uno di questi secondo me ed è uno degli obiettivi per cui poi sono fondamentali all'interno del scusi sono diventati no no scusi ho visto diventare tutto rosso mi sono mi sono allarmato no dicevo scusatemi uno dei motivi è quello di aumentare il numero di bambini e bambine che hanno accesso ai servizi anche per aumentare l'occupazione femminile che in questo paese è drammatica che ha enormi risvolti sociali dettati dalla storia del lavoro di cura all'interno dei nostri nuclei familiari io ritengo che seppur con risorse limitate si debba sempre avere un occhio di riguardo anche a questo tema per quanto sia assolutamente comprensibile e condivisibile la necessità che un regolamento di questo tipo dia risposta prima a chi ha entrambi i genitori impegnati attualmente sul lavoro senza dimenticare però che chi lasciamo fuori dal servizio poi comprendo il motivo ma poi rischia di rientrare in altre dinamiche difficili che affliggono il nostro paese in maniera molto preoccupante grazie grazie a lei non vedo un momento altre prenotazioni a questo punto possiamo procedere all'esame alla votazione degli emendamenti andiamo per ordine di arrivo al protocollo allora primo emendamento città in comune prima firmataria capogruppo consigliera Pagani ricordo che ci sono cinque minuti per poter presentare l'emendamento e poi andremo in dichiarazione di voto di due minuti per ogni per ogni gruppo consigliare vi chiedo di rispettare appunto le tempistiche visto la numerica che abbiamo da affrontare prego consigliera Pagani hai la parola grazie grazie presidente faccio mia una domanda che mi è appena stata fatta dai colleghi e non non lo ricordo in questo momento ma per ogni emendamento c'è la replica dell'assessore o no? no ok 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 allora presento il primo emendamento allora io lo presento nel senso che non so leggere proprio tutto vi dico un po' il senso allora fa riferimento alla questione di cui parlava prima l'assessore a Pizzocola che era relativa alla possibilità per evidentemente insomma il responsabile insomma il dirigente di poter in caso di ripetuti ingiustificati ritardi e dopo tre richiami scritti la possibilità appunto di potrà disporre la dimissione d'ufficio dello stesso potrà disporre la dimissione d'ufficio dello stesso allora in commissione abbiamo discusso la questione che io ho sollevato allora io e sulla quale ci siamo spinti poi a fare questo emendamento riguarda la possibilità di tutelare il bambino perché quello che ci siamo immaginati evidentemente è che insomma c'è un problema forse un po' più profondo a livello genitoriale se non si avvisa i propri i referenti che in questo che in quel momento hanno chiaramente tuo figlio in maniera reiterata e ripetuta oltretutto e quindi la questione era più legata diciamo così all'attenzione alla salvaguardia del del bambino nel momento in cui come dire questo non è detto che lo sia perché potrebbe essere semplicemente come dire espressione di poca cura e rispetto nei confronti di chi lavora ma se dovesse essere invece l'esemplificazione di una difficoltà che sta a monte evidentemente ci preoccupa perché di fatto come diceva prima l'assessora io lo condivido totalmente cioè gli asilini non sono solo un luogo di conciliazione ma sono un luogo dove intravediamo anche delle difficoltà personali ma anche educative e che possiamo come dire identificare quindi la sostanza dell'emendamento è che noi non lo abbiamo cambiato più di tanto nel senso che questo diritto c'è quello che abbiamo aggiunto è sostanzialmente sentita l'equip psicopedagogica che valuterà le preminenti esigenze del bambino quindi l'articolo sostanzialmente diventa in caso di ripetuti e ingiustificati ritardi rispetto al ritiro del bambino dal nido al termine della giornata dopo tre richiami scritti il dirigente sentita l'equip psicopedagogica che valuterà le preminenti esigenze del bambino potrà disporre la dimissione d'ufficio dello stesso credo che la presenza dell'equip serva proprio per come dire discernere in maniera anche professionalmente competente senza nulla togliere al contesto si tratta appunto di non curanza leggerezza e mancanza di rispetto che deve essere tutelata perché chi lavora ha il diritto che il suo lavoro venga rispettato che le sue ore di lavoro vengano rispettate con delle difficoltà inerenti a quel contesto familiare anche perché mi immagino che non ci siano come dire mi immagino non sono stati riportati all'interno della discussione numerosissimi casi anche perché si spera sempre di non arrivare ovviamente a queste situazioni quindi questa è la nostra proposta di emendamento grazie passiamo alla dichiarazione di voto su questo emendamento città in comune consigliera Pagani vi stupirò con una dichiarazione di voto favorevole reinventiamo sesto consigliera discutendo con i colleghi proprio su questo perché noi abbiamo presentato un emendamento sullo stesso punto prevedendo l'eliminazione del comma mentre invece loro l'hanno proposto la modifica quindi io per evitare contraddizioni mi asserrei grazie lega Salvini Premier consigliera Pini grazie presidente il nostro voto sarà favorevole forza Italia consigliera Cupido grazie presidente ma allora per carità è vero che le esigenze di tutela dei bambini sono sicuramente come dire degli interessi primari e principali con fatica esprimo un voto favorevole perché mi sembra che in un progetto che è ad oggetto l'educazione e gli ultimi fatti di cronaca ci dicono che le famiglie sono dei nuclei in cui ci sono degli oggettivi problemi di educazione mi sembra che prevedere un emendamento di questo tipo tutto sommato in qualche modo giustifichi ancora una deresponsabilizzazione in capo al genitore e credo che dopo tutto il regolamento fosse assolutamente esabostivo sul punto cioè nessuno dice che il genitore in caso di ritardi dovuti a cause eccezionali non possa far valere appunto il ritardo e quindi che il bambino venga allontanato dall'asilo qui si parla di ripetuti e ingiustificati ritardi immotivati cui fanno seguito ben tre richiami da parte di un dirigente che io mi auspico sia una persona tutto sommato come dire capace e preparata anche di valutare delle situazioni quindi Forza Italia dà un parere risicatamente favorevole ricordiamoci però secondo me per il futuro e poi lo ripeterò anche rispetto ad altri emendamenti proposti che il tema dell'educazione parte anche da riconoscere una responsabilità in capo al genitore senza nulla togliere rispetto alla tutela di minori Abbiamo sesto consigliere Molteni Cambiato tutto l'ordine di dichiarazione di voto comunque no niente mi sembra che sia già a prassi una cosa di questo genere quella di sentire l'equip di conseguenza ben venga una regolamentazione anche consolidata diciamo per cui il nostro voto sarà favorevole c'è già grazie Fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente io mi sento di sposare in toto la dichiarazione di voto della collega consigliera capogruppo Cupido perché perché comunque nell'articolo si parla appunto di ritardi ingiustificati il voto sarà comunque favorevole il motivo poi già spiegato grazie Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente il nostro voto è favorevole prima di aprire la votazione in merito ah chiedo scusa Partito Democratico consigliere Maderloni prego avevo già Gatti prego chiedo scusa ho l'onore di parlare a nome del mio gruppo ovviamente il nostro voto sarà favorevole in quanto abbiamo sottoscritto l'emendamento aggiungo solo una parola io non penso che chiedere un parere dell'equipe psicopedagogica sollevi un niente dalle spalle della responsabilità dei genitori credo semplicemente faccia parte al massimo di un eccesso di cautela per tutelare un minore molto tra l'altro un minore di età molto piccola da una dimissione che seppur potrebbe essere giustificata può già prassi che venga fatta e quindi mi sembra opportuno che sia scritto nel regolamento tutto qui grazie 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 prima di passare alla votazione chiedo scusa faccio presente ecco perché è cambiato l'ordine il consigliere Vincelli non è più in aula così come prendo atto anche dal consigliere Pastorino quindi saranno 21 i voti validi ai fini di questa di questa delibera e di quelle successive in questo caso procediamo alla votazione per alzata di mano perché naturalmente gli emendamenti esulano da quelli che sono da quelli che sono la delibera in corso pertanto chiedo chi è favorevole alla naturalmente all'emendamento per alzata di mano quindi abbiamo 20 voti favorevoli e un astenuto l'emendamento viene approvato passiamo al secondo emendamento sempre presentato da città in comune prima firmataria consigliera Pagani faccio presente che questo è uno di quei emendamenti che non ha parere favorevole di regolarità tecnica prego signora Pagani vale la parola sì veloce noi siamo tutti un po' stremati evidentemente secondo me anche poco lucidi allora noi qua chiedevamo quindi facendo un'aggiunta che venisse assegnato diciamo 0,5 quindi un mezzo punteggio ad ogni ora prevista dal contratto l'assessore ha spiegato che chiaramente questa cosa non è possibile perché i contratti sono o a tempo indeterminato o naturalmente autonomi lì non c'è l'esplicitazione diciamo così delle ore rimane rimane comunque il fatto che c'è una forbice un po' elevata in ogni caso forse quel mezzo punto si è concentrato più su quello perché se è vero che il lavoratore autonomo potenzialmente lavora tantissime ore evidentemente dall'altra parte proprio si chiama autonomo e spero che così lo sia perché se no ci sarebbero problemi perché è anche un'autonomia diciamo di orario credo che però dal punto non è un conflitto tra gli due è proprio lontano anni luce da me questa cosa ma invece per quanto riguarda il lavoro subordinato secondo me c'è differenza tra lavorare 18 ore o lavorarne 25 o lavorarne 29 perché tra 18 e 30 ore si ha lo stesso punteggio e quindi l'idea del mezzo punto andava a colmare diciamo così questo aspetto più che è la questione del lavoro autonomo ho compreso naturalmente il parere tecnico non favorevole in ogni caso volevo sottolineare questo aspetto e questo veramente range temporale differente che ha un valore soprattutto perché della cura se ne occupano soprattutto le donne grazie passiamo alla dichiarazione di voto per questo emendamento città in comune consigliere Pagani grazie presidente naturalmente io comunque insomma sono convinta della bontà quindi nonostante tutto e visto che ho posto esercitarlo come ha spiegato molto bene il segretario generale questo questo diritto anche di fronte a questa discrepanza il voto di città in comune è un voto favorevole di stefano sindaco consigliere Pagani grazie presidente allora anche un piccolo dettaglio tecnico rispetto a questo emendamento nel senso che al punto uno si includono lavori subordinati e lavori autonomi il lavoro autonomo non ha uno specifico monte ore da moltiplicare ovviamente la moltiplicazione del solo contratto da lavoro subordinato penalizza i contratti del lavoro autonomo ovviamente e quindi la norma non consente di avere un monte ore prestabilito da contratto appunto da moltiplicare per tale motivo per noi il voto è contrario reventiamo sesto consigliere Amdi voto favorevole grazie lega salvini premio consigliere Pini ok eccomi grazie presidente la norma non consente di avere un monte ore prestabilito dal contratto quindi per questa ragione direi che il nostro voto sarà assolutamente contrario grazie Forza Italia consigliere Cupini sì questa volta presidente senza tentennamenti il voto è contrario Partito Democratico consigliere Gatti grazie presidente pur comprendendo il parere tecnico che ci è arrivato ma riavvisando comunque che nel regolamento in atto probabilmente fino all'una di questa mattina era presente esattamente questa questa richiesta il nostro voto sarà favorevole quantomeno per diciamo invitare l'amministrazione eventualmente a pensare ad un'altra forma per cui si possa creare una giusta differenza tra diverse ore di lavoro all'interno della stessa tipologia di contratto grazie amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente niente per quanto detto già dal consigliere Pogliaghi e anche poi sottolineato dagli altri non sussiste a nostro giudizio la possibilità di dare un voto favorevole grazie fratelli Italia consigliere Turolla grazie presidente per le motivazioni già espresse dai colleghi in maggioranza anche il nostro voto sarà contrario grazie a tutti procediamo adesso alla votazione per alzata di mano chi favorevole all'approvazione di questo emendamento alzi la mano chi è contrario quindi con 15 voti contrari e 6 favorevoli l'emendamento viene respinto passiamo all'emendamento numero 3 sempre presentato da città in comune prima firmataria capogruppo consigliera Pagani a lei la parola sì grazie presidente questo molto rapido nella presentazione era stata eliminata come punteggio un punto ma insomma come possibilità di punteggio quindi di valutazione la distanza dal luogo di lavoro di oltre 40 km allora a noi sembra che questo sia un criterio che corrisponde anche nel punteggio perché non sono 5 non sono 10 ma è 1 però è un criterio che ha un suo valore perché comunque insomma c'è una differenza tra fare più di 40 km in andata e ritorno insomma anche per aggiungere il proprio lavoro o meno e quindi siccome era presente ed è stato tolto abbiamo pensato di chiederne il ripristino con la stessa valutazione in termini di punteggio grazie passiamo a dichiarazione di voto consigliera Pagani favorevole grazie reinventiamo sesto consigliera Amdi favorevole grazie lega Salvini Premier consigliera Pini il punteggio sopra i 40 km penalizza i genitori che lavorano nei luoghi più vicini ma con un alto tasso di traffico o disagiati in termini di mezzi di trasporto per questa ragione la Lega voterà contro Forza Italia consigliera Cupido grazie presidente voto contrario Partito Democratico consigliera Gatti grazie presidente anticipo che il nostro voto sarà favorevole ma a questo punto viste le dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto mi prendo i due minuti per argomentare la distanza chilometrica è evidentemente solamente un elemento di distinzione basato sui tempi di percorrenza sarebbe più difficile dare un elemento temporale perché è molto più complesso detto questo non ritengo corretto cioè non ritengo corretto non sono d'accordo sull'idea di bocciare questo emettamento per due motivi uno perché il punteggio è esiguo ma riconosce un disagio e poi faccio presente che 40 chilometri non sotto intendono 40 chilometri con il proprio con la propria auto ci sono una esattamente come per fare pochi chilometri uno può prendere l'auto può prendere la metropolitana uno per farne tanti può prendere l'auto o il treno quindi o addirittura altre forme quindi la forma di mezzo di trasporto non può determinare il diritto o l'aumento del punteggio perché è una scelta dettata dalle condizioni di lavoro e prettamente personale o dettata dallo stato del servizio dei treni in Lombardia la distanza invece è un fattore abbastanza oggettivo 40 chilometri non è fare da una parte all'altra di Milano 40 chilometri significa magari lavorare in provincia di Bergamo in provincia di Como sono tanti chilometri sono strade spesso trafficate e sono soprattutto dei tratti ferroviari che accumulano ritardi su ritardi e che quindi sono evidentemente un disagio maggiore a chiunque possa seppur in una città metropolitana molto trafficata lavorare a 5 10 15 chilometri di distanza faccio un appello che temo che avrà nel vuoto a ripensarci anche come ha sottolineato la consigliera Pagani in forma del fatto che questo è un riconoscimento minimo di esclusivamente un punto ma che va comunque a sottolineare una situazione di maggiore disagio rispetto ad altre grazie abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente no niente noi per quanto espresso anche prima dalla consigliera Pini lo dice riteniamo appunto che siano anche altre le variabili di conseguenza il nostro voto non potrà essere favorevole fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente penso che la consigliera Pagani e il consigliere Gatti abbiamo spiegato bene comunque l'emendamento posso essere d'accordo col trovare un criterio però questo dei 40 km a mio parere è modesto parere è un criterio un po' debole perché se uno ha lavoro a 39 km stesso disagio però non ha diritto al punto quindi dalle parti mie si direbbe cornuto e mazziato però grazie voto contrario grazie presidente Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente anche il nostro voto è contrario per i motivi già spiegati bene dai miei colleghi poi per vita vissuta devo dire che in una città densamente trafficata e abitata come sesto il criterio dei chilometri probabilmente non funziona io lavoro a 11 km e ci metto più di un'ora andare con qualsiasi mezzo penso che più di un'ora di andare uno va a Lecco a Como a Bergamo e dove vuole grazie passiamo alla votazione passiamo alla votazione per l'alzata di mano di questo terzo emendamento favorevoli contrari con 15 voti contrari e 6 favorevoli l'emendamento viene respinto passiamo all'emendamento numero 4 prima firmataria consigliera Pagani aspetti che regolo il tempo corretto prego hai la parola sì grazie allora questo emendamento pone una modifica che è anche se non sbaglio insomma il ripristino della condizione precedente nel senso che sostanzialmente ora all'interno del regolamento viene chiesto il pagamento all'atto dell'iscrizione e mentre quello che noi chiediamo è che il pagamento venga effettuato entro due giorni dalla comunicazione di conferma dell'avvenuta escrezione che quindi vuol dire che la tua domanda è stata accettata sostanzialmente e questo mi sembra che sia come dire giusto nel senso che le persone fanno domanda nel momento in cui la domanda viene accettata fanno il pagamento anche perché poi i contesti insomma possono complicarsi all'interno all'interno di queste situazioni perché a volte si procede con una domanda ma poi in realtà la domanda di iscrizione ma poi in realtà non solo l'iscrizione può non essere accettata ma l'iscrizione può essere accettata in un nel caso dei centri ricreativi estivi in un centro che è differente dalla propria richiesta e quindi anche per semplificare perché comunque chi fa la domanda chiaramente ha un interesse però quell'interesse deve corrispondere poi anche alla sua di richiesta mi sembra che ripristinare la condizione per la quale entro due giorni entro due giorni dalla comunicazione di conferma dell'accettazione della domanda debba essere fatto l'acconto mi sembra una richiesta come dire assolutamente sensata quindi l'articolo verrebbe scritto in questo modo entro due giorni dalla comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione va effettuato il pagamento della quota di anticipo il saldo andrà effettuato nei tempi e nei modi che saranno resi noti dagli uffici e comunque prima dell'avvio del servizio quindi la seconda parte dell'articolo insomma del pezzo che modifichiamo non subisce alcuna modifica io credo che abbia un significato a parte a livello organizzativo ma perché a me sembra più semplice ma poi per carità non sono l'esperta in questo caso ma mi sembra che sia anche una richiesta che è pervenuta più volte anche da parte delle famiglie non da singole famiglie ma anche da soggetti appunto che le rappresentano e credo che sia giusto prenderne atto e mi sembra che tutto sommato non stravolga l'intenzione di costruire delle modalità di acconto e di saldo in un tempo che sia compatibile con i servizi con l'inizio del servizio stesso ma anche con le esigenze delle famiglie grazie passiamo a dichiarazione di voto consigliere Pagani città in comune grazie presidente il nostro voto è favorevole reinventiamo sesto consigliere Amdi voto favorevole lega Salvini premier consigliere Pini ho la vaga sensazione che questo creerebbe genererebbe un sacco di problemi in ogni caso non mi risulta che non siano mai stati iscritti che siano stati cacciati dei bambini che sono provenienti da comuni limitrofi in ogni caso il nostro voto sarà contrario Forza Italia consigliere Cupido grazie presidente devo dire che questo emendamento non è che mi abbia molto convinto perché facevo questa riflessione cioè nel momento in cui io acquisto una casa faccio una proposta di acquisto lascio un assegno a titolo di caparra se poi nei due giorni dopo costruisco una casa più bella a fianco io mi sono assunta un rischio per cui rafforzando quello che ci dicevamo all'inizio quindi anche la scelta di un centro estivo richiama una responsabilità genitoriale io credo che un genitore si possa assumere la responsabilità di dire voglio mandarlo a quel centro estivo e voglio iscriverlo e quindi all'atto di iscrizione pago un anticipo poi è vero che all'articolo 26 non è precisato punto 4 cioè non è precisata la modalità cioè che cosa accade nel momento in cui non si riceve la conferma dell'ammissione al servizio ma allora l'emendamento poteva volgere su questo perché sennò diventa tutto fumoso e generico e le norme come dire non possono essere fumose e generiche quindi il nostro voto è favorevole no contrario Partito Democratico consigliere Gatti grazie presidente no beh devo dire che non mi ritrovo molto col paragone bambino ai centri ricreativi estivo e caparra per la casa mi sembrano due cose un po' diverse detto questo sì beh non è proprio la stessa cosa acquistare la casa uno spero nella vita lo faccia meno volte di quanto porta i bambini prego proseguiamo la detenzione di voto grazie sì sì allora anticipo ovviamente che il voto è favorevole pongo una domanda alla consigliera che mi ha preceduto la consigliera Cupido cioè io ritengo che la locuzione entro due giorni dalla comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione sia molto meno lacunosa di la richiesta di pagare senza sapere se sia stati ammessi cioè è evidente che entro due giorni dall'ammissione è più chiaro netto definisce un periodo temporale a fronte di un'ammissione cosa che nel vostro regolamento non c'è grazie abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente non so io personalmente ritengo che sia responsabilizzante il fatto di pagare un acconto alla fase dell'iscrizione se no io adesso no non corro perché poi dopo che fare con principi del foro che mi mi rullano subito cioè sul significato delle parole o degli esempi però nel momento in cui io decido di concorrere per diciamo questa ammissione pago la quota d'ammissione poi dopo se non dovesse essere ammesso ci saranno delle forme di restituzione immagino perciò non vedo la necessità di regolamentare diversamente la cosa il nostro voto sarà contrario Fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente risparmio l'intervento e dico solo che il nostro voto sarà contrario di Stefano sindaco consigliere di recupero grazie presidente dunque il nostro voto come vista di Stefano sarà un voto contrario anche perché andando una motivazione che il mancato pagamento dell'acconto in fase di iscrizione del bambino ai centri estivi genera il rischio del vuoto il pieno ossia che i genitori ritirano i figli dal centro per cui l'ente ha già assunto un numero di educatori necessaria copertura di tutte le settimane generando un danno erariale pertanto il nostro voto sarà contrario passiamo alla votazione per alzata di mano per quanto riguarda il quarto emendamento voti favorevoli va bene lo stesso ci siamo voti contrari qui abbiamo 11 voti validi cui 15 contrari e 6 favorevoli l'emendamento viene respinto passiamo all'emendamento numero 5 primo firmatario consigliere Gatti al quale do la parola per la presentazione dell'emendamento grazie grazie presidente allora questo emendamento è un emendamento congiunto quindi costruito insieme alla capogruppo pagani in realtà credo sia abbastanza semplice è stato un argomento di cui abbiamo discusso in commissione quindi ne vado a dare veloce lettura si passa dal comitato di gestione e organo consultivo dell'amministrazione può essere convocato dall'assessore in caso di necessità una o più volte all'anno al fine di raccogliere esigenze o portare all'attenzione del sindaco bisogni, progetti o problematiche a il comitato di gestione e organo consultivo dell'amministrazione può essere convocato dall'assessore in caso di necessità una o più volte all'anno qui c'è l'unica c'è l'aggiunta e sempre almeno una volta all'anno al fine di raccogliere l'esigenza a portare all'attenzione del sindaco bisogni, progetti e problematiche il senso di questo emendamento in due parole è che i regolamenti sopravvivono alle amministrazioni quindi sebbene io sono certo che l'assessore Apizzocchera come ha detto in commissione essendo attenta al tema ha convocato e continuerà a farlo non è detto che una prossima amministrazione o un prossimo assessore o assessora sia così attenta qualsiasi colore è giusto secondo me che un regolamento inserisca anche questo diciamo obbligo leggero perché comunque è una volta all'anno e a totale discrezione dell'assessorato ma che ci sia inserito perché oggi c'è un assessore che convoca domani potrebbe non esserci e io ritengo che un regolamento sia giusto che prescriva un momento di confronto grazie grazie a lei passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consiglia da Pagani sì grazie presidente il nostro voto è naturalmente favorevole condivido totalmente insomma quello che abbiamo co-costruito ma insomma che ci siamo detti anche durante la commissione ed è penso anche il motivo per il quale voi in questi ultimi mesi siete impegnati a scrivere i regolamenti quello che è scritto ha un valore e prescinde dalle singole volontà soggettive che poi sono volontà politiche non personali chiaramente e quindi ripristinare questa possibilità ma anche che non sia soltanto una possibilità totalmente a discrezione di chiunque governi in quel momento l'assessorato credo che sia una forma di tutela che noi proviamo a scrivere per il futuro per chiunque ci sarà Reventiamo sesto consigliere Amdi voto favorevole Lega Salvini Premier consigliere Pini anche qualora ci trovassimo davanti a un assessore che non poco attento diciamo così c'è sempre il comitato di gestione che può richiedere quindi una una convocazione e un incontro con le parti politiche quindi non vedo la necessità saremo noi i consiglieri eventualmente a sollecitare maggiore attenzione quindi sarà un motivo eventualmente per fare discussione politica quindi per questa ragione la Lega voterà contraria Forza Italia consigliere Cupido questi emendamenti hanno catturato la mia attenzione ma mi sembra tutto sommato leggendo la norma che fosse abbastanza completa nel senso che il fatto che ci sia un coordinatore eletto in un comitato di gestione che ha lui il dovere almeno due volte all'anno di convocare l'intero comitato di gestione mi sembra che sia la prima garanzia espressa per il confronto tra le parti rispetto all'emendamento che proponete tutto sommato lo trovo ridondante nel senso che il tema qui è riconoscere che il comitato è un organo che ha funzione consultiva prima di tutto per cui non ha funzione decisoria credo che ci siano altri ambiti in cui l'assenza di operatività da parte dell'assessore possa essere rilevata confidiamo che tutti gli assessori siano bravi come l'assessore a pizzocchera e quindi il mio voto Partito Democratico Consigliere Gatti Grazie Presidente Sarò sincero sono stupito stupito e stupefatto perché in commissione ne avevamo parlato e mi era sembrato di cogliere un'apertura su questo tema per cui sono sinceramente abbastanza non me l'aspettavo ma avete sorpreso speravo su questi emendamenti di essere sorpreso in tutt'altro senso ma così sarà non posso fare niente se non ribadire quello che ho detto anche durante la discussione i regolamenti hanno quello che si scrive nei regolamenti ha un significato estremamente preciso passare da un regolamento che norma l'obbligatorietà della convocazione una volta e l'avete scritto voi qualche anno fa non noi voi nel 2019 lei no che si è ancora più non era presente alcuni molti suoi colleghi l'hanno scritto ha un regolamento che passa a dire che il il comitato di gestione si può convocare una o più volte è un evidente presa in giro adesso tanto non lo votate quindi passiamo i toni un pochino più spesi è un evidente presa in giro perché si sostituisce ad almeno una a una o più volte come se una o più volte avesse un valore prescrittivo maggiore semplicemente perché c'è scritto più volte ma è un fumo nell'occhio negli occhi è evidente a tutti almeno una significa che una volta è doveroso e tutte le altre è a facoltà una o più volte significa che potete convocarlo zero volte in cinque anni e francamente io ritengo che voi abbiate un ruolo di responsabilità nel dire che un'amministrazione una giunta abbia il dovere di convocare un numero minimo di volte durante il suo mandato il comitato di gestione non quello di scrivere dei regolamenti che sono fumo negli occhi voto favorevole abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà contrario potere d'Italia consigliere Turolla grazie presidente velocemente in risposta a quanto ha detto il consigliere Gatti secondo me appunto il fatto che nel nuovo regolamento ci sia un cambiamento è dovuto alla prassi comunque si è ritenuto che nel corso del precedente regolamento del suo utilizzo quindi il comitato di gestione diciamo convocarlo obbligatoriamente una volta all'anno non aveva un senso o non aveva grande utilità è giusto a mio parere che si faccia una correzione è una miglioria poi la giunta o l'assessore nel caso non ha il dovere di convocare al dovere semmai di rispondere a una richiesta di convocazione quello si però convocare se poi non c'è nulla da dire lo ritengo un po' inutile per questo il nostro voto sarà contrario Stefano Sindaco consigliere Bonatti grazie presidente ma non trovo dover aggiungere molto altro da quanto sia stato già detto dagli altri consiglieri di maggioranza non riteniamo neanche noi come lista di Stefano che sia fondamentale o necessario fare questo tipo di modifica e quindi comunque il nostro voto sarà contrario procediamo alla votazione di questo quinto emendamento per alzata di mano favorevoli 6 contrari con 21 voti validi di cui 15 contrari e 6 favorevoli l'emendamento viene respinto passiamo all'emendamento numero 6 primo firmatario consigliere Gatti al quale passo la parola per la presentazione dell'emendamento grazie presidente allora questo emendamento nasce da quell'idea che ho cercato di esplicitare nel mio intervento nella discussione generale ovvero quella che un regolamento non debba semplicemente normare l'esistente ma debba puntare a come le cose dovrebbero essere cioè dividere tra come le cose sono e come le cose dovrebbero essere e io ritengo tralasciando per un attimo il fatto che le risorse siano ovviamente limitate e quindi poi le risposte si possono dare esclusivamente a una porzione anche esigua dei richiedenti che un regolamento abbia il dovere di fare delle discriminazioni però queste discriminazioni devono essere giuste coerenti e se in un regolamento ci sono decine di criteri che normano una graduatoria io non ritengo corretto noi non riteniamo corretto e per questo abbiamo presentato questo emendamento che il diritto a un determinato tempo possa essere escluso a prescindere e in forma assoluta dallo stato di occupazione dei genitori perché come è scritto allo stato attuale del regolamento seppur la cosa possa risultare improbabile si potrebbe avere la situazione dove una persona una famiglia scusatemi dove solamente uno dei genitori è occupato abbia un punteggio maggiore rispetto a famiglie dove entrambi i genitori siano occupati ma non possa per questo accedere ai tempi pieni o ai tempi prolungati per questo noi proponiamo la riformulazione dell'articolo 11 intitolato al paragrafo quello che inizia in presenza di entrambi i genitori disoccupati nel creare una divisione una differenza tra genitori e tra famiglie con entrambi i genitori disoccupati che come è nel vostro attuale regolamento possano accedere d'ufficio esclusivamente alla frequenza a tempo parziale dunque fino alle 13.30 e invece per le famiglie dove solamente un genitore è disoccupato accedere alla possibilità di scegliere fra il tempo parziale e il tempo pieno questo perché perché sarà poi la graduatoria a determinare l'ordine con cui verranno assegnati i tempi e non semplicemente lo stato di occupazione della famiglia e questo anche perché perché sicuramente in molti casi ci sono delle famiglie dove uno dei due genitori è disoccupato e se gli venisse data esclusivamente la possibilità di accedere al tempo parziale questo potrebbe pregiudicare la sua possibilità di ricercare un nuovo lavoro perché non tutti i lavori sono compatibili con la richiesta di un part time che abbia il suo termine all'1.30 del pomeriggio e non possiamo nemmeno prevedere che in tutte le situazioni ci sia una rete familiare tale per cui all'1.30 qualcuno è in grado di coprire l'uscita dall'asilo del bambino sicuramente la famiglia può essere una rete importante ma in un mondo ideale in un mondo ideale in un mondo reale non è detto che tutti ce l'abbiano quindi secondo noi dare la possibilità di scelta quantomeno alle famiglie con un solo genitore disoccupato è una scelta giusta una differenza giusta che si potrebbe operare sapendo poi che sarà la graduatoria a determinare l'ordine di assegnazione questo secondo noi potrebbe appunto evitare che dei genitori pur potendo accedere al tempo parziale siano poi di fatti comunque impediti nel trovare un lavoro che non è di ritrovare magari un lavoro che purtroppo non è compatibile con gli orari che noi forniamo grazie grazie passiamo alla dichiarazione dichiarazione di voto consigliera Pagani città in comune grazie presidente il nostro voto è assolutamente favorevole è una questione importante quella sollevata da questo emendamento reinventiamo sesto consigliera anche per noi il voto è favorevole Lega Salvini Premier consigliera Pini grazie presidente contrario forza Italia consigliera Cupido grazie presidente rapidissimamente perché inizio a essere stanca iniziamo a essere stanchi tutti ma allora ragioniamo di equip psicopedagogiche per dei ritardi in questo articolo dove c'è scritto salvo che io non mi sia fumata qualcosa di di pesante c'è scritto che le deroghe dice l'equipe psicopedagogica a seguito di colloqui con le famiglie in situazioni di particolare difficoltà può attribuire tempi di frequenza in deroga rispetto ai requisiti posseduti dalle famiglie stesse è il capoverso esattamente successivo a quello che voi in qualche modo chiedete di emendare ora questo che cosa vuol dire vuol dire che abbiamo un regolamento che dice in termini generici consideriamo tre maxi categorie è proprio in questi nuclei familiari dove c'è un tema di disoccupazione quindi verosimilmente un tema di fragilità che forse non è il consiglio comunale o l'assessore alla partita che decide che cosa ne è di quelle famiglie ma c'è un'equipa doc allora dico quando facciamo degli emendamenti però che si legga tutta la norma non i commi spezzettati perché sennò si perde il senso dell'esistenza di quella norma lì quindi non può che essere contrario il voto Partito Democratico Consigliere Gatti Grazie Presidente mi scuso con la consigliera per averla interrotta prima ma ci tengo a far presente due cose adesso farò cercherò di fare opera di convincimento dubito che ci riuscirò un conto è una regola un altro è un'eccezione se io stabilisco delle regole e poi giustamente nel capoverso successivo un'eccezione alla regola non sto cambiando quello che c'è scritto sopra questo deve essere chiaro perché se io scrivo che d'ufficio è vietato richiedere tempi pieni e tempi prolungati e poi nel capoverso sotto dico che breve valutazione dell'equipe psicopedagogica in determinate situazioni si può andare in deroga io sto dicendo che si può andare in deroga solamente per delle situazioni particolari eccezionali ma io non credo che l'occupazione femminile in questo paese sia una cosa eccezionale è quello che sto cercando di dire se un solo genitore è disoccupato e spesso è una donna trovare il modo di aiutarla a rientrare al lavoro non può essere un'eccezione non può essere un tema di disagio sociale quelle sono altre categorie sono categorie basate su il livello di disabilità su delle eventuali note dell'equipe non c'entrano niente con i temi di cui tratta l'emendamento che è il lavoro e il fatto che se io costruisco dei criteri di graduatoria siano i criteri di graduatoria a decidere perché se una famiglia dove un solo genitore parliamo in ideale una famiglia con un solo genitore occupato senza segnalazioni avesse un punteggio più alto di una famiglia dove entrambi i genitori sono occupati non avrebbe lo stesso diritto ad accedere al tempo pieno non al tempo pieno significa che voi state dicendo che la vostra graduatoria vale meno di questa prescrizione e secondo me questa prescrizione scritta così che equipara famiglie che hanno un genitore disoccupato e entrambi è profondamente iniqua e tra l'altro mi permetterete è profondamente iniqua particolarmente nei confronti delle donne grazie abbiamo sesto consigliere Molteni per favore proseguiamo grazie consigliere Molteni abbiamo sesto grazie presidente penso che la consigliera Cupido abbia espresso in maniera sicuramente più brillata di come la potrei esprimere io la preoccupazione che questa variazione potrebbe creare di conseguenza il nostro voto sarà contrario grazie presidente forse sarà l'ora e la stanchezza ma non ho capito una cosa e nel primo emendamento se non sbaglio si faccia riferimento al fatto che il lavoratore autonomo in quanto tale in quanto autonomo potesse prendersi del tempo per accudire i bambini se ho capito bene quindi cioè favorire comunque il lavoratore dipendente a scapito in qualche modo del lavoratore autonomo se ho capito bene poi se no correggetemi però sta di fatto che c'è comunque un problema posto prima dal consigliere Gatti sulla scarsità dei posti nido e io penso che qualora ci sia la possibilità per una famiglia che appunto ha uno o entrambi i genitori disoccupati e quindi la possibilità di prendersi cura del bambino occupare un posto nido a scapito magari di un altro bambino che ha entrambi i genitori occupati non sia corretto ed equo ragazzi non è un contraddittorio quindi dichiarazione di voto per questi motivi il nostro voto sarà contrario grazie procediamo procediamo adesso alla votazione per alzata di mano del ah chiedo scusa chiedo scusa mi sono perso nella Stefano Sindaco con se ne poi gli agli grazie presidente due secondi e solo una cosa premesso che il nostro voto è contrario comunque in questo caso stiamo trattando di un caso ipotetico a bassissima probabilità che quasi nell'impossibilità che complica inutilemente il regolamento a nostro avviso con un rischio di inapplicabilità anzi un rischio che venga mal applicato per eccezioni chi ha un genitore un genitore che non è occupato ha più oggettivamente nella situazione normale ha più disponibilità di tempo e quindi ci sta questo ragionamento grazie grazie chiedo scusa così poi gli agli per prima procediamo alla votazione per l'alzata di mano di questo sesto emendamento favorevoli se è un minazzo favorevole no grazie contrari astenuti no ah lei prima ha votato contrario è favorevole chiedo scusa ok perfetto abbiamo 21 21 voti validi di cui 6 favorevoli e 15 contrari l'emendamento viene respinto passiamo adesso all'emendamento numero 7 presentato da Reventiamo Sesto e Alleanza Verdi Sinistra prima firmataria consiglierà Amdi al quale passo la parola per la presentazione dell'emendamento è evidente che l'emendamento debba essere ritirato perché è stato votato per lo stesso articolo una modifica e quindi è impossibile che possa proseguire io volevo solo spiegare le ragioni noi abbiamo proposto che venisse eliminata quella parte che dava la facoltà o comunque regolamentava la possibilità di dimettere un minore dal dal servizio perché riteniamo che in questo caso la prassi che da sempre le scuole hanno utilizzato di convocare le famiglie di attenzionare il nucleo fosse sufficiente quindi vedere messo per iscritto la facoltà di dimettere un minore per evidente non sua responsabilità ma responsabilità di una famiglia non ci sembrava opportuno però tanto a questo punto segretario lo devo ritirare ok grazie ritiriamo l'emendamento numero 7 passiamo a questo punto all'emendamento numero 8 presentato sempre da Rienventiamo Sesto e Alleanza Verdi Sinistra prima firmataria consigliera Amdi al quale passo la parola per la presentazione dell'emendamento numero 8 grazie 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 dobbiamo usare quello della consigliera Pagani forse non mi viene prenotato può utilizzare il mio nel caso può utilizzare il mio nel caso può utilizzare il mio nel caso funziona funziona solo il mio se vuole usare il mio non ho non mi viene non mi viene ma non mi viene pagati non mi viene pagati funziona? ok grazie scusate 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 allora niente sarò brevissima è molto semplice riguarda lo sesso per cui è stato proposto un emendamento da prima firmataria Mari Pagani noi proponiamo di eliminare al punto 6 dell'articolo 9 che riguarda la parte relativa alle condizioni di aggravio la frase e uno dei turni deve riguardare la fascia temporale oltre le ore 20 ci sembrava troppo vincolante introdurre questo limite perché è vero che i turni devono essere flessibili adesso vado a riprendere già è data indicazione della flessibilità e la non saltuarietà dei turni andare anche a limitarli ulteriormente obbligando la tornazione a essere oltre le ore 20 ci sembrava un limite troppo troppo stringente solo questo grazie passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consigliere Pagani grazie presidente favorevole reinventiamo sesto consigliere Amdi ok favorevole rega salvini premier consigliere Pini grazie presidente contraria forza italia consigliere cupido grazie presidente voto contrario partito democratico consigliere Gatti grazie presidente devo dire che speravo nella consiglia cupido per capire perché della contrariata del voto faccio solo presente una cosa nel dire che il nostro voto è favorevole che evidentemente come ha detto prima il consigliere Pagani magari parliamo di ipotesi remote ma le ipotesi remote se si verificano sono un problema per i regolamenti ammettiamo che una persona abbia un turno tra mezzanotte e le 8 del mattino è prima delle 20 non sarebbe riconosciuta ma è evidente che è un turno di 90 più grazie ammiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente voto contrario fratelli d'italia consigliere Turolla funziona grazie presidente voto contrario Stefano sindaco consigliere Pogliagli grazie presidente voto contrario siamo alla votazione di questo ottavo emendamento per alzata di mano voti favorevoli 6 voti contrari abbiamo 21 voti validi di cui 15 contrari e 6 favorevoli l'emendamento numero 8 viene respinto passiamo all'emendamento numero 9 sempre presentato da reinventiamo sesto alleanza verdi di sinistra prima firmataria consigliere Amdi ricordo che questo è il parere dove c'è l'emendamento dove c'è un parere di regolarità tecnica non favorevole prego consigliere Amdi a lei la parola ok andata allora sarò brevissima va bene il parere sulla irregolarità tecnica volevo però aggiornare i colleghi ho avuto modo di confrontarmi con l'assessore prima di questa seduta perché il nostro intento era quello di dare la possibilità ai nuclei ai nuclei familiari debitori nei confronti dell'amministrazione la possibilità senza che il figlio venisse escluso a priori di rientrare del debito contratto questo per consentire anche all'amministrazione di recuperarlo più agevolmente non trattandosi ancora di grosse cifre avevamo proposto appunto di rientrare delle spese accumulate nell'anno precedente non è possibile perché l'assessore mi ha spiegato che esiste un regolamento che comunque va a normare quelle che sono le dilazioni come anche succede per i debiti contratti per l'edilizia pubblica e quindi io ho provato a dire lo dico ho provato a dire non intestiamoci l'emendamento diamo anche la possibilità che se lo intesti l'amministrazione purché venga data un'apertura alla dilazione di pagamento per i debiti contratti che non comporti l'esclusione del minore niente non c'è stata possibilità però c'è stata un'apertura rispetto l'assessorato ha promesso che sponsorizzerà alle famiglie la possibilità di dilazionare i debiti contratti con l'amministrazione perché dal regolamento invece traspare che non ve ne sia possibilità e che in caso la morosità dovesse permanere il minore dovesse essere escluso grazie grazie passiamo alla dichiarazione di voto città in comune così da pagare grazie grazie presidente allora sull'emendamento città in comune esprime un voto di assenzione sull'impegno invece che l'assessora si è presa insomma questa sera rispetto alle riflessioni che sono nati su questo emendamento siamo sicuramente favorevoli reventiamo sesto consigliere Amdi favorevole rega salvini premier consigliere Pini direi questo punto che è superato quindi il nostro voto sarebbe stato assolutamente contrario comunque mi sembra assolutamente buona l'idea dell'assessore pizzocchera ma anche logica direi stiamo da anni cercando di recuperare quanto più possibile dalle persone morose il problema che si fa è estremamente fatica comunque il nostro voto è contrario Forza Italia a consigliere Cupido se posso soltanto brevemente vorrei potermi esprimere senza avere colleghi che dicano anche meno con fare sprezzante perché in quest'aula credo di aver sempre dato esempio di buona educazione quindi decido io la verve che intendo mettere e impiegare negli interventi che faccio posso questo io non mi sono trovata totalmente in disaccordo con questo emendamento però secondo me era meritevole e sicuramente l'assessore sarà capace di soddisfare le richieste fatte oggi secondo me era meritevole di un approfondimento perché rispetto alla possibilità di dilazionare pagamenti per morosità o per debiti nei confronti dell'amministrazione credo sempre sia opportuno e questo perché succede anche in altri ambiti vabbè io appunto me ne occupo anche abbastanza quotidianamente di debiti nei confronti dello Stato di provare le ragioni per cui uno di documentare la morosità di documentare le ragioni per cui uno intende avvalersi di una rateizzazione per cui sicuramente mi sembra che non passi la forma quindi il voto non può che essere contrario pro futuro credo che sia un tema da prendere in considerazione però certamente integrato perché così rimane secondo me un pochino fumoso anche sulla rateizzazione cioè perché distinguiamo perché tre rate non dodici perché cinque non sette quindi voto contrario e per il futuro sicuramente favorevole Partito Democratico Consigliere Gatti Grazie Presidente pur condividendo lo spirito e l'idea alla base di questo emendamento il nostro voto è di astensione visto il parere negativo che avvede un errore nella formulazione non posso che fare mio l'appello ad andare oltre a questi vizi di forma e provare nel prossimo futuro a pensare su come fare dei passi in avanti per far sì che sia possibile una rateizzazione per aiutare le famiglie che magari sono sopraggiunte difficoltà come è capitato spesso in questi anni a rientrare del debito senza per questo vedersi necessariamente non per forza private del posto del posto nido grazie abbiamo sesto Consigliere Molteni grazie Presidente allora per quanto detto fino adesso non può essere un voto favorevole proprio per quanto spiegato sottolineo quello che tutti hanno sottolineato ritengo che sia estremamente importante l'impegno che l'assessore ha preso e di lavorare in tal senso per dare proprio la possibilità sia del recupero economico che in parte ma più che altro è dare anche la possibilità alla gente di poter usufruire di questo servizio le due cose vanno di pari passo a mio giudizio non è solo un discorso economico è proprio anche dare la possibilità alla gente perché se la gente riesce magari poi anche è un gatto che si morde la coda se la gente riesce a occupare meglio il proprio tempo riesce magari anche a onorare i debiti che ha per cui in questo senso non posso che essere d'accordo con quanto detto dall'assessore però il voto per quello che ho detto prima è contrario grazie fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente voto contrario Stefano Sindaco consigliere Bonato ci siamo? sì grazie presidente la premessa è che non deve passare il messaggio che se non si pagano i servizi del comune poi comunque se ne possa in ugual misura accedere comunque entrando nel merito c'è una cosa di questo emendamento che non mi convince cioè si darebbe facoltà agli uffici di decidere se inserire o non inserire queste persone all'interno degli esili ma al fine poi uno si chiede ma quali uffici poi dovrò prendere questo tipo di decisione ragione per cui tengo questo emendamento è abbastanza confuso e il voto della nostra lista è contrario ok passiamo adesso alla votazione di questo nono emendamento per alzata di mano voti favorevoli astenuti astenuti contrari abbiamo 11 pardon 21 voti validi di cui sono 15 contrari 5 favorevoli no pardon 1 favorevole e 5 astenuti chiedo scusa il nono emendamento viene respinto sì sì un favorevole 5 astenuti e 15 contrari l'emendamento viene respinto dichiaro chiusa la discussione generale passo la parola all'assessore Pizzoccara per una replica grazie presidente sarò velocissima allora prendo i punti che mi sono segnata la penuria di posti nido in termini nazionali come città rispondiamo bene però sicuramente aumentare i posti nido o meglio scorrere le graduatorie è sempre stato un obiettivo di questa amministrazione dell'amministrazione precedente che aveva rintrodotto gli accreditamenti quindi nidi privati accreditati proprio per aumentare i posti con voucher comunali e quindi scorrere le graduatorie in questo rispondo anche ad un intervento che era stato fatto per una delibera precedente sono previsti due nidi nelle future aree che verranno riqualificate uno privato che quindi potrà essere voucherizzato cioè accreditato e quindi potremo scorrere le graduatorie e uno diciamo più in profondità nelle aree di pubblico quindi anche su questo tema questa amministrazione si è impegnata nella precedente mandato e si impegna anche in questo per quanto riguarda invece la diciamo lo slittamento dell'educatore di piccoli e grandi su i nidi perché sono avvenute siamo stati informati di cinque gravidanze e la sostituzione di cinque gravidanze non riesce ad avvenire d'amblè cioè in una quindi abbiamo mantenuto aperto il servizio di piccoli e grandi con una turnazione un po' diversa dei due educatori diciamo deputati a piccoli e grandi piccoli e grandi sapete che è un po' itinerante perché sta aspettando il nuovo diciamo la nuova area dedicata a piccoli e grandi che verrà disponibile per metà dicembre quindi di fatto abbiamo insomma un po' approfittato se così si può dire della della professionalità di un educatore per andare a coprire appunto il posto vacante della gravidanza momentaneamente ma in queste ore in questi giorni stiamo già risolvendo comunque diciamo che per fine novembre quindi insomma per i primi di dicembre dovremmo chiudere la mini emergenza su questi nidi per quanto riguarda invece l'acconto delle procedure del CRE allora l'acconto richiesto all'atto dell'iscrizione è perché l'ente comunale si impegna con l'ente gestore per un determinato numero che avviene nel momento dell'iscrizione l'ente gestore quindi inizia ad organizzare i tempi dei centri recreativi estivi e ad assumere o comunque ad impegnare gli educatori dell'ente gestore quindi questo è il motivo per cui abbiamo necessità di avere almeno scusate grazie se no non riesco a stringere ok abbiamo bisogno quindi di avere un numero che sia un numero certo e chiedendo questa è una discussione annosa che abbiamo avuto ancora prima che io fossi voglio dire nominata dal sindaco di Stefano Assessore e oggettivamente si è sempre rischiato il fuoto per pieno che vuol dire non andare neanche alla copertura di metà di quello che il servizio poi in realtà è un costo ed essendo un servizio non lea è importante avere una determinata copertura sul servizio anche per tenere poi in equilibrio tutto i servizi socioeducativi per quanto riguarda l'occupazione dei genitori quindi genitori non occupati non c'è un'iniquità a mio avviso perché si dice in presenza di uno o più o entrambi genitori disoccupati verrà imposto dagli uffici competenti il tempo di frequenza parziale quindi ipotizziamo che arriviamo a scorrere la graduatoria e riusciamo ad arrivare anche ai genitori inoccupati gli verrà proposto il tempo parziale ma c'è anche scritto che qualora i tempi prolungati e i tempi pieni quindi ambedue fossero disponibili potrebbero essere quindi andare ad occupare anche i tempi prolungati e pieni quindi poniamo che i genitori ambedue occupati numerosi genitori ambedue occupati scegliessero il tempo parziale perché ad esempio preferiscono il pomeriggio che il bambino sia con i nonni me lo sto immaginando ok a quel punto scorrendo la graduatoria arriviamo ai figli dei genitori non occupati o uno solo occupato c'è ancora disponibilità di tempi prolungati e di tempi pieni e quindi gli verrà proposto ma se non c'è nemmeno questa disponibilità gli viene imposto il tempo frequenza parziale se in graduatoria dovessero trovarsi prima dei genitori ambedue occupati per qualche motivo ora in realtà di casistiche non me ne vengono in mente e non hanno una fragilità familiare tale che l'equip psicopedagogica come giustamente diceva la consigliere la consigliera Cupido non ha nessuna evidenza allora in quella situazione andrebbero a togliere la possibilità a bambini con ambedue i genitori occupati di poter accedere a tempi prolungati e tempi pieni quindi non vedo un'iniquità ma più che altro una linearità dell'accesso per quanto riguarda invece qui è l'ultimo la morosità dunque per quanto riguarda la morosità appunto come ho detto c'è proprio un regolamento e quindi sicuramente con gli uffici inizieremo a pensare come è stato fatto per agenzia case quindi sulle morosità incolpevoli sulle case comunali per dei piani di rientro possiamo immaginarci anche un'applicazione del regolamento comunale anche in quelle casistiche perché attualmente non è che non avviene il recupero il recupero crediti avviene però andando ad Abaco e mette comunque un anno e mezzo per andare ad Abaco dove a quel punto il debito rimane ma non è più in capo all'ente e quindi in realtà non verrebbero esclusi in quel caso i bambini invece un recupero con una dilazione del dobbiamo organizzare anche gli uffici per un'attività di questo tipo e quindi andare in linea con il regolamento attualmente diciamo è possibile non viene credo non venga non venga attuato perché non c'è stata mai richiesta sicuramente l'incipit della consigliera Cupito sulla questione della verifica della motivazione dell'amorosità può essere interessante perché sulla casa in realtà avvene il piano di rientro per lo più quando c'è incolpevolezza anche se ci sono stati casi in realtà insomma di colpevolezza ma comunque di buona volontà da parte della famiglia di rientrare del debito credo che questo debba essere premiato a prescindere grazie grazie assessore passiamo adesso a questo punto alla dichiarazione del voto della proposta di delibera così come è mandata appunto con l'approvazione del emendamento numero uno città in comune consiglia pagani sì grazie presidente allora avevamo sottolineato una serie di fragilità legate agli emendamenti sinceramente ho visto poco un tentativo come dire di conciliare rispetto a queste fragilità città in comune esprime un voto contrario reventiamo sesto consigliere amdi anche per noi il voto contrario lega salvini premier consigliere pini grazie presidente favorevoli forza italia consigliere cupido grazie presidente voto favorevole partito democratico consigliere gatti grazie presidente allora il nostro voto è contrario ma ci tengo a far presente che questa non è una contrarietà con cui noi ci siamo presentati in aula questa sera questa è una contrarietà che è maturata dalla discussione avuta sugli emendamenti credo sia pacifico ed evidente a tutti che al netto delle opinioni diverse quando si presentano questo alto numero di emendamenti o si confirmano questo alto numero di emendamenti c'è la volontà di costruire qualcosa che possa essere condiviso non c'è stato modo di farlo devo dire che il mio disappunto arriva anche da un voto su un paio di emendamenti che trovo dissonante con la discussione che c'è stata in commissione ma probabilmente sono io che non ho avuto il polso della situazione in commissione ma ritengo che ci possano essere dei messaggi contrastanti tra questi due momenti ci tengo a precisare una cosa anche in base alla risposta che ha appena dato l'assessora purtroppo ho due minuti quindi non potrò entrare nel dettaglio ci tengo solamente a far presente ancora una volta che per quella che è la nostra visione che non è la vostra visione lo capisco ma non ci trovo assolutamente nulla di strano anzi forse è giusto così se una persona anche solamente a livello ipotetico secondo la graduatoria che avete costruito e che è basata per lo più su il lavoro dovesse avere un punteggio più alto rispetto a un'altra situazione per me è iniquo che non abbia diritto di scelta e soprattutto è iniquo che vengano paragonate una situazione di parziale disoccupazione e una situazione di totale disoccupazione e sono in secondo regolamento che vi ho andato ad approvare la stessa situazione e per me è chiaro ed evidente che non sia così però ribadisco non siamo d'accordo qui forse si vede una differenza a quanto meno sul piano teorico vedo che è diventato rosso quindi vado a chiudere tra il percepire gli asili come lo strumento per fare conciliazione tra chi già lavora e la cura del bambino o della bambina e anche come uno strumento per favorire il reinserimento sul lavoro che era esattamente il punto del nostro emendamento anche se avesse toccato una percentuale ipotetica minima dei casi secondo me sarebbe stato giusto averlo grazie amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà favorevole fratelli d'italia consigliere Turolo grazie presidente anche il nostro voto favorevole di stefano sindaco consigliere Poglia grazie presidente anche il nostro voto sarà favorevole devo dire rispetto anche a questi ultimi commenti che mettere in luce e appesantire ancora questo discorso su dei particolari totalmente improbabili vuol dire non avere grandissima idea della possibilità di modellizzazione di un regolamento che possa essere poi efficace sul territorio per tutti grazie possiamo passare adesso alla votazione torniamo nella votazione elettronica appunto di questa delibera numero 8 apro la votazione grazie grazie 1 voti validi, di cui 15 favorevoli e 6 contrari. La delibera viene approvata e diventa esecutiva. Passiamo, chiedo scusa, programmo la penultima delibera. Passiamo alla delibera di cui è il punto 9 all'ordine del giorno, approvazione e regolamento dei servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni. Passo la parola all'assessore Pizzocchera per la presentazione. Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 Apro la discussione facendo presente che seguirà poi un emendamento che è stato presentato a firma del sindaco Di Stefano. Passo la parola alla consigliera Pagani. Prego. Grazie a tutti. 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 chiusura, ci è stato spiegato che avrà durata un anno perché oltre ad essere un regolamento ex novo è un regolamento che viene considerato, almeno io uso le parole che interpreto di quella serata, sperimentale, nel senso che il regolamento si è costruito su delle prassi consolidate, queste prassi consolidate però abbiamo un anno sostanzialmente per verificarle e quindi in qualche modo ritarare, immagino dal punto di vista della miglioria, il regolamento. L'altro aspetto che è stato sottolineato è che questo regolamento ha avuto un confronto con alcune realtà, siccome il regolamento dei servizi sociali, scusate non l'ho detto ma l'aveva spiegato bene l'assessora e che quindi fa riferimento ovviamente a tutta una serie di persone e soggetti con fragilità, allora c'è stato un confronto con alcune realtà che ovviamente si occupano del tema, l'assessore ha citato sia l'Anfas che la Leda, che sono due realtà, se non mi sbaglio, che sono presenti sia a livello nazionale che regionale, ovviamente anche nei territori, ma non mi sembra che siano presenti all'interno del territorio di Sesso San Giovanni, questo per dire che al netto del fatto che, come ho dichiarato in Commissione, che è molto difficile validare e convalidare un regolamento così complesso nel gelo di un tempo brevissimo, perché mi immagino e lo ribadisco che gli uffici ci abbiano messo molto di più a scriverlo con la loro competenza, figuriamoci a vagliarlo noi che siamo dall'altra parte. Però ecco, una delle cose che io reputo, come dire, poco azzeccate, ormai a quest'ora le parole vanno e vengono, è forse che non ci sia stato anche un confronto con le realtà del territorio, non mi sembra che ci sia stato un confronto per esempio con le associazioni del piano di zona, ma corrigetemi se sbaglio, perché sto andando a memoria, che però mi era sembrato un elemento abbastanza aderimente. Allora, secondo me è importante a questo punto che questo anno che abbiamo davanti e di verifica sia un anno anche per rivedere e coinvolgerlo e coinvolgere anche le associazioni, perché se parliamo di prassi consolidate, mi viene da dire che chi meglio degli utenti e dei soggetti che sono, come dire, il fine di quelle prassi consolidate, non possono, non debbano dare un contributo. E rispetto, diciamo così, alla valutazione del regolamento in termini, diciamo che esprimerei in termini di contrarietà rispetto a come sono state organizzate, avendo il tempo, come si diceva prima, per provare a verificare e a implementare, anche attraverso dei lavori di commissione, si è detto, nei quali verranno, spero, coinvolti i soggetti interessati nel territorio. Un'altra specifica che secondo me era abbastanza confusa e che mi è stata segnalata, non essendo appunto io un'esperta, la dicitura che riguarda il trasporto sociale all'interno del regolamento. Intanto credo che si faccia riferimento ad un obbligo scolastico, ma l'obbligatorietà scolastica riguarda fino ai 16 anni e a me sembra che questo non è vincolato ai 16 anni. Sono servizi gratuiti, non serve l'ISE, anche su questo c'è un po' di confusione, che forse è la rappresentazione plastica di un po' di confusione concreta, perché qualche genitore mi ha detto che in alcuni casi gli ISE sono stati chiesti, anche quando non erano necessari per alcuni servizi. Quindi forse chiarire, non lo faremo domani, ma abbiamo detto che abbiamo anche, ci prendiamo anche nel tempo per raffinare al meglio, secondo me questo aspetto va considerato, va esplicitato in maniera, questi aspetti vanno esplicitati in maniera più chiara. Ho detto direi una buona parte di quello che volevo dire, visto il tempo e vista anche la stancazza non mi dilungo ulteriormente, ho già espresso il fatto che il nostro voto come città in comune sarà un voto di contrarietà. Mi è venuto in mente anche, ecco, che una cosa che volevo sottolineare è che il fatto di coinvolgere, però mi correga se storai nella replica se sbaglio, però il fatto di coinvolgere le realtà che hanno a che fare con questo, visto anche come sono andate le cose, cioè secondo me può evitare anche eventuali futuri ricorsi. Quindi, come dire, sono anche risorse che in qualche modo possiamo o ci permettono di ottimizzare rispetto ai tempi. Grazie. Grazie a lei. Qualcun altro deve intervenire? Prego, consiglia Namdi, ha le la parola. Grazie. Cercherò di essere veramente breve. Più o meno vale la stessa cosa anche per noi, nel senso che è vero che il regolamento, come è stato detto, sarà sperimentale, quindi ci auguriamo poi di avere un confronto nelle fasi successive e poi tra un anno. Quello tutto rispetto alla disabilità. Noi a Sesto, a parte tutti i ricorsi vinti dalle famiglie per le ore che non erano coperte, le situazioni dei disabili che lamentano la mancata assistenza, c'è una copertura del 10% sui centri diurni, non c'è stata attenzione e coinvolgimento rispetto a questi soggetti. Ricordiamo che l'istituzione della figura del disability manager, che forse sarebbe stata utile anche nella stesura di questo regolamento, è ferma ad una risposta, ad un'interrogazione presentata nel 2019 dal Movimento 5 Stelle, quindi è una situazione piuttosto critica rispetto alla disabilità. Come anche è brutto leggere che dobbiamo considerare, se le risorse finanziarie a disposizione non consentono di far fronte a tutti i bisogni, ecco è brutto leggerlo all'interno di un'amministrazione che invece vanta di avere un bilancio positivo. Fare riferimento a queste continue liste d'attesa, anche la mobilità rispetto ai servizi scolastici, anche su quella le famiglie lamentano di non essere, di non avere la copertura adeguata. Ecco, quindi anche per questo, per tutti questi motivi, anche per noi sarà un voto contrario. Grazie, altri interventi in aula? A questo punto passiamo alla presentazione dell'emendamento. Passo la parola all'assessore Pizzocca per la presentazione dell'emendamento, grazie. Grazie. Allora sì, l'emendamento è per andare a correggere degli meri errori materiali, ad esempio all'articolo, diciamo alla pagina 15 all'articolo 16, ne abbiamo un esempio, sono rimaste delle diciture che automaticamente erano entrate. Così all'articolo 14, l'articolo 16 e così via in altri, come dice appunto l'emendamento. Sono stati meri errori di battitura materiali. Grazie, assessore. Passiamo alla dichiarazione di voto dell'emendamento. Eventualmente siete d'accordo di andare in votazione diretta o facciamo la dichiarazione di voto? Sull'emendamento, eh? Allora, apro la... Anzi, andiamo con la votazione per alzata di mano. Sull'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 21 voti validi, di cui abbiamo 15 favorevoli e 6 astenuti. L'emendamento viene approvato. A questo punto dichiaro chiusa la discussione generale. C'è eventualmente qualche replica. Passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto della proposta di delibera, appunto, in discussione. Città in comune, consigliera Pagani. Sì, grazie, Presidente. Come anticipato nella discussione, il nostro voto è un voto contrario. Reinventiamo sesto, consigliera... Voto contrario. Lega Salvini Premier, consigliera Pini. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Forza Italia, consigliera Cupido. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Partito Democratico, consigliere Maderloni. Sì, allora, come Partito Democratico voteremo contro. Mi permetta solo un inciso, visto che, visto allora e visto tutta la discussione sulla Capigruppo, rispetto ai temi in oggetto. Credo che anche la complessità del tema meritava un orario migliore. Grazie. Amiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Partito Italia, consigliere Turolla. Grazie, Presidente. Anche noi voto favorevole. Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie, Presidente. Voto favorevole anche per noi. Grazie a tutti. Possiamo passare adesso alla votazione in versione elettronica. Apro la votazione. Grazie. Sì. Adesso ne teniamo conto... Ci mancherebbe. Manca, sì. Come lo consiglio. Adesso, se avete... Non è il contrario, questo è il Bonato, sta rientrando dal... Con calma, senza farsi male. Grazie, Presidente. Abbiamo 21 voti validi, di cui sono 15 favorevoli e 6 contrari. No. 6 contrari. Consigliere Ammirazzo, dico solo per metterlo a verbale, ha eronamente dichiarato astensione, in realtà il suo è un voto contrario. La delibera viene approvata, procediamo per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. 21 voti validi, 15 favorevoli, 6 contrari. La delibera è immediatamente esecutiva. Passiamo, chiedo scusa, passiamo all'ultima... Passiamo all'ultima delibera, all'ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del verbale della seduta consigliare del giorno 26.10.2023. chiedo se ci sono, se non so che apro la discussione, chiedo se ci sono osservazioni. Consigliere Cagliani? Allora, Consigliere Cagliani, a lei la parola la vedo prima in ordine, prego. No, ma solo una fesseria. So che avrei dovuto avvisare prima perché il verbale lo trovo addirittura il giorno dopo, due giorni dopo. Quindi, no, però, siccome c'è scritto voi, così avete deciso di battere via voci sovrapposte con l'acqua sporca. Cioè, così avete deciso di buttare via il bambino con l'acqua sporca. La frase era questa, ecco, siccome non si capisce niente... Chiedo scusa, un attimo di pazienza che terminiamo, passo la parola al Consigliere Gatti. Grazie, Presidente. No, semplicemente perché io faccio la stessa domanda da due consigli, questo è il terzo, e chiedo una risposta. Cioè, semplicemente rispondetemi, sì, no, ma rispondetemi, rifaccio la domanda. Ne faccio carico. Grazie, in qualsiasi modo, anche messaggino fra poco, però, grazie. Ah, metto a verbale la domanda? Dato che il sistema permette le chat private tra i consiglieri durante il Consiglio, chiedo se queste siano verbalizzate oppure no. Grazie. Grazie a te, un minuto di pazienza, apro la votazione. Potete votare. Abbiamo 21 voti validi, 21 favorevoli, il verbale viene approvato. Come concordato, sono la 1,50, ringrazio tutti voi, ringrazio la regia e tutti i dipendenti comunali e dichiaro chiuso il Consiglio comunale.